Alessio Simoncini di Arci Livorno Si prepara Nicola Curtarelli e Giovanna Maciariello per favore, grazie Eccoci, per primo insomma è sempre un po' difficile rompere il ghiaccio Poi l'emozione è tanta, non lo nascondo, quindi perdonatemi insomma la voce sarà un po' tremante Allora, cari compagni e cari compagni, parto questo intervento da riflessione sul nostro territorio, quello di Livorno In particolare sulla dislocazione dei nostri circoli Siamo presenti in città in tutti i quartieri, da quelli più vicini al centro a quelli più periferici Siamo in tutti gli spazi, anche in quelli in cui nessun altro sta Noi ci siamo, come presidio e come elemento di tenuta sociale In particolare penso all'attività che come comitato abbiamo portato e portiamo nel quartiere di Shanghai Un quartiere complesso e ricco di contraddizioni, con una forte tradizione popolare Un quartiere che come tanti ha visto un graduale allontanamento di istituzioni, dei partiti e anche di alcune associazioni Molti se ne sono andati, noi no Noi siamo rimasti e abbiamo rilanciato la nostra attività Abbiamo aperto sportelli di ascolto, di supporto alle pratiche amministrative Portiamo attività culturali, un dopo scuola, il circo sociale, l'animazione per i bambini Abbiamo costruito anche un grande festival che ha portato musica, teatro e dibattiti Costruito con altre realtà del territorio Il festival geometrie e esistenziali, che vogliamo rendere un incontro annuale e che vogliamo far crescere sempre di più Siamo sul territorio insomma con le nostre attività, con i nostri valori e con le nostre modalità di lavoro Al fianco della comunità e sentendo gli interventi di questi giorni Le attività insomma sono condivise da tante e tante altre realtà in tutto il territorio Quindi dobbiamo tutte e tutti impegnarci per rafforzare questi presidi, questi spazi, queste opportunità Perché la difesa della democrazia passa anche attraverso la difesa e il rafforzamento del processo democratico All'interno dei nostri spazi e dalla nostra capacità di unire soggettività e sensibilità diverse Di preservare e tramandare valori Siamo tanti e tanti, una moltitudine, un corpo sociale resistente e vivo Anche in un momento di difficoltà E anche in un momento di difficoltà come questo continuiamo a lavorare per una cultura che sia per tutte e tutti Una cultura come strumento di partecipazione, di contaminazione e di emancipazione Dobbiamo avere chiaro che la nostra capacità di organizzarci internamente Le nostre modalità di lavoro e i processi attraverso i quali prendiamo le decisioni Devo rispecchiare i modelli che proponiamo verso l'esterno Se vogliamo stimolare la partecipazione dobbiamo assicurarci che sia consapevole e cosciente In questo senso la formazione della nuova classe dirigente deve sì fondarsi su una forte base teorica Ma non può prescindere dalla classe quotidiana Le nostre capacità di organizzazione interna, di confronto, di partecipazione Sono i migliori strumenti che abbiamo per l'attualità dei nostri valori Dobbiamo stare fianco a fianco i nostri soci, i nostri volontari, i nostri militanti E fare diventare classe dirigente Dobbiamo essere brave e bravi a saper comunicare Comprendere che la comunicazione deve essere uno strumento della lotta politica Uno strumento per diffondere i nostri valori, certo Ma anche un linguaggio per costruire un'associazione nella quale chiunque si sente il benvenuto o la benvenuta Siamo e dobbiamo continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità che abitiamo e per la storia dei diritti Dobbiamo spalancare le porte a tutte e tutti Costruire ponti in un'epoca di muri Dobbiamo essere pronti ad aprire non solo le nostre porte Ma anche quelle porte che spesso restano chiuse Penso all'impegno che dobbiamo avere rispetto al tema delle carceri Nel 2022 si sono tolte la vita in carcere 78 persone Un dato inquietante che non è mai stato così alto E che ci deve far riflettere sull'attuale situazione del nostro sistema penitenziario In questo il ruolo che la nostra associazione può svolgere Oltre al già fondamentale lavoro che molti comitati svolgono dentro e fuori dalle carceri E' quello di farsi promotrici di una campagna Che porti alla nomina dei garanti per i diritti dei detenuti In ogni comune e in ogni territorio dove siamo presenti Siamo costruttori di popolo e di comunità Alla solitudine opponiamo la socialità All'individualismo opponiamo la collettività Al profitto, all'autofinanziamento e al mutualismo Al militarismo, alla pace All'odio, alla cura e all'accoglienza Non dobbiamo stancarci di dire che l'alternativa c'è, esiste E la splendida manifestazione del 5 novembre l'ha dimostrato Roma deve rappresentare un punto di partenza Per iniziare a lavorare sulla rete e le alleanze che vogliamo costruire nella società Per portare i nostri temi con forza nelle piazze e nel dibattito politico Viviamo immersi in un sistema socio-economico che vuole normalizzare le disuguaglianze Lo sfruttamento, il razzismo, l'omolesmo transfobia e la pura dell'altro Che vuole presentarsi come naturale, come l'unico sistema possibile per quanto imperfetto Ebbene dircelo, la disuguaglianza, il totale disperso per l'ambiente Il nazionalismo più violento, la precarietà esistenziale, la guerra Non sono strutture del capitalismo, sono il capitalismo Sono la manifestazione più evidente di un sistema basato sul consumo e sullo sfruttamento Sul dominio dei pochi e sui molti Sulla superità della violenza e sul dialogo Un sistema che semina rassegnazione Perché la rassegnazione e il mobilismo È l'arma principale per la manutenzione di questo status quo così iniquo Per questo la nostra capacità di cambiare il reale Passa anche dalla capacità che abbiamo di immaginarci una realtà alternativa In questo mondo desertificato dal realismo capitalista Per uscire da un incubo non basta svegliarsi Bisogna sognare più veloci, certo Ma soprattutto dobbiamo sognare insieme Perché un sogno, quando è collettivo, ha più possibilità di diventare reale Buon lavoro a tutti e a tutti, grazie Nicola Curtarelli, Arci Caserta Poi si prepara Arci Piacenza Ma noi siamo storicamente difficilmente collocabili Di solito pensiamo che siate lombardi Tra l'altro abbiamo appena chiesto ospitalità alla Lombardia Perché eravamo in riunione con Emilia Romagna Non ci vuole Adesso siamo a Caserta Ma abbiamo una crisi di identità Faremo degli scambi alla pari Perenne Comunque io sarò brevissimo come al solito Tra l'altro dopo tutti questi interventi di questi giorni Di una caratura, di una portata incredibile Tra l'altro ringrazio Arci veramente per questo appuntamento È il mio primo congresso Ed è veramente molto 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 bello Istruttivo, sto imparando un sacco di cose E non è scontato Soprattutto per comitati piccoli come il nostro È un'esperienza molto bella Quindi grazie Tra l'altro ieri Grillini citava l'uguaglianza E ecco per uno come me Essere su un palco dove abbiamo parlato Persone appunto come Grillini È veramente un'emozione Allora Piacenza Appunto vengo da Piacenza Quindi Emilia Romagna E dopo tutti questi interventi Voi direte cosa può dire una persona Che viene da Piacenza Soprattutto dopo gli anni che abbiamo passato Proprio rispetto a questo Una cosa la posso dire Infatti sono qua per dare anche a quelli Che sono i comitati un po' più piccini come il nostro Un segno di speranza Non che ce ne sia bisogno Insomma penso faccia sempre piacere Ma Piacenza a tutta Italia In tutto il mondo Insomma sappiamo cosa è successo Il Covid però da noi ha battuto forte Veramente molto forte E ovviamente anche tutto l'ambito culturale Associativo, aggregativo Ne ha risentito Se pensiamo che appunto aggregazione È la parola chiave del mondo di Arci E la cosa che non si poteva fare Era aggregarsi Sappiamo bene che Insomma non ce la siamo passata bene Però in controtendenza Un po' con il dato nazionale Ma noi a Piacenza siamo sempre un po' Basti a incontrare A volte questa cosa vi incomoda Sono nati sul territorio piacentino In particolare in città Non si poteva far peggio Perché non ne avevamo nemmeno uno Ma sono nati due circoli Proprio progettati Cresciuti E poi aperti Durante la pandemia Tra l'altro Con circa 2000 attesseramenti Il primo Il secondo a 1300 Già in corso d'opera Quindi rappresentando circa il 2% Della nostra popolazione Che in quel momento tra l'altro Era governata E sottolineo Era governata Dal centro-destra Quindi da un'aggiunta Imbarazzante A motore leghista E quindi insomma Doppia soddisfazione Perché abbiamo Battuto sia Questo substrato politico Che il covid Con quelle che sono due esperienze Che tuttora stanno trainando La cultura L'altra sorpresa La cultura piacentina L'altra sorpresa È stata La partecipazione giovanile Sentiamo spesso dire Che i giovani non partecipano Che i giovani non sono presenti Che i giovani sono a casa Che i giovani sono su Netflix In realtà Abbiamo notato Che la stragrande maggioranza Dei nostri tesserati Sono appunto giovani E questo è un'altra cosa Che ci ha fatto piacere Non pensavamo Non era inizialmente Principalmente rivolto a loro Il progetto E invece Hanno risposto in questo modo Perché? Perché i giovani Stanno ritrovando Il piacere dei contenuti E stanno lottando Contro l'individualismo Stanno veramente Riscoprendo il piacere Di trovarsi Probabilmente anche Nel dopo Nel post-covid E noi secondo me Abbiamo il dovere Di dare loro Questa risposta Che appunto La partecipazione Che è quello che I ragazzi cercano I social Appunto Le piattaforme come Netflix Ci provano A rendersi interattive Ma noi Secondo me Su questa parola Dobbiamo puntare tutto Perché è interattivo Come un nostro circolo Interattiva come la nostra rete Insomma Ci sarà poco da fare È una battaglia Che secondo me Abbiamo Abbiamo già vinto E lo dimostrano Appunto i risultati E quello Quello che sto dicendo Quindi L'unica cosa L'unico appunto Che molti ragazzi Non sapevano Scusate Parlo molto dei giovani Perché forse È l'unica cosa Su cui si è battuto Un po' poco il chiodo In questi giorni E francamente Mi aspettavo di vederne Quassù anche qualcuno Di più Soprattutto perché Vogliamo sognare veloce I giovani Non sapevano In gran parte Che cos'era Un circolo Questo ovviamente È un dato piacentino Quindi Non è riportabile A livello nazionale Ma abbiamo dovuto Spiegare a tantissimi ragazzi Che cos'era la tessera Che gli stavamo facendo Che stavano facendo parte Di un progetto Che anzi Potevano partecipare Attivamente Ed è stata appunto La cosa che è piaciuta di più Quindi Teniamoci su questo allerta Perché soprattutto Su molti territori Come il nostro Non è più così scontata La circolistica Noi ci siamo cresciuti Ci siamo nati dentro I ragazzi d'oggi Vogliono Anzi Sono tenuti Lontani In qualche modo In maniera Perché è funzionale E quindi Insomma Noi dobbiamo combattere Questa battaglia E mantenerli Informati Ed attivi All'interno del nostro Circuito Comunque Quello che volevo dire È che se Arci È sopravvissuta Piacenza È sopravvissuta Il nostro Covid Ed è sopravvissuta Insomma Tutto quello che è accaduto Non ve lo devo dire Io Insomma Non ci sono dubbi Ma sicuramente Abbiamo davanti Un gran futuro Grazie mille Buon pomeriggio a tutti Interviene ora Giovanna Maciariello Di Arcia Caserta Esatto Io sono L'ospite Quello che accoglierà Il compagno Lom di Piacenza Allora Dunque Mette gli occhiali Per ovvi motivi E farò insomma Un brevissimo intervento Pensando a A quello che Nella mia regione È un problema Storico E sociale Che È la povertà educativa Dove Per questo termine Intendiamo Una povertà di mezzi Di strumenti Una povertà economica Una povertà di relazione Che riguarda i bambini Le bambine E ragazze E ragazze E quindi Pensando a questa situazione Le prime Anzi Le tre parole Che mi sono venute in mente Dal punto di vista Arci Sono Opportunità Partecipazione E prendere parola Allora Per opportunità Noi intendiamo Le opportunità Di accesso Alla scuola Agli spazi di socialità Alle opportunità Di formazione Continua In contesti Molteplici Quindi formali Non formali E formali Alle opportunità Di spostamento Dal proprio territorio E di accesso A spazi culturali Alle biblioteche Che da noi Praticamente Non esistono Agli spazi di gioco Il nostro contesto È spesso caratterizzato Da territori Marginali E periferici Anche all'interno Dei contesti urbani Dove ci sono tante Periferie Nei quartieri Anche al centro Di Napoli Per esempio O al centro Di Caserta Che è la città Che io conosco Un pochino di più Perché ci sono nata Ma ovviamente Abbiamo anche Tante aree interne Che sono poco collegate Rispetto ai centri urbani E anche quelle Rappresentano Delle aree periferiche E queste Per queste aree Non vengono spesso pensate Politiche di promozione Del benessere E dell'agio Rispetto alle persone giovani Perché per me Sono persone Anziché diciamo Come dire Bambini E ragazzi e ragazze Ma vengono Per lo più Concepiti Interventi Di sussistenza E di riparazione Del danno E quindi Vengo all'altra parola La partecipazione Partecipazione Vuol dire per me Prendere parte Fare parte Ma fare parte di cosa? Con chi? Per esempio Al sud si dice A chi appartieni E spesso L'appartenenza Nel nostro territorio Coincide con L'adesione a valori E culture Ispirate all'illegalità O quantomeno Diciamo A una condivisione Parziale Di diritti E doveri collettivi E quindi Le nostre persone Giovani Spesso vivono Nell'idea Che la marginalità È una condizione A cui si è condannati Per il resto Della vita E la condizione Dell'essere Periferici Diventa Da una situazione Spazio-temporale Diventa una situazione Di autopercezione Di sé Il nostro slogan Dice che Bisogna sognare Più veloci Mentre invece Dal mio punto di vista Sul nostro territorio Ci dobbiamo fermare Al bisogna sognare Perché Spesso I bisogni E le possibilità Non sono esattamente Coincidenti I circoli Che sui nostri territori Fanno resistenza Culturale Provano a sperimentare Forme di partecipazione Inconsuete Attraverso metodi Informali E non formali Provano In realtà A sperimentare Forme di resilienza Attiva Col tentativo In una dimensione Di Costruzione Di rete Anche con altre Realtà Associative Perché per noi È fondamentale Il radicamento Territoriale Con altre realtà Con la possibilità Di aprire Opportunità E dare Nuovi significati In termini Di partecipazione E protagonismo Per Le ragazze I ragazzi I bambini E le bambine Che abitano I nostri territori Quindi La presa di parola Per noi Concide Con la possibilità Di avere spazi Spazi di ascolto Spazi di espressione E soprattutto Spazi di immersione E zalenti Grazie Ora abbiamo Un video Di Fatima Mafud Del fronte Polisario Salve Sono Fatima Mafud Rappresentante Del fronte Polisario Per l'Italia A nome del popolo Sahraue Del fronte Polisario Ringrazio L'Arci La sua classe Dirigente I circoli Le associazioni Affiliate Arci Per la solidarietà Che non hanno Mai fatto Mancare Al mio popolo E la sua Giusta causa Come ben sapete Purtroppo La causa Sahraui Soffre Di una Invisibilità E nel contesto Attuale Internazionale L'invisibilità Dei Sahraui È diventata Ancora più Penalizzante Per il mio popolo Ecco perché Il vostro gesto Di invitarci Di aiutarci Concretamente Nei progetti Di cooperazione Per il sviluppo Hanno un valore Inestimabile Per noi E per questo Ci sentiamo In dovere Di ringraziarvi Noi attendiamo Sempre Come ben sapete Il diritto Cioè Che le Nazioni Unite Ci diano La possibilità Di applicare Il nostro diritto All'autodeterminazione I Sahraui sono 47 anni Che sono In un esilio Forzato A causa Dell'occupazione Marrocchina Del Sahra Occidentale E sono 32 anni Che attendiamo Che le Nazioni Unite Applicano Il piano Di pace E diano Finalmente Al mio popolo La possibilità Di scegliere Essere un paese Indipendente O parte integrale Del Marocco Mi appello A tutti voi Affinché Ci aiutate A portare Una soluzione Pacifica All'altezza Della giustizia Per quanto riguarda Il conflitto Nel Sahra Occidentale Noi siamo A vostra disposizione Per qualsiasi cosa Rientri Diciamo Nei vostri progetti Nei vostri principi Che possa In qualche modo Alleviare Il dolore E l'attesa In cui È stato costretto A vivere Il popolo Sahrao Vi auguro Un buon Congreso E auguro A tutti noi Una pronta Uscita Diciamo Da questa Situazione Di conflitto Internazionale Che condiziona La vita Di tantissime Persone Grazie Infinite E a presto Buon compagno La parola Ora A un Grande amico Hermano Dell'Arci E sta Qui con Nosotros Luis Morlote Presidente Dell'UNEAC L'Unione Degli Artisti E Scrittori Cubani Giovane Amico Accogliamolo Con un applauso Buenas tardes Y gracias Por ese cálido Recibimiento Di questo Caluroso Caldissimo Recibimento Vengo Desde Cuba Una isla Del Caribe Que pareciera Que sta Lejana Geograficamente Sin embargo En estos Dias De congreso De Arci He sentido Tan cerca De Ustedes Que pareciera Que estamos A unos Pocos metros Vengo Da Cuba Un'isola Que sembrerebbe Lontanissima A kilometri Da qua Insieme In questi Giorni A voi Dell'Arci La sento Estremamente Vicina A pochissimi Metri Deve ser Porque las Ideas Que se Están Discutiendo En este Forum Tienen Mucho Que ver Con la Visión De la Sociedad Que los Cubanos Nos hemos Propuesto Construir Y que Quisiéramos Para el Mundo Todo Deve Ser Perque Le Die Que Se Están Discutiendo In Questo Forum Hanno In Comune Fortemente Una Visione Simile Di Società Que Vorremos Anche No In Cuba Una Sociedad Donde Sea Posible Construir Desde La Diversidad Una Realidad Común Donde Podamos Convivir En Armonía Un Mundo Donde Los Poderosos No Intente Borrar Nuestras Identidades Donde Una Superioridad Minoritaria Respaldada Por El Dinero No Intente Decir Nos Que Tenemos Que Hacer Un Mundo Una Società Dove Sea Posible Costruire La Diversità Una Realtà Comune In Cui Il Mondo Dei Potenti Non Cancellino Le Differenze Non Cancellino Le Nostre Diversità In Cuba Trabajamo Por Conquistare Toda La Justizia Possibile Esa Una Máxima In Cuba Lavoriamo Per Conquistare Una Giustizia Possibile Questa Una Massima Per Noi E Chissà L' E Votare In Referendo Pubblico Un Nuovo Codigo De La Famiglia Muy Avanzado En Este Momento En El Mundo In El Qual No Solo Se Reconosce Matrimonio Matrimonio Igualitario Sino Que Se Trabaja Por El Derecho De Cada Uno De Los Ciudadanos Infatti Un Es Infatti Un Esempio Di Questo E Che Abbiamo Appena Votato Un Referendum Per Rispettare Il Matrimonio Civile E Soprattutto Creare Una Visione Di Famiglia Diversa In Il Concepto De Construzione De La Sociedad Cubana Pensamos Que La Calidad De Vida Tiene Que Estar Necesariamente Identificada Aliada A La Produccion De Bienes Espirituales No Pensiamo Fortemente Per La Construzione De Una Società De La Nostra Società La Qualità De La Vita Debe Ser Un Aleata Soprattutto De Un Identità Espiritual Por Eso La Cultura Está En El Centro Del Proyecto Social Que Se Construye Hoy In Cuba Per Questo Motivo La Cultura E Al Centro Del Proceso Di Construzione Sociale In Cuba Io Represento Un'organizzazione Di Artistas Una Organizzazione Social No Gubernamental Che Agrupa In Cuba A Más De 9000 Escritores E Artistas De Todo Il Pa Io Rappresento Un'organizzazione Di Composta Da Più Di 90 Mille Artisti 9000 Artisti 9000 Che Comporrà 90 Mille Artisti Allora Y Desde Esa Organizzazione De Artistas Tratamos De Ofrecer Al Pueblo El Fruto De Nuestros Artes Se Reúnen Ahí Los Escritores Los Músicos Los Artistas De La Plastica Los Cineastas Creadores Del Cine La Radio La Televisión Los Artistas Escenicos Y Ofrecen Al Pueblo Ese Arte Porque Es En El Pueblo Es En La Comunidad Como Pasa Con Los Circulos De Ustedes Donde Uno Realmente Encuentra La Retroalimentación Para El Arte Que Hacemos Quindi E Grazie A Nuestri Artisti Nuestri Scrittori Le Persone Che Fano Radio Cinema In In Cui Noi Riusciamo A Mettere Insieme Il Popolo Grazie A Questo Momento In Cui Noi Riusciamo A Creare Una Comunità Insieme Attraverso La Cultura Il Gran Poeta Cubano Politico Uno De Nuestros Mai Grandes Pensadores Che Habló Mucho Sobre Italia Il Gran José Martí Decía Ser Culto Para Ser Libre Uno Il Grandissimo Poeta Cubano Politico Uno De I Più Grandi Pensatori A Cuba José Martí Chidicheva Per Ser Culto Para Ser Libre Ser Culto Para Ser Libre No La Viso No Di Traducción Y Ese Es Y Ese Es El Concepto Que Desarrollamos En El Trabajo Cotidiano Con La Creación De Un Sistema De Instituciones Culturales Que Por Cinco Décadas Han Dado Espacio Al Artista Y Han Defendido La Más Amplia Libertad De Creación Pero También Hemos Creado Un Sistema De Enseñanza Artistica Que Desde La Enseñanza Primaria Hasta El Nivelo Universitario Forma Artistas Para El Pueblo De per i bambini, sin da piccoli, sin dagli elementari, fino alle superiori, attraverso l'arte, danno e offrono forme di cultura per il popolo. De maniera che non concebimo una cultura per una elite e una cultura per il popolo. Lo miglior della cultura tiene che llegare al popolo. Quindi non pensiamo che ci sia una cultura per popolare o una cultura per l'elite. No, la cultura è per il popolo. E per questo che io dico che è un enorme fratellare. Io voglio assolutamente ringraziare a Daniel Lorenzi, ma tutti i fratelli e sorelle che da anni danno questa fraternità, questo coinvolgimento alla nostra unione di scrittori e artisti di Cuba. Ed è per quello che voglio ringraziare sia l'Arci che l'Ars per il loro contributo in supportare questi spazi culturali lontani nei villaggi. E... Tengo muchas cose che dire, però per parlare molto estaba Fidel Castro. E... 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 cariño su ustedes. Muchas gracias. Los esperamos en Cuba a todos. Hasta la victoria siempre. Adesso interviene Francesca Silluzio di Arci Sicilia. Buen pomeriggio a tutti e a tutti. Sono Francesca, presidente di Arci Sedra Sortino, piccolo circolo del Siracusano e delegata per Arci Sicilia. Questa è la mia prima volta, seppur in dieci anni di attività, ad un congresso nazionale dell'Arci. E prima di dire qualunque altra cosa, permettetevi di ringraziare tutte e tutti voi per ogni esperienza e storia raccontata, che ho ascoltato con grande interesse. Storie che mi hanno appassionata e mi hanno regalato tanta energia, che proverò sicuramente a restituire sui nostri territori una volta rientrata in Sicilia. E ringrazio la mia delegazione regionale per avermi dato fiducia, ma anche per avermi dato la possibilità di raccontare un piccolo pezzetto di Arci Sicilia. Come vi dicevo, vivo in un piccolo paesino della Sicilia, poco più di 8.000 abitanti, che come tante storie che ho ascoltato in questi giorni, è attraversato da tutte quelle problematiche e quelle contraddizioni che vivono i territori ai margini, i territori di frontiera o le piccole aree interne, a partire dall'annoso fenomeno dello spopolamento. Un territorio, così come tanti altri, in cui i giovani non riescono ad immaginare un futuro, e allora si trovano costretti a dover immaginarlo altrove, anche se questo spesso rappresenta una scelta faticosa. La nostra comunità è una di quelle piccole e belle comunità, ma in cui mancano tante cose. Non abbiamo una biblioteca, o meglio, ne abbiamo una, ma non fruibile al momento e chissà per quanto altro tempo ancora. E in maniera collaterale tutte le attività connesse a questo luogo. Non godiamo della presenza di un cinema. Abbiamo qualche teatro, sì, ma non in condizioni strutturali ottimali. E delle associazioni che da sole fanno fatica a portare avanti la loro attività. E abbiamo ancora una situazione molto complicata per quel che riguarda i servizi di prossimità. A Sortino Arcesedra nasce nel 1999 e negli anni ha rappresentato sul nostro territorio un'alternativa valida all'impoverimento culturale. Per questo, dopo alcuni anni di chiusura del circolo, abbiamo deciso, insieme ad altre compagne e compagni cresciuti, respirando quel mondo, di rifondare Arci nella nostra comunità, di riaprire una piccola finestra fatta di possibilità su quel mondo. In questi contesti, in questi luoghi, Arci riveste un ruolo fondamentale, facendosi carico della promozione culturale che rappresenta per i territori ai margini uno strumento fondamentale, forse l'unico, di emancipazione e crescita. I circoli come Sedra, come Strauss di Mussomeli, come Arci Peppino Impastato di Salemi, o come i piccoli circoli della provincia di Ascoli Piceno, di cui ci raccontava ieri Chiara, per la loro stessa esistenza e resistenza, sono dei presidi imprescindibili per i territori. Però è anche vero che non siamo qui per dirci solo quanto siamo bravi, siamo qui anche per analizzare le cose che non vanno bene, per migliorarci. Siamo qui per strutturare insieme la nostra strada futura. E allora bisogna dirselo che ci sono luoghi, alcuni più di altri, in cui si fa fatica a fare arci, che poi il più delle volte sono anche luoghi in cui c'è più bisogno di arci e le comunità, i quartieri ci riconoscono come presidi indispensabili. Ci sono luoghi in cui si arranca, in cui bisogna lottare per mantenere uno spazio. Ed è per questo che tanti circoli rischiano di chiudere, rischiano di sparire. Dicendo questo, noi non possiamo permetterci che questo accada. E voglio riprendere le parole della Presidente Daniele Lorenzini, che ha utilizzato ieri nella sua relazione introduttiva. Noi non possiamo più permetterci, ma soprattutto non abbiamo più intenzione di chiudere neanche un circolo sul nostro territorio. Dicendo questo, il mio pensiero non può che andare al mio territorio, a Siracusa, che sta attraversando un momento di difficoltà. Per questo vi chiedo di mandare il nostro forte abbraccio alle compagne e ai compagni di Siracusa che hanno perso la loro sede, ma che continuano a resistere, perché sono consapevoli che la loro presenza è indispensabile per molti, per tutte le persone che sbarcano, per le persone che vivono situazioni difficili in quartieri svantaggiati della città. Allora, proviamoci tutti a curarci a vicenda, a guardare quello che accade agli altri circoli, a salvaguardare insieme la nostra presenza sui territori. Tuteliamo i circoli che soffrono, ma anche i nuovi circoli che nascono. Incoraggio a me, giovani, per garantirci un futuro, perché di Arci c'è bisogno, per lasciare questo mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Sogniamo più veloce, ma soprattutto sogniamo insieme. Buon congresso a tutte e tutti e viva l'Arci. Abbiamo una breve comunicazione di Silvia Cascetta per la Commissione Verifica Poteri e poi si prepari Laura Bonfilz di Arci Bruxelles. Allora, velocissimamente, vi ricordo le votazioni di stasera dopo cena, mi raccomando. In più, volevo ricordare che abbiamo individuato i questori d'aula che ci aiuteranno a fare il conteggio dei voti durante la sessione relativa allo statuto e quindi mi raccomando a questori d'aula di non allontanarsi. Per comodità, le ricordo e le ringrazio per la disponibilità. Francesca Santucci, Jacopo Marchisio, Fabio Tedesco, Matteo Cocco, Mattia Nesti, Lucia Righi, Roberta Cappelli, Serenella Pallecchi, Nicola Quartapelle, Giulio Franchini, De'Ledda Coattoli. Chiedo scusa, sì, ok. Grazie, buon proseguo. Laura Bonfils, AC Bruxelles, e poi un'altra breve comunicazione. Compagni e compagni, prima cosa scusate per la mia meravigliosa voce perché è rimasta Bruxelles. Grazie di avermi dato la parola, come detto rappresento Arci Bruxelles e per il momento siamo il solo circolo all'estero. Siamo un circolo giovane, ancora piccolino, nato nel 2019 dal desiderio di un gruppo di italiani a Bruxelles che cercava uno spazio di socialità, culturale e politica al di fuori delle dinamiche di partito che a Bruxelles sono tante e siamo tantissimi italiani anche che fanno politica lì. La nostra piccola proposta ha però ricevuto immediatamente tanta attenzione e partecipazione di tanti che, come noi, non solo hanno nostalgia di casa, ma anche della casa della comunità Arci. Vorrei prima di tutto ringraziare Francesca Ghiavacci e il Nazionale per averci creduto, supportato e consigliato e averci permesso di creare uno spazio di partecipazione politica e democratica che promuove la cultura antifascista, il mutualismo e la solidarietà anche dall'estero. Con il nostro spazio cerchiamo di creare un luogo di incontro, partecipazione e di intercettare i bisogni di chi è emigrato a Bruxelles o vive a Bruxelles. Infatti i nostri soci sono uniti dai valori di Arci e non sono solo italiani. A Bruxelles facciamo rete, non solo con voi qui in Italia, ma anche con tutta la realtà associativa belga che condivide i nostri valori. Stiamo cercando di creare uno spazio dove esercitare la propria funzione sociale, il nostro attivismo che va al di là dei confini dell'Italia. Aprire un circolo Arci all'estero significa dare un luogo a chi è dovuto o è voluto lasciare l'Italia, ma non vuole lasciare il desiderio di contribuire alla discussione culturale e partecipare e lavorare e esprimere la propria cittadinanza attiva. Uno spazio, come alcune delle compagne hanno già detto prima, al di fuori delle dinamiche di privatizzazione dell'esistenza della socialità e del divertimento e delle dinamiche consumistiche e combattere il dilagante individualismo rispondendo con alternative di socialità e collettività. Non è un caso che siamo nati anche all'estero, perché siamo tantissimi che hanno deciso o hanno dovuto lasciare l'Italia. Finalmente, negli ultimi anni, si è cominciato a parlare del fenomeno della nuova immigrazione italiana all'estero e spesso si parla di noi come cervelli in fuga. Ma vogliamo ricordare che questo fenomeno migratorio è molto più complesso. E non vanno via solo i cervelli, ma le braccia e i cuori. C'è chi va via da solo, ma c'è chi va via con tutta la famiglia, per ragioni economiche, per scappare alla povertà, per cercare lavoro e opportunità. E chi, per esempio come me, è andato via anche in cerca di diritti, per vivere in un posto dove non essere considerati cittadini di Sarebì, ma una famiglia. Siamo qui per dirvi che l'Arci siamo anche noi, quelli italiani e non, che condividono i valori antifascisti e di uguaglianza dell'Arci, anche fuori dai confini nazionali, e che vogliono partecipare alla rivoluzione dell'Arci e immaginare insieme una società migliore. A Bruxelles siamo il primo esperimento all'estero, ma non vorremmo restare da soli. E vorremmo che anche in altre città nascano nuovi circoli per continuare a sognare insieme, più veloce, come il nostro slogan dice, e per contribuire con le nostre voci, le nostre azioni e le nostre esperienze, è un sogno necessario, in Italia e non solo. Ripartiamo dalla nostra moltitudine. Viva l'Arci! Grazie. Chiediamo di intervenire a Manfredo Pavoni di Arci, Val di Sus e Pinarolo, c'è una comunicazione, si prepara Sara Presti-Anni di Euromed Rights. Grazie. Sì, ciao a tutti e a tutti. Non è una comunicazione allegra, ma grazie alla Presidenza che ci ha dato la possibilità di leggerla. Abbiamo appreso con sgomento la notizia di una condanna a ulteriori otto mesi di carcere per mancato rispetto dei domiciliari contro la compagna Nicoletta Dosio del Movimento contro l'alta velocità in Valle di Susa, cui da sempre Arci, Valle e Susa, Pinarolo è a fianco nella lotta per fermare un'opera che più studi e in più occasioni hanno dimostrato essere inutile, dannosa per l'ambiente, anacronistica e fonte di spreco per denaro pubblico. Nicoletta non si è mai nascosta e ha voluto apertamente non accettare la sentenza e le imposizioni del Tribunale di Torino. Per usare le sue parole, non si tratta di eroismo, ma di una presa di coscienza collettiva. Nicoletta, ha 76 anni, è stata insegnante di lettere, ha diffuso con generosità cultura e socialità al liceo di Bussoleno, amata e riconosciuta da generazioni intere di studenti e di studentesse, nella sua attività incessante di esponente notave, militante e anche animatrice di spazi di solidarietà, per i migranti, punto di riferimento per tutte e per tutti quelli che hanno incrociato le lotte in questi anni, così significative per la solidarietà, la giustizia climatica, la difesa del territorio e delle relazioni umane. Già nel 2015, il Tribunale Permanente dei Popoli ha dichiarato che in Val Susa si sono violati i diritti fondamentali, civili, libertà di parola ed espressione. Esprimiamo sconcerto, rabbia, per l'ennesimo atto di criminalizzazione del dissenso e anche dal Congresso nazionale dell'Arci vogliamo esprimere affetto e solidarietà a Nicoletta. La valle non si arresta. È un onore per me intervenire nel Congresso dell'Arci a nome di Euromed Rights, una rete di 70 organizzazioni che operano nel bacino del Mediterraneo, nelle due sponde del Mediterraneo, soprattutto per il ruolo centrale che Arci da sempre ha in questa rete. Membro del suo organo dirigente, il Comitato Esecutivo, attivo nei tre gruppi di lavoro, tre sui quattro gruppi di lavoro, quello per i diritti di migranti e rifugiati, quello per la giustizia di genere e i diritti delle donne, il gruppo di lavoro che lavora sulla Palestina. Ma oltre a essere onorata, sono anche profondamente emozionata di intervenire in questo congresso per la mia storia personale all'Arci, una storia che è cominciata 17 anni fa al presidio a Lampedusa, dove siamo intervenuti nei centri per difendere già da allora i diritti dei migranti che vi erano detenuti, ma anche per i sette anni che ho passato all'Arci nazionale, per le cinque edizioni del Festival Sabir. Un'esperienza da cui ho imparato tantissimo. Ho imparato la bellezza dei territori dell'Arci, la forza delle sue attività, nonostante il chiaroscuro della fase politica che ho attraversato. Ma è stato di grande insegnamento e questo insegnamento lo sto portando oggi nella rete Euromed ed è una grande ricchezza. Nel 2021 Euromed ha votato il suo documento politico, definendo i suoi principali cinque obiettivi politici. Il primo è quello della difesa dei diritti dei migranti, migranti, delle migranti, dei rifugiati, delle rifugiate, ma soprattutto di continuare a guardare quello che succede dall'altra sponda del Mediterraneo, di farlo nel Mediterraneo centrale ed è questa la nostra battaglia per denunciare i centomila respingimenti verso la Libia in un circolo di violenza. L'abbiamo fatto andando a Meliglia, cercando di capire e cercando di aprire un processo di giustizia per le più di 20.000 persone che sono morte ai piedi dei muri di Ceuta e Meliglia. L'abbiamo fatto andando in Libano, cercando di capire perché dopo i respingimenti da Cipro verso il Libano una nuova rotta si è aperta, dal Libano verso le coste della Calabria. Questa rotta ha portato tantissimi naufragi ed è proprio quello dei naufragi un'altra nostra battaglia. Cercare di ricordare che dietro ogni persona che dispersa e morta nel Mediterraneo ci sono le sue famiglie. Ci sono delle famiglie che cercano di capire cosa sia successo e dove sono i corpi delle loro care. Ed è nel processo di identificazione dei corpi alle frontiere che è una delle più grandi battaglie che abbiamo portato avanti. Parlando di immigrazione, mi viene in mente quella che per noi è la nostra più grande sfida, l'Europa. Euromed Rights è una rete che ha origine a Copenaghen, in Danimarca, che ha un grande ufficio a Tunisi, ma che ha una sede a Bruxelles, dove io lavoro. Vi parlo della sfida d'Europa parlando di immigrazione perché l'immigrazione è la cartina di tornasole della fragilità delle istituzioni europee. Una commissione europea che propone un processo legislativo che va incontro i diritti dei migranti e dei rifugiati. Un consiglio che strumentalizza la discussione sull'immigrazione. E poi un Parlamento europeo con una maggioranza progressista sempre più fragile. Ecco, io vorrei ricordare qua che c'è una sfida che dobbiamo portare avanti. È la sfida verso le elezioni politiche europee del 2024. Se perdiamo quella sfida, se ad esempio l'Italia ha lo stesso risultato elettorale che ha avuto nelle sue elezioni nazionali, perderemo il solo baluarto democratico, la sola istituzione votata dai cittadini europei. E quella sarebbe una grande perdita per tutti e per tutte. Quindi dall'Italia penso che dovremo affrontare insieme quella sfida delle politiche europee. Il secondo obiettivo politico che si è dato Euromed è quello della difesa dei diritti delle donne e della giustizia di genere. Nella sponda sud del Mediterraneo purtroppo assistiamo a una violenza economica sempre più dilagante, a politiche che reprimono le scelte sessuali delle persone, a paesi che si allontanano dalla Convenzione di Istanbul e poi elementi che ci accomunano alla sponda nord del Mediterraneo. L'aborto, con leggi che lo criminalizzano o pratiche, come in Italia e come ci è stato detto prima, che criminalizzano il diritto all'aborto per le donne. Il terzo obiettivo politico è quello della giustizia e dello spazio della società civile in un contesto di impunità. Eravamo presenti per ricordare a Sharma e Sheik che l'Egitto non è un paese democratico. Io come cittadina italiana mi sono vergognata a vedere i rappresentati del nostro governo che hanno stretto la mano al Sisi ricordandosi calmestando la memoria di Giulio Reggeni per cui troppo poco è stato fatto. Per Allah che è in sciopero della fame da mesi nelle carceri egiziane, per tutti i difensori di diritti umani, in Egitto quella scena politica è stata la vergogna nazionale e purtroppo abbiamo fatto finta di niente. Ma ci battiamo anche contro la criminalizzazione della solidarietà. In Algeria la società civile non si può esprimere. Ad ogni espressione della società civile segue un arresto. La criminalizzazione della solidarietà sta toccando ritorna a toccare perché purtroppo l'abbiamo già visto anche le sponde nord del Mediterraneo. L'Arci con i suoi presidi sul territorio ma anche a livello nazionale ha fatto tanto per denunciare la criminalizzazione della solidarietà. Questa è un'altra battaglia che dovremo purtroppo ricominciare perché se vediamo il documento che è uscito dai quattro paesi del Mediterraneo Cipro, Grecia, Italia e Malta nero su bianco viene scritto che le ONG in qualche modo fanno parte della logica di gestione della migrazione. Quindi questo è un attacco diretto alle ONG che intervengono in mare. Dovremmo ricordarci invece che quelle ONG se salvano vite umane è perché gli stati non rispettano il loro dovere di risalvare vite umane. Il quarto obiettivo politico di Euromed Rice è quello di rafforzare la democrazia delle democrazie fragili come quelle della Tunisia. A Cecina c'è stato un evento bellissimo l'indomani delle primavere arabe il vento del cambiamento. L'Arce è stata anche al Forum Sociale Mondiale a Tunisi quella democrazia tunisina oggi è un pericolo. C'è un solo uomo al governo. Ci sono delle elezioni in dicembre che possono ancora peggiorare la situazione. C'è una povertà così radicata nella popolazione che ci ricorda quelle che poi hanno dato vita alle rivolte del pane nel 2011. Non dobbiamo chiudere gli occhi. Dobbiamo continuare a sostenere il popolo tunisino perché ha dato prova di essere un popolo che ha portato avanti un processo democratico e quel processo democratico è importante non solo per la Tunisia e per tutto il Maghreb ma anche per tutta la regione del Mediterraneo. E bisogna sostenere i compagni e le compagne tunisine in questo momento difficile. Cerchiamo di sostenere il difficilissimo processo di pace in Libia ricordando all'Italia che l'interesse è quello di una Libia che arrivi a un'elezione democratica e non di una Libia che sia in grado di intercettare i migranti e riportarla all'inferno dei centri di detenzione libici. Il quinto obiettivo è quello di rafforzare i diritti economici sociali e culturali in una delle regioni del mondo che è attraversata da più diseguaglianze. Ancora una volta voglio ricordare qui le donne che in settori come quello della cura del lavoro domestico dell'agricoltura sono sistematicamente sfruttate e subiscono la violazione dei dritti fondamentali del lavoro. Siamo stati a Uelva nel campo dove le donne marocchine raccolgono le fragole. Abbiamo visto un sistema produttivo che non funziona. Abbiamo visto delle donne marocchine che di fatto sono trattate come schiave nei campi della raccolta delle fragole. Quelle fragole che sono vendute nei supermercati di tutta l'Europa senza pensare al sangue che in qualche modo c'è dietro così come quello che c'è dietro ai pomodori raccolti in Puglia o all'arancia della Calabria. E ancora termino con l'ultima sfida che per noi è la più importante quelle delle crisi climatiche. La desertificazione del Sahel tocca e impatta tutta la regione Mena. Un dato per tutti il 60% della popolazione del Maghreb e del Mashrek non ha accesso all'acqua potabile e questa è la conseguenza diretta anche di un maltrattamento del territorio e di una non presa in considerazione delle sfide climatiche. Ecco ho parlato qua di sfide aperte in Europa in Italia nel Mediterraneo sono sicura che quel cammino per battersi perché queste sfide a poco a poco possono essere vinte o che quelle violazioni dei diritti fondamentali vengono messe alla luce saranno fatti insieme da Arci e da Roma Grazie Sara Stefano Cova Arci Genova si prepari Alessio Curatoli Buonasera io sono Stefano mi piace raccontare delle storie perché le storie hanno delle cose da dirci e ne abbiamo delle cose da imparare storie allegra storie tristi oggi purtroppo ho solo storie tristi storie vere e nomi inventati Rodrigo è appena diventato padre è per strada sta festeggiando con un amico festeggia appunto la nascita del figlio il rumore infastidisce un signore che abita al piano di sopra il signore entra in casa prende un arco prende una freccia da caccia al cinghiale prende la mira scocca la freccia lo centra al fegato Rodrigo dopo due ore muore in ospedale lascia una compagna e una figlia e un figlio di un giorno la compagna si chiama Janette fa la badante è ovviamente in maternità ma il datore di lavoro ha tempo di fargli sapere che non le rinnoverà il contratto quando finisce la maternità resterà a casa e quindi diciamo non sa come fare non saprà come fare a mantenere il figlio al funerale oltre alla comunità peruviana ci sono pochi bianchi qualche suo collega tanti giornalisti e io alla fine della funzione il fratello di Rodrigo tira fuori tre bottiglie di rum è un'usanza della Sierra spiega noi non siamo ubriaconi si deve giustificare perché i giornali hanno commentato nei giorni prima che il fratello era stato ucciso perché era ubriaco e faceva casino per strada come se questo giustificasse il fatto che qualcuno con un arco da caccia e una freccia da caccia uccida una persona perché fa casino per strada tutto questo avviene nell'assenza e nel silenzio di una città ma la città è genoma ma potrebbe essere temo purtroppo qualunque delle nostre città vera invece è ucraina ha un bimbo di due anni si sveglia un mattino urla 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 il suo bambino non respira è morto le dicono che forse è colpa sua la prendono la portano in questura non può più vedere il figlio la salma del figlio le parlano lei non capisce loro continuano a parlare lei continua a non capire avvocati giudici poliziotti operatori sociali è tutto rumore di fondo lei non li sente è immobile catatonica sta lì in un angolo ripete una nenia ma non capisce quello che sta succedendo e non capisce quello che le stanno dicendo comincia una lunga lista di formalità burocratiche incomprensibile per noi figuratevi per una madre straniera a cui è appena morto il figlio sono profughi ma la burocrazia vuole che dimostrino la loro indigenza l'indigenza di persone che sono appena scappate da una guerra senza questa dimostrazione non potranno avere il funerale non potranno avere la difesa legale non potranno avere nulla la burocrazia non ha sensibilità Natascia è un'altra donna ucraina piange disperata il medico le ha appena detto che il suo tumore è tornato continua a ripetere il nome di Pavel il suo figlio Pavel è disabile non ha alcuna autonomia vede poco sente poco non parla il cuore è capriccioso la schiena è fatta ad esse Natascia si chiede continuando a piangere che cosa succederà a suo figlio con la sua malattia noi non abbiamo alcuna risposta sono storie brutte storie tristi storie che ci sono capitate nel nostro lavoro sociale pensate solo negli ultimi 30 giorni sono storie di dolore profondo storie di persone troppo sole dolore di persone troppo sole sembrano lontane ma sono il nostro lavoro appartengono alla nostra storia da presidente dell'Arcidi Genova mi è capitato di visitare tantissimi sms che hanno una lunga storia e una delle cose che sono più conservate per i documenti di queste società di mutuo soccorso sono i libretti dei soci sui libretti dei soci c'erano scritte le regole come si faceva a diventare soci e molto spesso la regola era devolvere un certo numero di ore di volontariato ai soci che stavano male e non era una cosa teorica voleva dire fare quattro ore a casa di Giovanni che era malato assistere Francesca a cui era morto il marito pagare il funerale fare queste cose qua è proprio questa roba qua di cui stiamo parlando siamo ancora o di nuovo lì con le persone che non sanno con chi piangere che non hanno le risorse per un funerale che non sanno chi si occuperà del figlio allora a noi tocca costruire un nuovo mutuo soccorso di fronte ad uno stato che si ritira da questo campo per lasciare spazio ad un privato rapace anche nel dolore a noi tocca anche protestare e pretendere che questo non succede che si costruisca un welfare diverso più inclusivo dobbiamo pretendere che le persone possano festeggiare che le persone possano piangere che le persone possano capire quello che gli sta succedendo che le persone possano seppellire i loro cari la settimana prossima si svolgerà il funerale di questo bimbo di due anni saremo lì ad abbracciare quella mamma e quel papà che l'ha raggiunta che hanno perso un figlio e lo faremo anche per tutti e tutte noi pretendiamo i dritti proviamo a costruire un welfare degli abbracci ce n'è bisogno è importante facciamolo costruiamo un mondo migliore facciamolo assieme grazie grazie Stefano adesso abbiamo Alessio Curatoli Arci Campagna e si prepara Maria Chiara Panesi non c'è no ah scusa allora non c'è Curatoli allora chiedo a Maria Chiara Panesi Alci Valdera così scusa bruciata e poi si prepara Sergio Bassoli coordinatore rete italiana pace e disarmo arriviamo a questo congresso con un'emozione forte dopo due anni in cui ci sembra quasi di aver abitato il pianeta delle scimmie ci ritroviamo qua ed è palpabile la voglia di vederci e anche di ritrovarci credo che la stagione dei congressi e dei seminari precongressuali ci abbia dato una conferma importante che le cose più belle per noi le avanguardie le spinte in avanti nascono nei luoghi formali o informali che siano dove teste visioni e territori diversi si raccontano si ritrovano si contaminano creano un linguaggio e un'identità condivisa credo che questo insegnamento vada ricordato e praticato perché per noi è ossigeno puro grazie a Daniele per averlo capito e per averci condotto fino a qua sogna un arci radicale e controcorrente con la radicalità dell'impegno e delle idee del nostro saper stare nel conflitto nelle fratture nel nostro farci carico delle fragilità tutte le fragilità radicali ma non settari anzi animati costantemente dalla necessità di condurre un confronto popolare aperto vicino alle persone senza mai sottrarci ad esso animati dalla necessità di produrre cambiamento concreto tangibile per le nostre comunità la forza delle idee quelle che fanno appello alla ragione umana e che ci inducono a pensare a sentire attivamente e a fare perché è la nostra politica del fare che ci rende assolutamente unici e coerenti controcorrente senza timore di sfidare le convenzioni sociali e le nostre convinzioni di cui talvolta siamo vittime lottando contro l'era della standardizzazione e dell'omologazione culturale laddove sappiamo che l'omologazione è anche fragilità ricerca di consenso paura di rimanere esclusi qualche mese fa con alcuni amici e compagni di UCCA creiamo uno coniamo uno slogan una vera e propria massima a dire la verità lotta all'algoritmo ed intendevamo qualcosa di ben preciso lotta all'algoritmo di Netflix e di tutte quelle piattaforme che ti propongono vuoi vedere anche questo? ecco Maria Chiara alcuni contenuti scelti appositamente per te e che ci propongono contenuti omologati standardizzati mediocri per noi lotta all'algoritmo significa rivendicare libertà di scelta libertà di pensiero libertà di ricercare contenuti alti sfidanti rivendichiamo un'alterità di contenuti una visione diversa libera e allora all'arci è anche questo uno spazio libero per menti libere in un modello sociale che tende verso l'individualismo noi rivendichiamo il collettivo il noi ed il noi diventa un pensiero politico ed è questo un altro tratto di grande coerenza per noi perché la scelta del collettivo sta dietro alla nostra battaglia per il diritto ad associarsi liberamente sta dietro alla difesa dei corpi intermedi all'idea stessa di sussidiarietà ma sta dietro anche alla scelta di andare a lavorare con la società civile nei progetti di solidarietà internazionale di parlare di consumi culturali collettivi alternativi ai consumi indovidealisti sta dietro al lavoro sulle comunità sulla ricostruzione dei legami sociali interrotti sta dietro al lavoro enorme di tessitura di relazioni con tutte le formazioni sociali ed ecco che il collettivo diventa pensiero politico e lo diventa anche dentro l'arci mettendoci in discussione scegliendo di tendere ad un'orizzontalità dei confronti ad una leadership diffusa come abbiamo detto e scritto nel nostro documento abbandonando il verticismo che abbiamo praticato un po' troppo a lungo e parlare di leadership diffusa non significa soltanto immaginare che ciascuno di noi qua presenti si senta dirigente nazionale ma significa anche mettere a fuoco gli interi processi decisionali dare evidenza chiara e verificabile dei luoghi in cui si decide delle persone coinvolte nel processo decisionale dei profili di responsabilità delega e autonomia in un modello organizzativo coerente e manifesto per noi si tratta di un cambio totale di paradigma è una scommessa arrivare a parlare di leadership diffusa dobbiamo investire sui talenti sulle competenze riconoscendo e sviluppando le abilità degli altri tutelando l'autonomia di pensiero di ciascuno valorizzando le differenze è sfidante la leadership diffusa ma è un bello obiettivo per la nostra Arci abbiamo tratteggiato anche questo all'interno del documento sul modello organizzativo un documento cui riconosco la volontà di istruire per la prima volta una riflessione ampia ed ambiziosa che dovrà essere oggetto naturalmente di un lavoro di approfondimento ancora in divenire individuando di volta in volta priorità ho apprezzato alcuni punti in particolare su cui provo ad aggiungere velocemente alcune riflessioni scendo di scala ho apprezzato il riconoscimento dello snodo centrale dei regionali strategici per uno sviluppo omogeneo della nostra rete associativa cui riconosciamo politicamente la capacità di andare a supportare il rafforzamento territoriale modulando di volta in volta velocità e intensità ho apprezzato l'investimento in ogni singolo nodo della rete non in alcuni di essi a scapito di altri per una crescita collettiva stiamo iniziando a dare le gambe alla nostra rete associativa mettiamo a fuoco allora anche quelle che per noi sono le parole d'ordine di questo processo e poi non lasciamo le vuote proviamo a tradurle in prassi in modalità di lavoro ed ecco allora che ci diciamo reciprocità responsabilità mutualismo prossimità tutela tutela per ogni nostro singolo dirigente partecipazione ma attenzione investire sulla partecipazione non significa unicamente allargare o moltiplicare le occasioni la partecipazione va organizzata a ciascun livello andando a definire modalità di lavoro affinché si instauri un flusso continuo reciproco anche su questo credo che ai regionali debba aspettare un ruolo strategico è impensabile che la partecipazione si possa esaurire unicamente in una dimensione nazionale è sui livelli regionali che si deve potenziare la partecipazione dove si deve andare a riportare al territorio la discussione nazionale anche tramite la partecipazione ai gruppi di lavoro è questo che consente di andare a riportare il livello nazionale anche al territorio più periferico un passaggio sul testeramento il terreno che conosco da vicino credo che si debba provare un po' ad abbandonare la visione canonica perché ci lascerà frustrati l'innovazione passa dallo sviluppo inizio a pensare che il lavoro sul testeramento sia un pezzo legato alla struttura centrale con tutta evidenza per la portata che ha per le nostre economie per la nostra autonomia e che dovremo presidiare con attenzione ma dobbiamo provare a proiettarci maggiormente nella dimensione dello sviluppo che diventa anche volano del testeramento e del nostro insediamento associativo intrecciando tutte le nostre aree di lavoro provando anche lì a sostenere avanguardie e fughe in avanti ad immaginare nuovi terreni di sperimentazione per arci dobbiamo premere l'acceleratore sullo sviluppo chiudono con un passaggio in biologia esiste una particolare relazione tra specie che traggono reciprocamente vantaggio dalla convivenza e non sono in grado di vivere da soli questa relazione si chiama mutualismo forse pensavano a noi ed ecco io in questa particolare relazione ci ho visto arci noi non siamo in grado di vivere da soli abbiamo bisogno di questa dimensione collettiva abbiamo bisogno di essere comunità e quando forze centrifughe o centripeti rompono questo ecosistema ci indeboliamo diventiamo fragili porosi ecco io credo che non ci si possa più permettere abbiamo bisogno con questo congresso di liberare energie ed entusiasmo ed ecco che l'augurio che faccio a tutti noi profondamente innamorati della nostra arci è di essere entusiasti dei nostri sogni sapendo che l'entusiasmo è contagioso per non arrenderci per non rassegnarci per non arrancare stanchi abbiamo bisogno di sognare di appassionarci di vivere e di vibrare e di imparare a farlo anche lasciatemelo dire con una giusta dose di ironia grazie Sergio Bassoli coordinatore della rete italiana pace e disarmo si prepara l'essicuratoli bene buon pomeriggio a tutte e a tutti permettetemi di iniziare con un aneddoto personale vista l'opportunità e anche il momento sono a Ramalla 22 anni fa in una delle tante iniziative che insieme all'Arci insieme a tante altre associazioni italiane stavamo realizzando con i nostri partner europei a sostegno dei diritti del popolo palestinese e i compagni palestinesi mi presero di lato e mi dissero vieni vieni c'è una riunione importante lascia tutto quello che stai facendo partiamo e andiamo in un posto e faremo appunto dobbiamo fare una riunione ristretta importante via mi caricano su una macchina una di quelle mercedes a sei porte scassate per strade piene di polvere eccetera e mi ritrovo in questa stanza in un posto un non luogo in una stradina in una casa di Ramalla e dentro mi ritrovo Nemer Ahmad che era l'ambasciatore rappresentante dell'OLP a quei tempi in Italia alcuni altri palestinesi mi ritrovo Tom Benettollo io sapevo chi era lui lui non sapeva chi ero io facciamo la riunione alla fine Tom mi dice noi dobbiamo lavorare assieme bisogna che assieme rilanciamo il processo di pace che in questo momento si sta congelato sapete la morte di Rabin nel 96 eccetera eccetera beh da quel momento ad oggi sono passati più di 20 anni come dicevo e io da quel momento ho sempre collaborato dei vari incarichi che ho avuto e che continuo ad avere nel mondo della solidarietà la promozione dei diritti la pace eccetera ho sempre lavorato con l'Arci in questa sede vorrei veramente ringraziare tutti i gruppi dirigenti dell'Arci che da Tom arrivare ad oggi mi hanno dimostrato tantissima fiducia appoggio sostegno e hanno collaborato alle tante iniziative a cui ho partecipato è un ringraziamento sincero profondo non è pura diplomazia perché abbiamo affrontato assieme momenti anche molto difficili molto complicati anche sul piano personale ma anche sul piano organizzativo ne ricordo uno per tutti perché credo che sia importante anche mantenere la memoria vado al 2006 quando a Gerusalemme viene ucciso Angelo Frammartino in un campo di lavoro che assieme gestivamo come CGL e come Arci momenti difficili ma anche momenti importanti come e qui vado al punto per cui sono stato invitato oggi cioè al tema della pace e arrivo al 5 novembre il 5 novembre scorso abbiamo fatto questa grandissima manifestazione e non è assolutamente casuale è stato un momento molto importante e come rete italiana pace e disarmo possiamo dire che la rete è stato il motore di quella iniziativa anche qui vorrei ricordare che la rete è una scommessa che l'abbiamo affrontata assieme l'abbiamo costruita nel 2014 perché in quel momento valutamo che il movimento per la pace viveva un momento più di ritualismo e con uno scarso impatto di carattere politico e di capacità di incidere nella opinione pubblica e nella politica italiana e quindi insieme insieme alla CGL insieme alle ACLI insieme a Lega Ambiente insieme a Libera e ad altri ad altri soggetti abbiamo dato vita alla rete della pace per poi confluire nella rete fare fare la fusione tra le due reti rete della pace e rete disarmo costituendo appunto la rete italiana pace e disarmo e da quel 2014 siamo riusciti a costruire un soggetto che è stato in grado appunto con dopo lo scoppio della guerra in Ucraina è stato in grado di diventare il punto di riferimento di un'ampissima coalizione che è riuscita a rompere il muro del silenzio per dire che questa guerra è una guerra che va fermata subito come tutte le guerre devono essere fermate rompendo ripeto una censura che esiste ormai nei nostri media ma esiste anche nella politica esiste nella nostra società siamo anche noi anche in questo caso come veniva detto da chi mi ha preceduto siamo anche noi controcorrente cioè oggi parlare di pace portare la pace all'interno dell'agenda politica significa aprire contraddizioni mettere le forze politiche di fronte alle loro responsabilità fermare la guerra in Ucraina e chiedere che l'Europa ritorni ad essere se mai lo è stata un soggetto di pace fino in fondo coerentemente con i propri principi e i propri valori con la nostra storia di paesi democratici liberi indipendenti che rispettano i diritti umani universali che sono membri fondatori dell'organizzazione delle Nazioni Unite che è il quadro di riferimento e rappresenta il quadro di riferimento del diritto internazionale essere porre questo tema con tutta la sua complessità e difficoltà nel trasformare in azione politica questi principi è per noi fondamentale è fondamentale per la rete ma è fondamentale soprattutto per le nostre associazioni Europe for Peace cioè questo slogan che abbiamo utilizzato il 5 di novembre ma lo usiamo già dal 25 di febbraio nella prima iniziativa che organizziamo subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina l'invasione della Russia in Ucraina ha l'ambizione vuole andare in Europa non è sufficiente aver portato in piazza più di 100.000 persone avere mobilitato più di 100 città nelle settimane precedenti e tantissime tantissimi circoli comitati camere del lavoro hanno si sono mobilitate nelle città italiane ma è per noi fondamentale entrare con questa piattaforma con la nostra agenda di pace entrare all'interno delle associazioni delle reti europee perché è l'Europa che deve essere finalmente un'Europa capace di costruire la pace e capace di dire che questa guerra come tutte le guerre debbono essere ripudiate debbono essere messe al bando già dalla settimana prossima avvieremo questo percorso in cui sarete chiamati anche voi a partecipare perché una delle iniziative che si sta cercando di costruire con le altre reti europee è proprio quella di mobilitarci tra i due natali quello cattolico e quello ortodosso è un periodo chiaramente particolare non sarà facile ma dal punto di vista simbolico crediamo che sia molto importante fermarci ancora una volta e mobilitarci tutti quanti per chiedere il cessato e il fuoco e che ci sia un negoziato serio per la pace subito con l'impegno per la pace in Ucraina non vogliamo assolutamente dimenticare la nostra solidarietà l'impegno per la pace in tutta la regione del Medio Oriente e l'appoggio e il sostegno e la denuncia contro il regime iraniano per quello che stanno vivendo le donne giovani e la popolazione iraniana anche per noi e lo slogan è donne vita e libertà e vorrei concludere questo intervento visto che il tempo scorre rapido proprio rifacendomi alla presenza del nostro compagno degli artisti cubani con una frase che è tutto un programma anche per noi italiani che potete trovare nel muro di cinta del cimitero degli eroi a Santiago di Cuba una frase evocativa secondo me che fa riflettere e pensare moltissimo ed è patria es la humanidad grazie adesso interviene Alessio Curatoli Arci Campania si prepara Walter Massa cari compagni cari compagni negli ultimi quattro anni abbiamo assistito a degli eventi tragici dalla portata epocale una pandemia una guerra che torna nel cuore dell'Europa e non perché sia più tragica di quelle che vengono combattute contro il popolo sahari contro il popolo kurdo contro il popolo palestinese eppure dopo questi tragici eventi noi siamo ancora qui siamo qui perché sappiamo chi siamo siamo qui perché sappiamo cosa vogliamo ebbene noi siamo colori quali difendono e promuovono i diritti delle persone sì delle persone prima le persone a prescindere dalla razza dal sesso dall'orientamento sessuale dal censo dalla nazionalità siamo colori quali difendono e promuovono la legalità e la lotta alle mafie parola che dal vocabolario sta lentamente scomparendo in ogni luogo e in ogni posto in cui le mafie si annidano noi siamo colori quali difendono e promuovono una giustizia ambientale perché il pianeta è nostro e nessuno può violentarlo consumarlo a proprio piacimento siamo colori quali difendono e promuovono la cultura sì la cultura perché la cultura è la cura perché la cultura è la libertà è la cura all'indifferenza alle diseguaglianze alle sovraffazioni alle violenze di ogni natura tutto ciò lo facciamo ogni giorno nei nostri circoli con le nostre socie e con i nostri soci ed è da qui che dobbiamo partire per dare spazio a chi voce non ne ha abbiamo resistito in questi anni e continueremo a resistere perché noi siamo partigiani e partigiani combattiamo affinché tutti abbiano pari dignità allora lavoriamo insieme allora lavoriamo insieme a fine di rafforzare la nostra rete cominciamo con il rafforzamento dei circoli dei territoriali dei regionali proseguiamo rafforzando le reti nelle quali siamo impegnati il forum del terzo settore i centri di servizio per il volontariato i tavoli per la pace i tavoli per la povertà rafforziamo le nostre vocazioni questo a mio parere è il programma per i prossimi quattro anni vedete il primo appuntamento del 2023 sarà a febbraio a Napoli sarà a Meridiana e su questo ringrazio Daniele per il richiamo che ha fatto nella sua relazione sarà un'iniziativa che non vedrà impegnato solamente l'arci del meridione a Napoli tutta l'arci sarà chiamata a discutere sulla nostra organizzazione a sud partendo da alcuni temi che sono centrali per il meridione ma per tutta la nostra organizzazione la povertà educativa e le politiche giovanili la legalità l'accoglienza come valore ecco è da qui che noi dobbiamo ripartire queste sono le nostre parole d'ordine del nostro congresso e dei prossimi quattro anni dobbiamo avere sì la capacità di sognare più veloce e di realizzare quello che sogniamo i nostri circoli hanno la capacità di realizzarli questi sogni sono luogo di difesa di diritti sono luoghi di promozione culturale sono luoghi di partecipazione partecipazione hai ragione Daniele le ultime elezioni ci consegnano un paese che appare disinteressato indifferente bulimico ma l'attenzione non è solamente una non partecipazione è anche il sintomo di un profondo malessere che serpeggia in questo paese è un paese è un malessere profondo che travolge soprattutto la sinistra il nostro popolo le nostre esperienze ripartiamo da qui cominciando dai circoli come luoghi di socializzazione e di vita comune dai piccoli a quelli più grandi diciamo ai giovani che la possibilità di conoscere cosa sia un circolo diamogliela questa possibilità e da allora riprendiamo anche un altro tema che secondo me nei prossimi 4 anni dovrà essere centrale ripromuoviamo fortemente partecipiamo fortemente al servizio civile stiamoci dentro perché è un momento di crescita dei giovani di partecipazione e non un momento di formazione professionale non ci stiamo e allora è da qui che noi dobbiamo ripartire e questo è il nostro programma grazie Daniele per questi 20 mesi ci hai dato la tua disponibilità in un momento complicato difficile della nostra organizzazione però questo ci ha dato lo spazio per poter ricominciare a discutere a dialogare e soprattutto a crescere vedete i dati che Daniele sviscerava sulla nostra organizzazione in ripresa non sono figli solamente di una capacità così astratta ma c'è un lavoro certosino puntuale sui territori e noi qui possiamo rappresentarlo noi come Campania noi come Meridione ma soprattutto noi come organizzazione nazionale e allora termino solamente augurandoci buon congresso da qui ai prossimi quattro anni buon lavoro a tutti grazie grazie Alessio adesso abbiamo Walter Massa e poi si prepara il nostro gradito ospite Alessandro Lombardi cari compagni e cari compagni fatemi iniziare intanto ringraziando le compagnie e compagni della direzione nazionale che hanno permesso un congresso fino ad oggi meraviglioso a loro il nostro ringraziamento lo dico lo dico perché in questo in questi venti mesi questi venti mesi tornano spesso io ho scoperto davvero dedizione militanza e parte di questa dedizione militanza l'ho riscoperta grazie a loro e credo che questo sia un bene prezioso che dobbiamo non dimenticare mai vale per le compagnie e compagni della direzione nazionale vale per tutte le compagnie e compagni dei nostri circoli e dei nostri comitati territoriali e regionali so bene mentirei spudoratamente se non vi dicesi che questo per me non è un intervento come tutti gli altri come i tanti che ho fatto nei tanti congressi nei tanti organismi consigli o presidenze lo dico perché mi scuserete per l'emozione mi emoziona anche io ogni tanto perché sento il peso della responsabilità che mi ha sempre accompagnato ma in questo momento mi sta veramente pesando sulle spalle non credo che sia tutto negativo anzi penso che sia una questione molto positiva io credo che sia salutare e avere anche paura ogni tanto credo che la paura possa aiutare a rendersi meglio conto di quello che ti sta accadendo attorno e in questi giorni ho pensato un altro momento di smarrimento che ho vissuto dentro questa associazione mi è venuto in mente Tom Benettollo il nostro presidente nazionale ricordo a Bologna credo nel 2003 in un momento in cui si stava si doveva decidere che cosa fare rispetto al referendum sull'articolo 18 di rifondazione noi era stata organizzata un'iniziativa nazionale sui temi della solidarietà internazionale e interveniva Sergio Cofferati con cui io poi ho parlato diverse volte di questa cosa e lì la CGL annunciò che non avrebbe sostenuto quel referendum ovviamente si creò il panico e noi ci ritrovammo per qualche minuto da soli uscendo andai verso Tom e dissi Tom cosa facciamo e lui mi rispose con grande tranquillità noi siamo all'Arce andiamo avanti lo stesso e non ci preoccupiamo della CGL non si offenda Sergio Bassoli però ecco quello fu un altro momento di smarrimento che Tom riuscì in qualche modo a placare guardate la relazione di Daniele in cui mi riconosco anche nelle virgole c'è solo una cosa su cui farò un appunto è stata ampia ed esustiva ed è stata anche molto determinata nel rapporto con la politica e anche gli interventi delle compagnie e dei compagni che ho sentito oggi non ci tornerò più di tanto rispetto ai temi al merito che ho trovato assolutamente davvero coerenti e anche in cui mi riconosco pienamente sono un po' più interessato al rapporto nostro con la politica che credo che sia il tema a come noi dobbiamo in qualche modo vogliamo in qualche modo mantenere un rapporto con la politica e io credo che su questo ci si debba davvero confrontare perché è innegabile io l'ho vissuta la voglio condividere con voi in questi anni siamo stati attraversati anche noi da un po' di populismo da un po' di difficoltà rispetto al rapporto con questa politica che faceva da tutte le parti schifo a questa idea che spesso e volentieri ci ho attraversato che la destra e la sinistra sono tutti uguali badate in tante analisi anche di merito forse c'erano anche delle ragioni io credo che però diciamo così siamo stati davvero attraversati da una fase anche che io voglio considerare delicata e brutta e che ci ha portato anche a un certo allontanamento e questi 20 mesi invece Daniele io credo che ci abbia rimesso sulla buona strada anche per i tempi che corrono anche per il cambio di stagione che si sta avvicinando nonostante attorno a noi davvero e mi viene da pensarlo anche rispetto agli interventi della classe politica di questi giorni del nostro congresso i tempi non stanno davvero migliorando però credo che rimettere al centro la politica nel nostro dibattito nella nostra azione concreta dare un valore politico alle cose che facciamo a quel fare che deve essere anche un valore non solo una questione di quantità io credo che sia fondamentale credo che sia fondamentale avere orgoglio di quello che facciamo quell'orgoglio che spesso dimentichiamo noi ogni tanto tendiamo a autocriticarci rispetto alle cose che non vanno bene io credo che noi continuiamo a fare un lavoro straordinario politico sociale e culturale in questo paese e questa consapevolezza per noi deve aumentare perché se non siamo consapovili noi ma come facciamo a raccontarlo ai sindaci dei nostri comuni come facciamo a raccontargli agli assessori come lo spieghiamo al ministero che siamo indispensabili in questa fase storica di questo paese e lo siamo stati prima con le case del popolo e con le società di mutuo soccorso quindi io credo che davvero noi dobbiamo assumere maggiore consapevolezza e anche maggiore orgoglio non era scontato arrivare a questo congresso non era scontato anche fare i congressi nei territori con il lockdown e la pandemia è stata una vittoria io credo incredibile ci concentriamo spesso e volentieri sui numeri dal milione di soci ai 400.000 soci che ovviamente è una grande perdita che stiamo recuperando e credo anche questo sia un segnale di grande orgoglio per la nostra associazione io mi sono sempre però domandato in senso positivo come mai quei 400.000 soci con i circoli chiusi per un anno e mezzo hanno deciso comunque di aderire all'Arci e io credo che è da lì noi dobbiamo ripartire da quel patrimonio incredibile di fiducia che qualcuno ci ha dato 400.000 persone che con i circoli chiusi hanno scelto noi hanno scelto l'Arci credo che questo non possa passare come un aspetto appunto solo negativo di una perdita di soci quello per noi è un grande patrimonio pandemia in cui abbiamo riscoperto un altro valore fondamentale il mutualismo noi siamo quella roba lì noi siamo anche organizzati attraverso forme mutualistiche e praticare il mutualismo è quanto di più coerente ci sia per essere credibili credibilità che la politica in realtà ha perso proprio perché non riesce più a essere coerente con se stessa abbiamo fatto un'altra grande cosa di cui non ci rendiamo conto l'abbiamo fatta prima del lockdown ma con più forza durante il lockdown abbiamo intrapreso una battaglia contro la solitudine delle persone che Stefano prima ha raccontato benissimo la solitudine delle persone è il nostro obiettivo impedire che ciò continui ad avvenire impedire che le persone come con il lockdown soprattutto quelle più anziane continuino a rimanere in casa perché hanno paura perché questo è già un paese attraversato dalla paura ed è quella la battaglia che nei prossimi anni io credo noi dovremo fare dovremo fare pensando anche alle tante distorsioni che abbiamo vissuto in questi anni no questo è il paese che ha discusso e continua a discutere di immigrazione da vent'anni quasi venticinque e ormai da dieci anni a questa parte c'è un saldo negativo con chi invece da questo paese va via e di cui nessuno si occupa e bene ha fatto la compagna di Bruxelles a ricordarci che sarebbe una grande sfida quella di aprire un circolo in ogni paese di questo continente perché credo che sia davvero una risposta da dare non solo diciamo sia le compagnie e compagni che hanno dovuto scegliere di andare all'estero a vivere e lavorare ma è anche qui una grande coerenza con il lavoro di accoglienza che tutti i giorni facciamo nei territori credo che davvero su questo noi dobbiamo mettere in piedi un ragionamento dobbiamo aprire dei tavoli di discussione dobbiamo far discutere l'associazione dobbiamo far partecipare l'associazione perché davvero siamo in una fase io credo straordinaria positiva e straordinaria e gli occhi sono puntati su di noi da un po' di tempo fortunatamente mi verrebbe da dire io credo che in tutta questa fase noi possiamo essere anche un po' la cura di questo paese rispetto a solitudine e paura perché guardate non ricordo più chi ma mi ha fatto riflettere su una cosa in questi anni di congressi che considero molto importante noi siamo nati e cresciuti nel novecento in particolare come circoli come case del popolo come società di mutuo soccorso laddove c'era una comunità c'era la comunità e nasceva il circolo che ovviamente svolgeva tutta una serie o di servizi o comunque di lavoro di prossimità siamo entrati in una fase completamente diversa noi oggi siamo in quella fase in cui laddove ci sono i luoghi della socialità si ricostruisce la comunità e guardate che è un cambio di paradigma straordinario per noi è un cambio di paradigma che ci può portare a non dover più spiegare alle amministrazioni che cosa facciamo ogni giorno e quanto abbiamo penato durante il lockdown ma è quel cambio di paradigma per cui le istituzioni dovrebbero pagarci per aprire i circoli per non far disperdere la comunità di questo paese allora credo credo che occorra un cambio culturale anche dentro la nostra associazione guardate è una bella sfida è una bella sfida potersi immaginare come coloro che non solo possono garantire la socialità ma la possono costruire e la possono portare laddove c'è bisogno e di luoghi in questo paese dove c'è bisogno di socialità di cura di prossimità di cultura e di inclusione sono davvero tanti e credo che anche qui mi piacerebbe porre una sfida una sfida grande ma un po' di utopia io credo che sia sempre necessaria guardare l'orizzonte oltre al proprio naso sia fondamentale ma pensiamo rispetto a questo paradigma cosa vorrebbe dire avere un circolo in ogni comune italiano quei circoli che garantiscono appunto socialità cultura e inclusione ma che garantiscono anche un'altra cosa che in questi giorni è arrivata moltissimo è stata raccontata moltissimo da questo palco il rifugio per chi si sente discriminato in questo paese per chi vive una condizione di cittadino di serie B e allora e qui mi viene in mente tutta l'esperienza dei circoli rifugio che è stata una grandissima intuizione poter accogliere quelli che sono esclusi da tutti i percorsi di accoglienza e guardate non sono solo i migranti in questo paese sono tantissime e tantissimi e allora immaginarsi in questo modo pensare che noi possiamo essere utili alla tenuta complessiva di questo paese è una sfida grandissima è un sogno grandissimo ma io penso che non sia solo un sogno penso che sia una cosa che noi possiamo davvero realizzare cambiando quel paradigma e credo che questa associazione su questo dovrà interrogarsi proprio per rispondere a quelle storie che Stefano ha raccontato e che sono capitate solo quelle negli ultimi 30 giorni noi abbiamo a cuore le sorti della sinistra guardate al di là diciamo così della simpatia e dell'antipatia ne abbiamo a cuore perché dobbiamo avere diciamo così l'orgoglio e la consapevolezza che questo e quello che sta uscendo da questo congresso è un programma politico di sinistra io sono un po' imbarazzato ve lo dico dal pensare che si possa venire a questo congresso e stupirsi per il milione di soci o per venirci a raccontare di partecipare alle primarie sono imbarazzato sono imbarazzato sono imbarazzato e non basterebbero neanche le bestemmie del Ballini di prima rispetto rispetta davvero all'imbarazzo che ho provato nel sentire diciamo così i nostri leader politici ovviamente questo non mi fa pensare neanche per un minuto che noi non dobbiamo essere interlocutori di quel mondo ma quell'imbarazzo io credo che si possa vincere invertendo anche qui la rotta devono venire qui dobbiamo andare da loro a presentarli noi il programma politico di cura di questo paese di prossimità di questo paese di inclusione di questo paese e se vogliono trovare la sinistra la troveranno lì la sinistra non c'è bisogno di cercarla con l'anternino è un programma politico concreto perché passa passa attraverso io credo questo programma anche una grande opera di manutenzione che è stata iniziata con Daniele e credo che questo sia un altro grande merito di Daniele appunto una grande opera di manutenzione per me la manutenzione dentro l'arcio è sempre stata la prossimità e la cura la vicinanza al territorio la valorizzazione di quel territorio al di là delle idee differenti e anche qui permettetemi il problema non sono mai state le idee differenti in questa associazione il problema è quando dietro quella differenza di idee diciamo così non c'è più riconoscimento dell'altro ma mi pare che anche su questo abbiamo fatto un passo in avanti e abbiamo costruito un'associazione più matura e credo che su questo dobbiamo farci tutti un grande applauso perché veramente è stata più facile di quello che potevamo immaginare abbiamo due bussole straordinarie per i prossimi quattro anni il documento politico e il documento organizzativo c'è scritto tutto si tratta di trovare i soldi io sono genovese per farle però c'è scritto tutto lì dentro si può migliorare tutto ma c'è scritto tutto e credo che anche questo vada dato merito al gruppo dirigente uscente alla presidenza al consiglio di aver fatto questo straordinario lavoro ha indirizzato il lavoro nei prossimi anni e da quello che ho sentito mi pare che questo congresso lo stia facendo proprio nelle pratiche quotidiane ogni giorno e anche diciamo così nelle aspettative che sono tante e anche queste spaventano che sono uscite in queste giornate ci sono alcuni punti che io vorrei sottolineare di questi documenti il tema dei circoli è vero dobbiamo dedicare più attenzione vorrei lo facessimo un po' meno ideologicamente vorrei che lo facessimo facendoci tutti una domanda e provare a dare una risposta già nel 2023 domandarsi perché oggi un'associazione un circolo dovrebbe aderire all'alci perché io credo che dietro quelle risposte ci sta un altro grande progetto di sviluppo associativo e non è una domanda scontata potrebbe apparire scontata ma non lo è per niente cosa offriamo noi che visione offriamo anche che servizi offriamo ma se pensa a quei 400 mila che si sono iscritti all'arci con i circoli chiusi la domanda è possiamo offrire qualcosa di più che solo i servizi ma una visione di questo paese è un mondo davvero oggettivamente concretamente differente non tanto nelle sue dinamiche anche internazionali o europee ma proprio nella dinamica di comunità a me piacerebbe che su questo noi ci confrontassimo sul territorio ci confrontassimo a livello regionale che ci confrontassimo a livello nazionale perché se troviamo qualche risposta mica tante ma qualche risposta a questa domanda io credo che noi metteremo in campo il più bel progetto associativo degli ultimi 25 anni c'è il tema della filiera noi dobbiamo continuare a rafforzarla dobbiamo rafforzare un po' perché ce lo chiede la riforma ma credo che dobbiamo rafforzarla e questa filiera al di là diciamo così da dove la si guardi ha avuto dei punti maggiori di debolezza e noi sappiamo che in una filiera laddove c'è un punto di debolezza si indebolisce tutto il sistema permesso dei regionali ma questo non significa escludere da questo ragionamento i territoriali anzi io lo voglio dire con grande serenità nel mio regionale se non ci fosse stato il comitato regionale non ci sarebbe stato forse un comitato territoriale invece oggi quel comitato territoriale è in grado di camminare da solo perché c'è stato un supporto del comitato regionale che badate non è un'entità astratta è l'insieme di tutti gli altri comitati abbiamo messo in campo un processo attraverso lo strumento i comitati regionali di mutualismo è solo così con quella solidarietà interna che noi possiamo andare avanti e non costruiamo su questo battaglie che non hanno senso noi dobbiamo rafforzarla tutta questa filiera associativa c'è il tema della rete associativa nazionale dobbiamo farla dobbiamo farla anche qui perché ce lo chiede la riforma ma dobbiamo farla perché io mi immagino un'associazione lasciatemi passare questo termine che diventa un po' struso policentrica che si diffonde sul territorio che sta sul territorio che accompagna il territorio che cura il territorio che è prossimo al territorio come capite il territorio per me è abbastanza centrale e poi c'è il tema del consiglio nazionale io penso che il consiglio nazionale prossimo dovrà diventare stavolta davvero un consiglio che costruisce l'orizzonte di questa associazione che vota sicuramente il bilancio e il regolamento del tesseramento ma che costruisce l'orizzonte di questa associazione che fa tesoro di tutte quelle pratiche di tutte quelle elaborazioni che nascono nelle commissioni nazionali nei comitati regionali nei comitati territoriali che diventa il luogo dove costruiamo davvero un'associazione che guarda che tiene lo sguardo alto un consiglio per me anche un po' più autonomo nella sua gestione abbiamo scoperto finalmente gli strumenti dell'online ma che bello sarebbe avere un consiglio che si riunisce tutti i mesi ogni volta che c'è da approfondire un tema ogni volta che c'è da porre una questione poi ovviamente si riunisce anche in presenza perché siamo un'associazione che ovviamente fa anche dell'incontro della festa del divertimento come in queste serate un tratto fondamentale del suo essere ma noi abbiamo bisogno di stare anche così sul piano formativo sul piano informativo sul piano della pratica e dell'elaborazione collettiva e non abbiamo paura della partecipazione non dobbiamo avere paura io qui lo dico l'ho sempre detto e lo ripeto non penso che solo la dimensione nazionale possa diciamo così garantire la partecipazione di questa associazione dobbiamo costruire un sistema per cui la partecipazione arriva prima di tutto nei territori il coinvolgimento di tutte e tutti il coinvolgimento dei circoli qua in questa dimensione ci deve essere la sintesi si devono portare in immersione le migliori pratiche però penso che sarebbe bene non avere paura della partecipazione del coinvolgimento ogni tanto in questi anni anche questo l'ho sentito ed è giusto che ve lo dica anche se mi sembra che siamo allati avanti credo nella leadership diffusa sì l'abbiamo praticata in Liguria per tanti anni e colgo l'occasione per fare un ringraziamento me lo concederete alle compagni e compagni della Liguria che per me sono stati davvero la cura e la prossimità per me anche quando anche quando anche quando siamo stati su posizioni diverse io sono stato spesso in minoranza che è stata un'esperienza molto bella però davvero la leadership diffusa è vero lo diceva Maria Chiara io credo che davvero sia un salto di qualità anche questo per noi ed è un'altra sfida che ci pone davvero in un'altra dimensione e mi piacerebbe sul serio praticarla io non penso e non ho mai creduto agli uomini soli al comando o alle donne solo al comando ho sempre pensato diciamo così che chi assume un ruolo territoriale di circolo regionale o nazionale sia un coordinatore di un lavoro di altri più un coordinatore di un lavoro di altri sia quello che deve facilitare le relazioni sia quello lo dice lo statuto che deve rappresentare tutte e tutti e sia anche quello o quella che deve in qualche modo provare a non rifiutare mai l'incontro con l'altro sicuramente è quello o quella che deve dare sempre il miglior esempio possibile di questo di buoni esempi noi abbiamo tutte e tutti tremendamente bisogno siamo la più grande rete di presidio del territorio io vorrei che ce lo ricordassimo per quel ragionamento che facevo prima rispetto alla nascita dei circoli oggi e dei luoghi della socialità siamo anche in una fase però in cui c'è una degenerazione del sistema di welfare di questo paese io lo vorrei dire io mi sono sentito spesso ultimamente connivente di una scelta dello Stato progressiva di questi ultimi vent'anni connivente con un taglio bello lineare al servizio pubblico perché mi sento connivente perché abbiamo visto e abbiamo subito la trasformazione del mondo del terzo settore in una direzione esclusivamente di servizi mi sono ritrovato spesso nel forum del terzo settore della Liguria a dover ricordare a dover ricordare che l'Arci non è un'associazione di operatori e di operatrici sociali ma che è un'associazione di cittadini e cittadini che si auto-organizzano e anche qui per citare e ricordare Tom per l'emancipazione delle persone e tutto ciò non può avvenire con lo smantellamento del sistema pubblico e non può avvenire con lo smantellamento del sistema pubblico neanche per un'altra cosa perché il terzo settore di questo paese progressivamente è diventato il quarto stato del lavoro in questo paese e anche questa cosa è intollerabile e delle due l'una e delle due l'una e delle due l'una se siamo utili a questo paese dobbiamo anche essere riconosciuti per il lavoro che svolgiamo non può valere sempre questa cosa in entrambe le direzioni terzo settore è una riforma io non ho mai nascosto quando uscì il 117 di essere ovviamente come si fa in queste cose non si può essere sempre contenti di tutto ma intravedevo delle cose positive intravedevo finalmente una definizione del volontariato riconosciuto per tutto il terzo settore in un paese in cui era stato l'unico a dividere l'associazionismo di volontariato da quello di promozione sociale in un modo assolutamente incredibile mi convinceva anche l'idea che ci potessero essere degli strumenti nuovi penso al tema dell'impresa sociale e qualche esperimento in questa direzione io credo che l'abbiamo fatto quindi mi convinceva la pratica si è rivelata dannosa invece io penso che e su questo Danieli diceva nella sua relazione che siamo un'associazione di resistenti io ve lo dico sul fatto che i nostri presidenti di circolo debbano svolgere invece che un'attività di volontariato in favore della loro comunità per aiutare chi ne ha bisogno siano invece costretti a fare i notai i commercialisti e gli avvocati non solo non ho più voglia di resistere la resilienza non mi è mai piaciuta ma io mi voglio ribellare a questa cosa non ne posso più non è tollerabile non è tollerabile e lo voglio dire con questa nettezza perché su questo credo che vada aperto un vero confronto con la politica che viene qua a ricordarci delle primarie e del milione di soci con la politica che come diceva Daniele su questo tema o si sta con noi o si sta contro di noi per un altro grave motivo perché viene messo in discussione l'articolo 18 della nostra Costituzione la sacrosanta libertà di associarsi e fare delle cose utili per la propria comunità chiudo non voglio essere più lungo degli altri non so se sono troppo più lungo scusatemi scusatemi non lo so sono andato più lungo volevo fare una battuta tipo stai sereno ma non posso si accade chiudo chiudo con una cosa che mi hanno chiesti molti allora io e Walter Clemente ci vogliamo bene ve lo volevo dire anzi lo ringrazio a Walter ringrazio Walter perché io amo un'associazione che si dice le cose che non va dietro il corridoio a dirla ad altri quindi preferisco Walter Clemente e questa sua rudezza perché è anche la mia e quindi la riconosco da animali ci riconosciamo e ringrazio anche Walter scusate l'aneddoto perché Walter mi ha fatto fare l'iniziativa più bella che ho fatto fino ad oggi mi sono ritrovato a presentare la campagna aereo straniero con Emma Bonino sull'altare di una chiesa con cento fedeli con i provita che contestavano fuori è stata l'esperienza più bella della mia vita che è quella più formativa quindi grazie Walter rispetto alla candidatura non dico altro chiudo con un regalo che mi è stato fatto in questi mesi di campagna congressuale straordinaria io davvero vi devo ringraziare mi sono sentito a casa in ogni posto di questo paese mi è stata regalata una bellissima poesia che per me è quello che mi sento o vorrei essere ed è quello che auguro a tutte e tutte noi lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi chi non cambia la marcia chi non rischia e cambia colore dei vestiti chi non parla a chi non conosce muore lentamente chi evita una passione chi preferisce il nero sul bianco e i puntini sulle i piuttosto che un insieme di emozioni proprio quelle che fanno brillare gli occhi quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti lentamente muore chi non capovolge ma il tavolo chi è infelice sul lavoro chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati lentamente muore chi non viaggia chi non legge chi non ascolta musica chi non trova grazia in se stesso muore lentamente chi distrugge l'amor proprio chi non si lascia aiutare chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo chi non fa domande sugli argomenti che non conosce chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce evitiamo la morte a piccole dosi ricordando sempre che per essere vivo che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare soltanto l'ardente pazienza porterà raggiungimento di una splendida felicità grazie Arci come avete capito non sa recitare bene grazie 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 una breve comunicazione importante volevamo segnalare la nostra vicinanza a chi in questo momento sta manifestando sta passando il corteo all'esterno che sta manifestando per i diritti delle persone per avere una vita dignitosa un aumento degli stipendi e l'assunzione dei precari perciò siamo vicini a loro a noi perché siamo noi lavoratori e lavoratrici un grazie per il loro impegno scusate un'ulteriore comunicazione di servizio mi dicono dalla segreteria che se c'è un medico in sala è pregato di recarsi al desk qui qui fuori perché nulla di grave ma insomma ci sarebbe bisogno di un medico al desk dove sì perché io faccio vabbè allora chiedo intervenire a un amico della nostra associazione in un momento anche delicato per noi per tutto il terzo settore il dottore Alessandro Lombardi direttore generale del ministero del lavoro buonasera innanzitutto grazie al presidente Lorenzi per aver voluto dedicare uno spazio all'amministrazione che mi pregio di rappresentare mi è un po' difficile intervenire dopo chi mi ha preceduto con la passione con l'entusiasmo che veniva fuori chiaramente dalle sue parole mi dispiace per voi vi dovrete accontentare di qualche intervento come dire tipico tipico da burocrate si faceva appunto riferimento alla riforma del terzo settore sono passati cinque anni da quando è stato pubblicato il codice il 117 sono cinque anni che non sono passati in va tanto si è costruito siamo entrati in una fase in una fase viva a partire dal novembre scorso dal 2021 quando è partito il registro unico nazionale del terzo settore e mi piace evidenziare come la il percorso di costruzione di perfezionamento della riforma sia stato un percorso plurale un percorso cioè al quale hanno partecipato tutte le componenti il ministero del lavoro e delle politiche sociali in primis le altre amministrazioni le regioni gli enti locali le organizzazioni del terzo settore gli ordini professionali insomma è stata una costruzione che ha visto diversi protagonisti un lavoro sicuramente un lavoro sicuramente complesso rispetto al quale dobbiamo saper cogliere quello che è quello che è il senso quella che è la finalità di questa riforma e come poi si collocano gli enti all'interno di questa riforma sarebbe davvero molto riduttivo pensare e leggere la riforma esclusivamente come un sistema una sequela una serie di obblighi di oneri legati all'iscrizione al registro al deposito degli atti legato alle modifiche statutarie dobbiamo guardare invece alla riforma nella prospettiva di quello che è il suo scopo quella che è la sua finalità ultima ed è una finalità che vuole che muove dalla considerazione della centralità del terzo settore all'interno della nostra repubblica alla centralità della figura del volontario al ruolo proattivo che il terzo settore è chiamato a svolgere è una riforma che si basa su alcuni concetti fondamentali il primo è il concetto della fiducia ho sempre fatto questo paragone se mettiamo a confronto il codice del terzo settore con il codice dei contratti pubblici spicca subito la differenza di prospettiva del legislatore perché nel secondo caso il legislatore struttura le norme partendo dall'idea che tutti gli operatori economici sono ladri e che in tutte le pubbliche amministrazioni ci siano dei corrotti dei corruttibili o peggio ancora dei concursori di qui delle norme che tradiscono questo sentimento di sfiducia verso i due soggetti in gioco pubblica amministrazione la stazione appaltante e l'operatore economico nel codice del terzo settore la prospettiva è diversa cioè il legislatore vede nel terzo settore l'elemento della società sul quale può fare affidamento può fare affidamento chi? la pubblica amministrazione e lo vedremo però poi in che termini ci possono fare affidamento i cittadini in che termini si può parlare di fiducia fiducia significa che io come pubblica amministrazione a tutti i livelli mi posso sedere al tavolo con te ente del terzo settore e posso ragionare con te sulla programmazione di zona sulla programmazione dei servizi sulla progettazione degli interventi ragionare insieme in posizione paritaria per farlo però devo sapere che chi ho davanti risponde a determinati requisiti sono quei requisiti che sono posti dal codice al tempo stesso i cittadini hanno bisogno non hanno bisogno devono potersi fidare devono poter fare affidamento sulla credibilità sull'attendibilità degli enti di determinati enti questo perché sapere che quell'ente svolge quell'attività ma non solo svolge quell'attività nello svolgere quell'attività porta con sé una determinata idea ha una certa dimensione organizzativa chi sono i suoi i componenti dei suoi organi che risorse muove che utilizzo fa di queste risorse aiuta ogni cittadino ad assumere una scelta più consapevole decidere più consapevolemente a chi destinare il 5 per 1000 a favore di quale ente realizzare una donazione e infine a favore di quale ente associarsi o svolgere la sua attività volontaria non sono elementi secondari assolutamente tutto questo viene realizzato attraverso una serie di strumenti fra i quali serie di vincoli di limiti di opportunità e di strumenti e di prescrizione ma alla base vi è appunto questa logica della fiducia questa logica della fiducia che poi porta con sé un altro elemento quello relazionale se ci pensate bene il codice del terzo settore è un invito costante a creare legami a creare rapporti a creare sinergie e alleanze alleanze fra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore che collaborano nella crescita della comunità di riferimento ma anche alleanze fra enti del terzo settore fra enti del terzo settore fra altre realtà non lucrative che sono ugualmente presenti su quel territorio legami fra enti del terzo settore e il mondo profit la misura del codice del terzo settore e l'apertura all'esterno l'invito a superare quella tendenza un po' all'autorappresentazione all'autoreferenzialità che un po' caratterizza alcune realtà del terzo settore se io unisco le mie forze come circolarci presente sul territorio con il centro anziani con la polisportiva dilettantistica e con altre realtà presenti sul territorio avrò probabilmente la possibilità di massimizzare le risorse a disposizione anche poche e di sviluppare un'azione molto più coerente su quel territorio a beneficio della comunità creare legami ecco la seconda parola fondamentale che viene secondo me deve essere presa in considerazione all'interno del codice e allora quando vediamo che ci si sente sopraffatti o soverchiati da quelle che possono essere degli oneri amministrativi pesanti dobbiamo fare questa riflessione il codice del terzo settore non ha introdotto nessun obbligo ulteriore perché io immagino che ogni circolo arci alla fine di ogni almeno una volta all'anno faceva e continua a fare l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio ogni circolo arci tiene un libro dei soci ogni circolo arci teneva ancora prima della riforma del terzo settore il libro dei volontari tutte cose che già esisteva una sola novità è stata richiesta depositare quegli atti in un registro che sarà poi reso pubblico appunto per quella esigenza di trasparenza funzionale a rinsaldare i legami fiduciari all'interno della comunità non facciamo in modo che lo strumento diventi il fine ultimo della nostra riflessione guardiamo sempre a queste disposizioni come a delle disposizioni strumentali e soprattutto facciamoci questa domanda quale sarebbe la reazione che si avrebbe se domani quando il registro del terzo settore sarà pubblico a 360 gradi e noi andiamo a schiacciare il bultone per avere le informazioni di un determinato ente del terzo settore e noi ci aspettiamo noi inteso come qualsiasi cittadino ci aspettiamo di avere un foglio esattamente corrispondente all'omologo della visura camerale con tutti quanti i dati che ci sono di una società andiamo a stampare quel foglio e a malapena troviamo la denominazione sociale il codice fiscale dell'ente e tutto il sistema che ha fallito e la credibilità viene persa credibilità che è un qualche cosa che non dobbiamo mai dare per scontato per acquisito ma è un qualche cosa che si rinnova costantemente attraverso diversi modi interagendo con le comunità e appunto anche attraverso questi sistemi di trasparenza che sono stati previsti e che non sono fini a se stessi e come dicevamo prima è importante che questi elementi però non diventino il nostro la nostra prima riflessione mi sono piaciuto e ho apprezzato particolarmente il fatto che in questi pochi minuti nei quali ho avuto la possibilità appunto di condividere con voi una parte un pezzetto di questo percorso si siano poste delle domande di senso su quello che è il fine ultimo dell'associazione su quale obiettivo vogliamo andare a puntare su quale obiettivo l'associazione vuole andare a puntare la sua azione e questo è quello che poi il codice del terzo settore richiedeva e richiede e vuole stimolare ragionare in termini di prossimità di vicinanza al territorio ragionare che è uno dei punti cardine secondo me oggi che viene ricordato è stato ricordato anche come uno dei punti di forza del terzo settore è stato ricordato anche dalla nostra Corte Costituzionale che ci dice appunto come proprio questa capillarità del terzo settore consente meglio di rilevare i bisogni della comunità considerare il terzo settore considerare se stessi avere consapevolezza che ogni organizzazione del terzo settore è portatrice dell'interesse generale che significa che io non sono più la stampella della pubblica amministrazione mi siedo al tavolo in una posizione paritaria con la stessa collaboro con la pubblica amministrazione attraverso appunto quegli istituti dell'amministrazione condivisa che il codice ha voluto appunto valorizzare e in questo modo si possono anche in questo modo superare quelle distorsioni che conosciamo di procedure di gara con sistemi e meccanismi di aggiudicazione al prezzo più basso ecco sono una serie di elementi che sono presenti nel codice ma questi sono degli elementi valoriali che attivano processi attivano processi che sono di media durata di medio periodo perché richiedono non soltanto una conformazione un adeguamento di tipo organizzativo normativo a quella che è la nuova cornice ma richiedono anche l'acquisizione di una nuova forma mentis da parte di tutti a partire dalle pubbliche amministrazioni immaginate quella che la prospettiva diversa nella quale un'amministrazione locale ad esempio si viene a trovare quando posta di fronte alla necessità di soddisfare un bisogno di una comunità anziché sviluppare normalmente una gara d'appalto in cui la pubblica amministrazione è il dominus ecco sviluppa apre un tavolo di coprogettazione con gli enti del terzo settore è un cambio culturale non soltanto normativo che richiede apparati amministrativi forti da parte delle pubbliche amministrazioni ma richiede anche una struttura forte da parte del terzo settore che sia in grado di sedere a quel tavolo e a proporre delle idee e poi a poterle sviluppare in collaborazione con l'amministrazione ed eventualmente anche con gli altri enti del terzo settore presenti cambiamento culturale che è richiesto anche nelle singole regioni negli uffici del registro unico nazionale del terzo settore siamo assolutamente eravamo assolutamente consapevoli del fatto che il passaggio dai 43 registri originari all'unico registro non sarebbe stata una passeggiata di salute non sarebbe stata un'operazione semplice il lavoro che abbiamo avviato all'indomani del codice del terzo settore è appunto quello di permettere l'acquisizione in capo a tutti coloro a tutti i funzionari delle regioni come dell'ufficio statale del registro della consapevolezza di far parte di un sistema unico di un sistema organico non si realizza dalla sera alla mattina ma è un processo che stiamo sviluppando e continueremo naturalmente a sviluppare collaborazione istituzionale è il primo tema sul quale appunto la prima linea metodologica alla quale il ministero del lavoro ha ispirato la sua azione secondo il dialogo sociale tutto quello che si è sviluppato nel corso di questi anni a partire dall'entrata in vigore del codice del terzo settore l'adozione dei decreti attuativi i correttivi le circolari e così via discorrendo sono anche il frutto di una di una collaborazione di una interazione stretta con con le rappresentanze del terzo settore di un confronto sempre costante nel rispetto ovviamente dei reciproci ruoli e in questo senso abbiamo voluto valorizzare molto il ruolo delle reti associative l'anno scorso abbiamo appunto elaborato e discusso una circolare che era quella appunto sulle reti associative sulla loro funzioni sui loro compiti sulla loro strutturazione che è stato il frutto di una appunto di questo dialogo e a proposito di alcuni adempimenti che sono legati ai presidenti dei circoli che sono costretti a fare i notai in quella circolare si valorizza il ruolo della rete associativa perché attraverso i suoi snodi attraverso le sue articolazioni territoriali può farsi carico e può svolgere quelle funzioni come dire amministrative in nome e per conto di tutti quanti gli associati ecco sono delle opportunità sono delle occasioni che sono frutto di una riflessione che non viene sviluppata all'interno di quattro mura del ministero ma che si alimenta dal confronto costante e di questo vi posso sicuramente dare una una conferma è una è un'attestazione io sono 26 anni oramai che faccio parte del ministero lavoro e delle politiche sociali da quando sono entrato come dire mi è stata trasmessa a me come a tutti quanti coloro che lavorano in quell'amministrazione una proprio un insegnamento importante un'impronta metodologica importante quella del dialogo del dialogo sociale fa parte del nostro dna confrontarci quotidianamente sulle tematiche del lavoro come sulle tematiche sociali e questo sarà continuerà ad essere la nostra linea metodologica proprio perché siamo consapevoli del fatto che l'azione amministrativa che è il frutto del confronto produce atti qualitativamente migliori quindi benvengano le riflessioni benvengano tutte le proposte come in questi anni sono state formulate e le soluzioni che possono migliorare ulteriormente l'impianto normativo del codice perché troveranno sempre il massimo ascolto la massima attenzione e il vaglio critico ovviamente da parte della nostra amministrazione un'ultima considerazione abbiamo prima fatto riferimento al ruolo delle reti associative non a caso in una fase quale quella attuale in cui siamo entrati nella fase della concreta applicazione del nuovo impianto normativo il ruolo delle reti associative è ancora più importante proprio per fare in modo che la riforma impatti positivamente su tutti quanti gli enti specie quelli di piccole dimensioni ad esse aderenti e in questa logica proprio quest'anno il ministero del lavoro ha deciso di destinare le risorse di rilevanza diciamo di spettanza statale destinate appunto al sostegno degli enti del terzo settore ha deciso di destinare buona parte di queste risorse ad una specifica priorità il potenziamento della capacità organizzativa delle reti associative perché siamo consapevoli che da essa dal rafforzamento di questa infrastruttura passa una parte ed una fetta importantissima del successo della riforma perché consente di tenere insieme le realtà più piccole che costituiscono poi l'ossatura del terzo settore italiano e la risposta anche in questo caso da parte delle reti associative è stata significativa e nei prossimi giorni appunto avremo la possibilità di procedere concretamente alla erogazione delle risorse alle reti che hanno presentato appunto il loro programma di attività in questo modo dando un ulteriore puntello alla impalcatura complessiva della riforma nella consapevolezza come ho detto prima che si tratta di un lavoro plurale di un lavoro al quale tutti quanti ciascuno ovviamente nei rispettivi ruoli è chiamato a dare la sua parte e il suo contributo grazie per l'attenzione e buon proseguimento prima di cambiare la presidenza mi chiedono di leggere un annuncio vi ricordiamo che se volete raccontare in diretta radio la realtà del vostro circolo potete andare alla postazione di Radio Underground Italia che insieme a Radio Barrio raccontano il congresso con la trasmissione tutto il congresso minuto per minuto e adesso chiamiamo no quindi non facciamo il cambio di presidenza Sestito Roversi Tiberio Cascetta Barbolini si prepari Andrea Polacchi grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Inizio questo intervento ringraziando Carlo Testili per avermi messo in lista dopo Massa e Lombardi, una accoppiata direi estremamente impagnativa per quanto variegata. In realtà un ringraziamento vero voglio farlo e voglio ringraziare Vito Scalisi, Arci Roma e tutti i circoli dell'Arci di Roma e del territorio per averci ospitato in questi giorni, per aver organizzato una bellissima programmazione artistica ed averci accolto nel migliore dei modi. Circoli che come tanti circoli, come la nostra associazione, hanno dimostrato di essere resistenti come la nostra Arci. Non è stato facile resistere in questi anni, non è stato facile perché abbiamo attraversato in qualche modo una tempesta perfetta. Pandemia, crisi economica e guerra. Forse qualche anno fa, se ne avessimo parlato, ci saremmo messi a ridere nell'ipotesi di dover attraversare un periodo storico di questo tipo. E all'interno un'evidente crisi non solo delle formazioni politiche della sinistra, non solo dell'aspetto elettorale, ma una crisi che ha attraversato il variegato mondo della sinistra e che ha messo in discussione e che ha reso evidente la difficoltà della creazione di una narrazione e di un pensiero egemone della sinistra nel nostro Paese. Una crisi quindi culturale, una crisi culturale in cui i modelli vincenti si basano sulle idee performative, idee solo e sempre performative, su idee di autopromozione di sé, sulla affermazione economica a danno degli altri, su idee che adulano il potere invece di problematizzarlo e su idee che soffocano il conflitto invece di alimentarlo. Insomma, una crisi di modello di sviluppo. Luca Sardo, l'altro ieri, ci ha raccontato benissimo, dei Fridays for Future, ci ha raccontato benissimo, con delle parole importanti, cosa sta accadendo in questo momento nel mondo. E ci ha raccontato alla perfezione come è evidente che l'equilibrio tra ambiente, persone ed economia ormai si sia spezzato definitivamente. In questo casino, non mi vengono altre parole per definirlo, si è innestata la riforma del terzo settore. Ora ho stracciato un pezzo di intervento, essendo Lombardi ancora in sala, come segno di rispetto a tutte e tutti noi, naturalmente, e al nostro futuro. Però è evidente che è una riforma, è una legge che ci ha messo in gravissima difficoltà, una legge che è nata sulla scia emotiva degli scandali di mafia capitale, una legge che ha assunto una sorta di presunzione di colpevolezza nei nostri confronti, in cui dobbiamo dimostrare che tutto si è a posto, invece del contrario. Che ci ha riempito di adempimenti, ci ha riempito di burocrazie, soprattutto ha inserito una confusione, ci fa vivere una confusione fiscale che chissà se mai verrà meno e se mai risolveremo. E in questo quadro, che avrebbe scoraggiato probabilmente chiunque, e non voglio scoraggiare naturalmente la sala, io credo che in questi mesi si sia organizzato un percorso di partecipazione, di confronto e di elaborazione in tutta Italia, in tutti i territori, che non ha uguali nessuna organizzazione di massa del nostro Paese. E io voglio ringraziare veramente Daniele Lorenzi per aver impostato questo percorso congressuale, che sarà, sì come l'ha definito simpaticamente Grellini, un pezzo di antiquariato, però questo pezzo di antiquariato ha saputo guardare lungo, ha saputo impostare un percorso di discussione, un percorso congressuale che oggi ci fa trovare qui e ci fa parlare e confrontarci nel miglior modo possibile e soprattutto ha rimesso al centro i temi. Abbiamo organizzato dei momenti di discussione importantissimi e fondamentali in questi mesi. Abbiamo organizzato Equa, abbiamo preso di petto le disuguaglianze ad Equa che attraversano il nostro Paese, abbiamo preso di petto il tema dell'inclusione, il mutualismo, abbiamo provato a riscrivere una grammatica della solidarietà che non criminalizza i poveri e la povertà, non parla e ne si butta nell'assistenzialismo, ma mette al centro due temi fondamentali che fanno parte del presente, del passato e dovranno fare parte del futuro della nostra associazione, l'emancipazione e il conflitto. Abbiamo partecipato a strati, strati della cultura, in cui abbiamo iniziato a scrivere la traccia di nuove rotte culturali con attori partner nuovi e che ci hanno riportato a essere centrali all'interno del dibattito culturale del nostro Paese, dei centri culturali di comità di cui noi dovremo essere protagonisti nell'imporre e affrontare e prendere anche in questo caso di petto per difendere il nostro modello associativo. Abbiamo organizzato e abbiamo attraversato Sabir, il mitico antirazzista, guardando il mondo con gli occhi di chi fugge, di chi scappa, che ricordiamo è un diritto inalienabile, fuggire e scappare da alcuni contesti sociali. E soprattutto abbiamo guardato gli occhi di chi vive dalla propria pelle le disuguaglianze. Abbiamo organizzato l'incontro importantissimo, e lo cito per ultimo, ma non per importanza, sul genere. E direi finalmente, finalmente abbiamo aperto una riflessione su un tema che dovrà portare dei cambiamenti, che dovranno portare dai concreti cambiamenti, che rivolti a tutti noi, e uso il maschile non a caso. Ora, io non sono venuto qua per raccontare la cronologia di questi mesi, perché l'abbiamo vissuta, e tanti di noi l'abbiamo vissuta, ma per forse ricordarci che un pezzo di rilancio e il cambiamento non inizierà oggi, ma perché è già iniziato negli scorsi mesi. L'abbiamo iniziato a fare e sarà compito di tutte e tutti noi metterlo in atto giorno per giorno. E lo dovremo fare con coraggio, con determinazione e con cura. Con il coraggio di innovare, di sperimentare e anche di rischiare tante volte. Con la cura dei processi di partecipazione e la cura nelle relazioni che dovremo tenere tra di noi. E forse è una cura che la nostra associazione negli scorsi anni non ha avuto e dovremmo riporre al centro. E soprattutto la determinazione di provare a cambiare, sì, questo quadro normativo, ma di mettere al centro un tema di cui ha parlato il secondo intervento che ha aperto il nostro congresso questo giovedì. Mettere al centro il tema dell'uguaglianza. Io penso che non sia possibile in alcun modo, ed era la compagna Sara Pilia, se non sbaglio, delle Marche. Io penso che potremmo mai rivendicare giustizia sociale e uguaglianza al di fuori del nostro Paese, nei contesti sociali in cui operiamo, se non la pratichiamo al nostro interno. E quindi dovremmo camminare al passo del più lento, dovremmo fare in modo che ci sia l'uguaglianza dei servizi e delle relazioni di sviluppo associativo in tutti i territori, dalle città metropolitane alla più lontana area interna di un Paese di provincia, dal nord al sud, dalle isole alle montagne. E io credo e sono convinto che quanto abbiamo fatto, anche in termini di elaborazione, in questi mesi come Presidenza, ed è tutto scritto nel documento organizzativo, vada esattamente in questa direzione. Dovremmo essere quindi determinati, coraggiosi e, mi viene da dire, anche un po' ribelli. E su questo termine non posso che ricordare un compagno che non c'è più, che sarebbe sicuramente all'interno della delegazione regionale, un compagno che ha dato tantissimo alla storia dell'Arci in tutta Italia, che è stato uno degli animatori e creatori di Ana Grumba, l'associazione nazionale dei gruppi musicali di base. Ed è la persona che propose un emendamento allo statuto, all'interno di una commissione a statuto, chiedendo che venisse inserito il diritto alla felicità. Ecco, io un ricordo a Beppe Grumbi, che non c'è più, lo farei, lo tributerei in questa sala. Perché credo che, anche grazie a lui e anche grazie alla sua proposta che venne accolta di diritto alla felicità, penso che tutti assieme noi saremo in grado di rispettare questo punto del nostro statuto nei prossimi anni. E lo faremo tutte e tutti insieme. Grazie. Chiamo Rossella Vigneri, si prepara Aldo De Sì. Buonasera, buon pomeriggio a tutte e tutti. Vorrei iniziare raccontandovi la storia di una lotta, di una lotta di donne, iniziata un anno fa davanti ai cancelli della Saga Coffi a Gaggio Montano, nel Lampendino Bolognese. Un territorio fragile, come tante aree interne del nostro Paese, dove alle volte mancano i medici di base o chiudono i punti nascita, dove i nostri spazi, preziosissimi, fanno fatica a sopravvivere. Dove le aziende, dal giorno alla notte, decidono e possono farlo di delocalizzare senza alcuna considerazione per la vita delle persone. Siamo pieni in Italia di storie ingiuste come questa. Abbiamo sentito ieri la testimonianza di Dario Salvetti. E la maggior parte di queste storie non finisce bene. A Gaggio Montano, gli operai, ma soprattutto le operaie della Saeco, che erano la maggioranza, 200 su 220, hanno vissuto 100 giorni davanti ai cancelli di una fabbrica, anche sotto la neve. Hanno lottato e alla fine è arrivata una nuova proprietà e un nuovo progetto industriale. Vi racconto questa storia perché questa non è stata solo la lotta di un gruppo di donne tenaci e di un sindacato, la FIOM. È stata la lotta di una comunità che ha scelto di reagire a un'ingiustizia e per tre mesi è stata in presidio con le operaie, facendo in modo che questa storia diventasse visibile a tutte e tutti. Un fatto pubblico che richiamava una responsabilità collettiva. Associazioni, cittadine e cittadini, sindaci, femministe, realtà culturali, istituzioni, hanno sostenuto con i loro corpi le loro voci, i lavoratrici e i lavoratori. E credo che questa storia abbia tanto da insegnarci su come noi, su come tutta l'associazione, a tutti i livelli, debba agire nei prossimi mesi. Mentre il sistema sanitario pubblico si sgretola, mentre si continuano ad avvantaggiare le imprese a scapito dei lavoratori, mentre si toglie un reddito di cittadinanza a chi vive non per scelta, in condizioni di marginalità, come se la povertà fosse una colpa, mentre si cercano di restringere gli spazi pubblici della discussione e della contestazione, smettere di resistere, l'abbiamo sentito tante volte questa parola, resistere al Covid, dal caro Bollette, una riforma che ci ha mortificato, e iniziare a lottare con più convinzione per provare a cambiare l'ordine delle cose. Lottare insieme ai nostri circoli, nei territori, stando in mezzo alle cose e agli avvenimenti, agire collettivamente per rendere i nostri spazi luoghi trasparenti, in grado di mettere in connessione il dentro e il fuori, e di accogliere le persone che ieri Franco Grillini, e non solo, ha definito cittadine e cittadini di serie B. Sfugge molto spesso alla politica, alle amministrazioni locali, a volte persino a noi stessi, quando siamo alle prese con la sostenibilità economica dei nostri progetti, delle nostre organizzazioni, ma noi non diamo assistenza, noi abbiamo la responsabilità di creare opportunità. L'Arci è un organismo potente, fatto di storie, intelligenze, progetti, luoghi, visioni, culture, e quello su cui dobbiamo interrogarci oggi, a tutti i livelli, è non solo come facciamo a tutelare questo patrimonio, come possiamo farlo crescere, ma come, con quali strumenti, con quale organizzazione, riusciamo a mettere questo patrimonio a disposizione della collettività. Come il fermento, le competenze, le energie che attraversano la nostra associazione possano diventare un antitodo contro l'odio, contro la paura, contro l'indifferenza, contro chi vuole relegare nuovamente la donna al focolare domestico. Lo dico pensando alla regione da cui provengo, l'Emilia Romagna, perché nel discorso politico a cui siamo abituati, ma anche in tante discussioni che sento nella mia bolla bolognese, ci percepiamo spesso come dei privilegiati, come se fossimo immuni ai richiami della destra e su questa convinzione ci siamo troppo spesso seduti. La rendita è finita. Nelle nostre case del popolo ci sono soci, la minoranza sicuramente, che dichiara tranquillamente di votare Fratelli d'Italia. Tanti circoli rischiano di chiudere o hanno già chiuso e battenti, anche perché non sono capaci di rigenerarsi. Le persone vivono sempre peggio e quello che gli si è detto è che devono prendersela con chi sta peggio di loro, non con chi si arricchisce ingiustamente. Per capire cosa vogliamo diventare, io penso che dobbiamo tornare a studiare. Istruiamoci, formiamoci, progettiamo, sperimentiamo, usiamo nuovi strumenti e soprattutto mettiamo in connessione circoli, comitati, esperienze, costruiamo occasioni di confronte, di partecipazione, perché le tante realtà che sono oggi in questa sala si sentono quotidianamente parte di un progetto collettivo, anzi, possano ogni giorno prendere parte a un progetto collettivo. Lavoriamo per aprire un dialogo con tutte le realtà sociali che si muovono dentro e fuori dal nostro mondo, costruiamo nuove alleanze, partendo dalla consapevolezza che nessuno si salva da sole e che oggi dobbiamo tutte e tutti assumerci il rischio politico di uscire dalla propria comfort zone. E infine lasciamo spazio. Facciamo spazio ai giovani, a chi proviene dai territori più fragili e faticosi, ai migranti, a chi non ha diritto di cittadinanza, alle minoranze. Diamo un nuovo protagonismo agli anziani e a noi donne dico prendiamoci lo spazio, non aspettiamo che ci venga concesso, noi possiamo essere le protagoniste di questa rivoluzione. In un comitato composto prevalentemente da donne abbiamo imparato sulla nostra pelle quanto non sia facile ricoprire un ruolo politico ed essere una dirigente di questa associazione in un mondo che resta prevalentemente maschile e maschilista. Ma abbiamo anche sperimentato la possibilità di modificare alcuni aspetti della nostra organizzazione, i tempi e le modalità del lavoro, i percorsi di partecipazione e democrazia interna, ma soprattutto abbiamo condiviso il nostro sguardo e la nostra consapevolezza con gli uomini e le donne dei nostri circoli e dei nostri organismi dirigenti e tutti e tutti noi stiamo crescendo, stiamo commettendo anche degli errori, ma stiamo crescendo. Cambiare un mondo disegnato per rispondere alle esigenze degli uomini è una sfida enorme, ma è nostra responsabilità provarci, a partire dalla nostra organizzazione, attraverso il lavoro politico e culturale che abbiamo iniziato nella Commissione Tematiche di Genere, che oggi voglio ringraziare e che dovrà proseguire nei prossimi anni anche insieme agli uomini il lavoro. Guardando al nostro futuro, di tutte e tutti noi, alle volte vi confesso mi prende lo sconforto, ma guardando la passione della mia delegazione, ascoltando gli interventi anche di tanti giovani e volti nuovi che ho visto qui al Congresso, credo ancora possa essere un viaggio bello, anche se ci mancheranno alcuni compagni. Ringrazio Daniele, Alessandra e tutte le persone che hanno ricordato Michele Girotti in quest'ultimo anno, a nome di tutta l'Arci di Bologna. Oggi Michele sarebbe stato seduto qui insieme a noi, ci avrebbe dato una mano per non commettere leggerezze o imprecisioni e non avrebbe detto molto altro, perché Michele si è sempre messo al servizio dell'Associazione, di qualsiasi cosa ci fosse bisogno, sempre un passo indietro. Oggi, anche grazie a lui, noi andiamo avanti, con orgoglio e con coraggio. Grazie. Grazie, Rossella. Ora, chiamo al podio Aldo Dessi, presidente dell'Arci Sardegna, chiedo a Francesca Coletti di prepararsi, che seguirà con l'intervento, e colgo questi secondi, mentre Aldo si prepara lo smartphone con i suoi appunti per dire che in sala, e lo ringraziamo per essere qui con noi, abbiamo Jean-René Bilongo, chiedo scusa se sbaglio un po' la pronuncia, che è della Fly CGL, del responsabile dell'osservatorio Placido Rizzotto. Grazie per averci raggiunto e per seguire con noi i lavori. Un applauso più che meritato. A te, Aldo. Dunque, io vorrei partire dall'inizio, vale a dire dalla ricca e puntuale relazione di Daniele, per ringraziarlo innanzitutto per il lavoro fatto in questi quasi due anni. Il ringraziamento a Daniele ovviamente è ricompreso il ringraziamento a Walter, a Raffaella, a tutta la squadra che in questi due anni ha reso possibile le condizioni di oggi. Perché sono stati venti mesi difficili per le condizioni esterne innanzitutto, a partire dalla pandemia, che se è vero che ci ha fatto riscoprire un mutualismo interno, è anche vero che ci ha sbattuto in faccia alle contraddizioni di un modello economico che fa crescere a dismisura le disuguaglianze, di cui il tasso di povertà assoluto al 10% della popolazione ne è brutale, rappresentazione e sintesi. Ma anche interne, perché ha saputo interpretare al meglio il bisogno del nostro corpo associativo di uscire da un periodo di tensioni interne, sia per creare le condizioni innecessarie a costruire e rilanciare un nuovo protagonismo dell'Arci nella società italiana, ma anche per consentirci di affrontare con una serenità non scontata questo momento congressuale. E' proprio lo svolgimento di questo congresso, con le testimonianze che abbiamo ascoltato della ricchezza delle nostre basi associative, con i riconoscimenti del nostro ruolo nel mondo dell'associazionismo nel nostro Paese, con la condivisione dei nostri valori fondamentali anche da parte di importanti soggetti politici e istituzionali, e che ci dicono che, dal mio punto di vista, le parole d'ordine del nostro congresso, essere moltitudine e sognare più veloce, ne sono anche l'obiettivo. E che ci indicano anche, lo svolgimento di questo congresso, come realizzare questi obiettivi. Gli interventi che ci sono succeduti da questo palco ci dicono che per sognare più veloce abbiamo necessità anche di abbandonare schemi consolidati, anche mentali, ad esempio sulle forme associative piuttosto che sugli ambiti di attività, sulle filiere organizzative piuttosto che sui sistemi relazionali nei territori, ma curando di non lasciare indietro nessuno, agendo le comunità in cui operiamo, semmai ampliando e creando nuovi momenti, strumenti e modalità di partecipazione sempre includenti. L'apertura verso modelli associativi diversi dalle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato, e al mondo dell'impresa sociale ne sono testimonianza. Ma allo stesso tempo, rispetto ad esempio all'impresa sociale, contrastando con determinazione tutte quelle norme che si propongono di ricondurre verso un modello di impresa, magari persino alleggerito dalla qualifica sociale, tutto il mondo associativo. L'obbligatorietà della partita IVA, la complessità di alcune procedure burocratico-amministrative, imposte indiscriminatamente da tutti, dal codice del terzo settore, a prescindere da qualsiasi altro parametro, costituiscono i primi ostacoli che prioritariamente dobbiamo proporci di abbattere. Essere moltitudine. Giovedì pomeriggio io ho sentito, per la prima volta in un consesso come questo, di questa rilevanza, Maurizio Landini dichiarare che nemmeno la CGL, da sola, ce la fa ad uscire dall'incubo. E lo fa constatando che condividiamo molti valori, molti obiettivi, che possiamo fare pezzi di strada assieme. Così come hanno fatto molte grandi organizzazioni sociali, a noi più o meno vicine, da questo palco e persino qualche forza politica, talvolta anche sorvolando queste ultime sulla propria coerenza tra il dire e il fare. Il 5 novembre scorso abbiamo avuto una rappresentazione plastica di quali potenzialità siano insite nella pratica di essere moltitudine, ognuno con le proprie peculiarità e la propria identità, ma solo trovando sintesi e obiettivi condivisi. Personalmente sono convinto si è giunto il momento di pensare a un luogo in cui alimentare questa condivisione, cementare questa comunanza di obiettivi. E penso anche che l'Arci debba farsi carico di svolgere in un disegno di questo tipo un ruolo trainante e dicollante, che non significa ovviamente costituire un nuovo partito o proporre addirittura un modello pan-associativo, ma agendo come motore del cambiamento. Ma dobbiamo essere moltitudini anche in modalità interna. Significa che il circolo e il grillo che ieri ha citato Sara Pillia, piuttosto che il nostro circolo al rubio, rosso in italiano, con i loro 50 soci, debbono essere, e percepire di esserlo, mattoni essenziali del nostro essere arci. Alla stessa stregua delle grandi realtà metropolitane, ma alla stessa stregua anche delle aree marginali, periferiche delle grandi aree metropolitane. In alcuni casi dovremmo persino averne più cura, perché in quelle piccolissime comunità in cui l'ufficio postale, la scuola, persino il medico non ci sono più, sono l'unico presidio di partecipazione civica e sociale, l'unico soggetto che tiene in vita una rete comunitaria. E dovremmo averne cura offrendo loro, certo, una visione politica, ma anche un set minimo di formazione, di supporto progettuale, di assistenza. L'ormai insostenibile astensionismo elettorale ci dice anche che una grande parte della società non trova oggi spazi partecipativi in una società che propone l'individualismo spinto quale modello di riferimento, col risultato di accentuare fragilità e solitudine, la negazione, cioè, della socialità. Creare socialità, passare dalla solitudine dell'io alla forza del noi è l'unico modo per provare a invertire questo trend. Assieme. Fare, cioè, larci, in poche parole, e farlo bene. permettere anche l'essere moltitudine a disposizione di un progetto di ricostruzione nel nostro Paese di una sinistra capace non solo di contrastare i nuovi fascismi, ma di lavorare per la riemersione di una egemonia culturale oggi solo apparentemente sconfitta, ma, io sono convinto, latente. Noi tutte e tutti, larci, possono farlo. Grazie. Grazie Aldo ed è con grande piacere che diamo la parola alla nostra Presidente onoraria, Luciana Castellina. Io ho voluto intervenire soprattutto per comunicarvi a tutti che io, nonostante oggi sia raro, sono ottimista. non per carattere badate, ma ragionando. Ottimista prima di tutto adesso perché ben più di quanto mi sarei aspettata, vi dico la verità e speravo, questo congresso Arci è meraviglioso e voglio ringraziare Daniele per il lavoro che ha fatto in questi anni e vi dirò la verità che anche il giovane Walter per me è sembrato promettente. Siamo forti, siamo forti e possiamo fare di tutto. Voglio parlare a partire da alcuni degli interventi che sono stati fatti. Comincio da Silvia che ci ha soffermata su una cosa che fanno quasi tutti i circoli, ballare. Io credo che molti politici circini ci guardano con ironia ogni tanto e dicono l'Arci balla, l'Arci per fortuna balla. Vorrei subito dire che è importantissimo ballare naturalmente perché aiuta a trovare l'esistenza dell'Arco, fa uscire dall'isolamento e tante altre cose. soprattutto combattere la peggiore egemonia di questo sistema, l'orribile individualismo che ha preso tanto piede in questo periodo. E vorrei anzi dirvi che rivolgo una speranza, una ricetta alla prossima presidenza. Penso che sarebbe molto bello se il prossimo congresso lo terminassero, lo concludessimo con una festa da ballo. Pensate, io penso, badate, penso che sarebbe molto utile perché ci aiuterebbe anche a noi a conoscersi meglio l'uno che l'altro. Quando si balla non è come stare in una riunione, ci si conosce molto meglio. Forse presenterò un emendamento per farvelo votare, vabbè, spero che lo volete. E adesso passo all'intervento di Landini che ci ha detto badate delle cose molto nuove, molto nuove anche per il sindacato e credo che dobbiamoci riflettere e che solo mi pare molto interessanti anche per il nostro lavoro. Ha parlato del sindacato di strada e del valore che le camere del lavoro hanno avuto un tempo e che si è molto ridotto negli ultimi decenni e oggi questo diventa prezioso perché sappiamo bene che la frantumazione della classe operaia e del lavoro sempre meno permette al sindacato di operare attraverso i sindacati di categoria e sempre più ha bisogno anche lui di una comunità sul terreno. E' importante io credo questo perché queste cose indicate dal segretario della CGL sono io credo qualche cosa che ci interessa molto. Innanzitutto perché noi siamo come è noto i paladini e i padroni del territorio della comunità lo ripetiamo in ogni intervento noi teniamo la comunità giustamente. Voglio solo aggiungere un piccolo particolare siccome io ormai sono sempre più d'accordo col Papa badate anche con i militari perché i militari dicono le cose migliori sulla questione della guerra dicono che non si può fare e loro sono in tempo. bene sono molto contenta che siano venute le iraniane le afghane i kurdi eccetera eccetera perché il Papa parlando della comunità ha detto beh certo la comunità il territorio è una cosa molto importante a condizione che lo sguardo resti sull'altrove e questo come sapete è un giusto correttivo del comunitarismo perché altrimenti il comunitarismo rischia di essere qualche cosa che somiglia a quello della Lega cioè il localismo per fortuna l'Arci non è mai stata così e questa presenza straniera io credo che sia molto importante allora bene noi siamo sul terreno il luogo dove si costituisce la comunità e insisto su questo perché a me pare che questo impegno della CGL rappresenti uno stimolo prezioso per il nostro lavoro il lavoro immediato perché è giusto e qua si è parlato molto di guardare lontano dell'avvenire di tutto questo ma guai a non guardare molto bene anche il presente quello che dobbiamo fare immediatamente perché lo sguardo lungo vada nella direzione giusta cosa intendo dire intendo dire che oggi noi dobbiamo affrontare un grande cambiamento storico perché dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre il nostro modo di consumare il nostro modo di vivere ce lo impone il limite oramai indiscutibile che ci viene imposto dalla natura che non possiamo continuare ad ammazzare che non possiamo più continuare neppure badate a continuare a pensare che possiamo andare avanti a produrre nello stesso modo le stesse cose per via di un esaurirsi ormai da tempo del modello di sviluppo fondato sulla moltiplicazione di merci superpole e sulla caduta la riduzione continua dei servizi degli ospedali della scuola della ricerca degli spazi culturali che non si trovano più per le città l'ho detto ebbene da marcio questa è una cosa importante e allora dobbiamo siamo arrivati al limite la crisi attuale non è una crisi congiunturale passeggera è una crisi strutturale e di sistema già cominciata come vi dicevo agli anni 70 e alla fine culminata nella grande controoffensiva conservatrice di Anna Thatcher di Reagan e degli altri negli anni 80 che hanno inferto al movimento operaio una sconfitta pesante di cui ancora paghiamo le conseguenze e allora non pensiamo che sia facile continuare riprendere che adesso poi passata l'inflazione passata la crisi del gas riprendiamo come prima i margini che hanno consentito il welfare per uno sviluppo felice che andava avanti non ci sono più da tempo e ce saranno sempre meno erano fondati sulla deplapidazione della natura e sull'idea che il sistema potesse andare avanti come prima e dunque sarà più dura tutto questo sarà più duro ottenere che questo sistema in qualche modo ci conceda quella tranquillità compromesso sociale come l'abbiamo chiamato compromesso socialdemocratico che ci ha reso un'andata una società non tanto cattiva nel trebdegno immediatamente post bellico occorre ottenere oggi non pensiamo che questo cambiamento potrà venire da chissà quale parlamento da chissà quale governo non lotterremo se non cominciamo noi a praticare l'obiettivo come si diceva nelle fabbriche nel meravigliosi anni 70 delle grandi lotte se non cominciamo noi a costruirlo sul territorio anche attraverso forme di democrazia diretta di autogestione del territorio di vertenze le vertenze che non possono non esserci non si può pensare che si fa solo manifestazioni di strada e proteste ecco perché quello che dice la Nivi è così importante per noi è importante perché per fare tutto questo abbiamo bisogno sul terreno anche di alleati di compagni di strada di creare cioè delle vere e proprie reti se no non potremmo andare avanti abbiamo bisogno di costruire una rete con i sindacati con le cooperative con i movimenti con Fly for Future con i gruppi femministi e così via e per riuscire a fare appunto a costruire ecco un'altra cosa che è stata detta da chi è intervenuto a nome della GKM le case matte le case matte come sarebbe una parola gramsciana Gramsci aveva scritto nei quaderni che era necessità era sempre più necessario integrare la democrazia delegata quella che noi viviamo con forme di gestione diretta che ci facciano sempre che oggi appaiono ancora che le forme di democrazia diretta perché quelle sono quelle che ci impediscono di pensare che tutto è o privato o statale noi abbiamo fatto un gran parlare di beni comuni come sapete però non l'abbiamo mai attuato abbiamo fatto un grande ritraendo per l'acqua quando l'acqua abbiamo vinto poi non abbiamo costruito case matte vale a dire consolidato organismi grazie organismi che potessero gestire tutto quello che questo rappresentava e allora in questo momento in cui noi viviamo una crisi grave non della sinistra badate anche della sinistra ma la sinistra è in crisi perché è in crisi grave la democrazia che ha ammazzato tutte le forme di collegamento tra la società civile e le istituzioni ha impedito che ogni cittadino avesse un protagonismo nella politica e allora se vogliamo anche salvare la sinistra dobbiamo innanzitutto rammendare questa democrazia e allora io credo che sia molto importante riuscire a ricostruire sul terreno forme di democrazia organizzata che diano ai giovani la sensazione che loro sono i soggetti della politica non sono i propagandisti di quello che si fa in Parlamento questo è decisivo io non credo che i giovani siano spoliticizzati badate non sono sono spoliticizzati perché gli interessa sempre meno di fare i propagandisti di un dibattito del Parlamento che è sempre più vuoto pensate che quest'ultimo dibattito per la crisi che è durato anche parecchio ha visto nominare le parole relative all'ecologia per lo 0,5% perché i giovani si dovevano intorsiare di un dibattito che relegava in un posto così secondario la questione fondamentale che abbiamo di fronte a noi e allora voglio dire una cosa suggerire una cosa pratica il sindacato edili e il sindacato pensionati hanno costituito da qualche mese una bella associazione che io credo ci faccia molto comoda si chiama Nuova Rigenerazione ed ha l'obiettivo di ridisegnare la città il quartiere il paese per renderle ecologicamente compatibile e per riuscire a costruire una comunità una forma di autogestione che ridisegni la città in modo di dare creare servizi trapporti spazi di tutti quanti i generi come si fanno questi costruendo quelle forme di potere autogestito che ci consentono di dare forza alle vertenze forza per ottenere e starpare di finanziamenti ma anche di creare noi stessi forme di piccole cooperative di servizio di comunità che le quali ricostruire e ridisegnare il nostro territorio e credo che questo sia essenziale non solo perché è essenziale fare questo ma perché è essenziale avere delle nuove forme di democrazia organizzata sul territorio a Roma al quartiere quarticciolo abbiamo provato a farli con il sindacato Edili a cui la prima cosa che gli ho chiesto è stata di fare un'assemblea con i gruppi femministi che è stata bellissima si somigliano poco gli Edili e le femministe come sai dico fisicamente perché dal segretario del sindacato Edili che è grasso con la barba e le femministe ci manca poco però è stato un colloquio interessante perché gli Edili sono quelli che non potranno più cementificare il territorio e fare 30.000 appartamenti ma dovranno per l'appunto rammendare riparare riorganizzare a partire da quello che c'è e le femministe sono quelle che devono dire come vogliono che la città sia organizzata in modo tale da avere un complesso di servizi che riesca a sollevare e a dar meno lavoro a quel lavoro che oggi serve a far vivere l'umanità ma che come sapete è affidato al loro buon cuore e alla loro beneficenza perché lo fanno gratuitamente e guardate insisto su tutto questo perché vedete le donne hanno molto lottato per il diritto al lavoro e per il diritto all'accesso a tutte le professioni e hanno vinto ma poi andiamo a guardare i dati hanno vinto perché oramai lo sapete sono le cifre sono impressionanti 58% di lavori nella sanità sono donne 44% sono magistrate 46% sono prefetti e così via ebbene anche manager ma anche lì andiamo a vedere e fra i manager gli uomini manager hanno finito al 95% le donne manager al 35% vuol dire che per fare tutti questi lavori hanno dovuto rinunciare a qualche cosa che non è obbligatorio per le donne per carità di Dio ma comunque a cui molti di noi tengono che tengono tutti infatti guardate siamo arrivati a questo punto che 2 milioni e mezzo di donne ogni anno al primo figlio sono costrette ad andare via dal lavoro un altro mezzo milione l'anno dopo e al 50% c'è di nuovo una fuga perché le donne più anziane debbono fare le nonne per consentire alle figlie di lavorare il risultato di tutto questo è che il tasso di natalità in Italia è arrivato all'1,3% vale a dire che in qualche decennio gli italiani potrebbero sparire e allora vi dico la mia paura perché siccome Giorgia lo sapete ci tiene molto alla razza italiana non agli italiani alla razza italiana il rischio che possa provvistare di questo dato per dire che è bene che le donne ritornino tutte le famiglie così si salva la razza italiana e che noi rischiamo di vedere elogorato un diritto che abbiamo conquistato e che è il diritto di lavorare ma anche di avere organizzato in modo diverso il lavoro di cura in modo di non forzarcelo tutto sulle nostre spalle con un grande fatica e sacrificio come sappiamo e allora abbiamo bisogno di nidi abbiamo bisogno di spazi abbiamo bisogno di servizi con le fili e di flessibilità nell'orario finisco subito di ridisegnare il nostro modo di vivere è anche un lavoro culturale è un lavoro molto culturale è perché si tratta di pensare a un'altra felicità anziché tanti prodotti da poter comprare al supermarket invece al meta meno lavoro una riduzione dell'orario di lavoro servizi che ci consentano di lavorare in modo più sereno e allora un altro dato biblico badate le nuove tecnologie potrebbero già ridurre il nostro lavoro moltissimo perché molto meno le nuove tecnologie ci permettono non più di dover lavorare tantissimo per la sopravvivenza come era due secoli fa oggi ci consentono di lavorare meno e tuttavia i dati ci dicono che l'orario di lavoro non è affatto diminuito ma in Italia in America ovunque in questi anni il salario di fatto è aumentato e le previsioni ancora sono queste che in tutto il novecento lo sviluppo tecnologico che pure sapete che è stato molto ha ridotto l'occupazione tradizionale del 15% le previsioni per il secolo che stiamo vivendo è che la riduzione del lavoro tradizionale sarà del 75% e allora badate che facciamo andiamo verso se non ci muoviamo avremo un 75% di persone ricche che vivono bene e che saranno istruite e un 75% di persone che o non avranno lavoro o avranno un lavoro miserabile faranno le badanti dei ricchi perché non vedete che si estende l'area di chi fa le pulizie e bada la salute prepara da mangiare fa tutto tutto quello che si deve fare e questo credo che è una società che noi non possiamo accettare e allora dobbiamo prepararci a fare in modo che a gestire il processo tecnologico non siano i ricchi con i loro algoritmi incontrollati voglio dire con tutto questo compagni che dobbiamo fare la rivoluzione non ci sono salse ormai come dire è in qualche modo è in qualche modo inevitabile e immediato naturalmente è chiaro non penso che dobbiamo andare a prendere Palazzo Cisi del resto non ci troveremo niente di interessante ma dobbiamo è un processo lungo naturalmente come di nuovo Gramsci ci ha insegnato e dobbiamo però popolarlo questo processo di conquista di casamatte e di egemonia culturale vi ho detto che ero ottimista vi dico solo una cosa da questo punto di vista in Giappone c'è un docente dell'università di Tokyo che ha scritto un libro sulla decrescita io quando dico decrescita non dire decrescita perché la gente si spaventa meglio non dire invece bisogna dire decrescita è una cosa per far crescere tante altre cose che sono più belle Carlo Mazze ne parlava ne parlava come sapete ne ha parlato a lungo ha parlato tantissimo di come avrebbe potuto essere il tempo con quale felicità e così via ebbene questo professore giapponese ha fatto questo libro sulla decrescita tutto spostato su come sarebbe bella la crescita diversa è diventato un best seller l'hanno comprato 500 mila persone e per chiunque abbia qualche frequentazione di case editrici è una cifra enorme ma un sendaggio ulteriore ha indicato che queste 500 mila persone che l'hanno comprate sono quasi tutti giovani i giovani non sono spoliticizzati io credo e cerchiamo di tradurre questo libro dal giapponese appena ci arriva anzi sarebbe bello fare un'edizione dell'Archim non ce lo lasceranno fare grazie 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 dopo l'intervento della nostra Luciana sarà difficile però è uno dei nostri dirigenti più importanti e storici non avrà timore di intervenire adesso Francesca Coletti io direi una sciocchezza se dicessi che sono emozionata secondo me il termine più esatto è quello veramente del senso di ebbrezza cioè di ubriacatura e di ubriacatura di cosa? siamo ubriachi io mi sto ubriacando di noi stessi perché le cose che da tre giorni accadono e diciamo qui in questa sala sono quelle cose che non sentiamo che sono negate che facciamo fatica ad affermare fuori nella quotidianità quando lavoriamo sul territorio invece ormai sentirle da tre giorni sentirle dette da noi ti dà quella ubriacatura quell'entusiasmo incredibile che ci deve dare la carica sicuramente per per affrontare il 5 di dicembre ma anche per iniziare a capire poi che fuori ci sono gli altri no? e quindi torniamo in quel territorio in quella situazione dove dobbiamo provare a portare un cambiamento ad essere un soggetto di cambiamento allora alcune delle cose io credo che ce le siamo dette con grande nettezza cioè che c'è più guerra e che in questa più guerra ci siamo noi ci siamo noi con le nostre responsabilità e con le nostre armi che non fanno finire la guerra ma che la fanno continuare che c'è più divisione e noi chiamiamo il territorio che ci sentiamo profondamente radicati dal territorio dobbiamo dire fortemente no alla proposta più divisiva che esiste in questo momento nel paese che è quella del ministro Calderoli sull'autonomia differenziata e non dobbiamo solo dirlo ma dobbiamo raccogliere quelle firme che già è possibile raccogliere su quella legge di iniziativa popolare che vuole provare a preservare la costituzione e l'unità del paese quindi con un impegno concreto e poi dobbiamo provare l'abbiamo detto l'abbiamo detto in tanti parlando del reddito di cittadinanza ma dobbiamo acquisire quella visione rispetto alla vicenda della povertà e che oggi è il vero blocco per lo sviluppo e per il benessere di questo paese perché non solo aumenta la povertà ma aumenta in maniera profonda nel tempo cinque generazioni per uscire fuori dalla povertà ci vogliono cinque generazioni per smettere di essere povero sembra quasi una di quelle maledizioni delle favole che si dicono le streghe dicono no cinque generazioni di dannati invece no invece è la realtà cioè quello che stiamo vivendo nel nostro paese e nonostante questo guardate c'è chi si aggrappa a un timone e fa quattromila e cinquecento chilometri di oceano per arrivare in occidente aggrappato al timone di una nave cioè quindi siamo in un momento di complessità in cui trovare le risposte e provare a capire come metterci al servizio come metterci al servizio delle aspettative che giustamente da tante parti si volgono a noi per la crisi della politica perché c'è il muro di gomma che sentiamo no nelle nostre città sulla stampa nella comunicazione in narrazioni sbagliate perché sì ci si aggrappa a un timone però l'unica cosa che non lamentinano in questo paese sono i migranti e questo lo dobbiamo dire forte cioè un'operazione di verità e di dialogo che vuol dire anche ragionare con le persone e con i diversi da noi e io su questo vorrei provare a spendere qualche altro minuto poi non prenderò tempo quello che dobbiamo fare e quello che possiamo fare per rispondere alle aspettative e crescere come rete associativa è quello di aprirci anche e lavorare con gli altri io credo che in questo momento dobbiamo essere franchi siamo un soggetto che fa e siamo un soggetto che pensa che elabora ma pensa che elabora a partire dalle pratiche che facciamo e quindi che siamo terzo settore non possiamo pensare che la questione oggi di rimente del terzo settore sia solo la burocrazia certo noi dobbiamo impegnarci e ci stiamo impegnando e dobbiamo impegnarci di più per fare in modo che il quadro normativo e regolamentare sia sempre più realmente uno strumento al servizio della trasparenza realmente un servizio alla possibilità di costruire fiducia e altre relazioni tra noi come ci diceva Lombardi non c'è dubbio questo lo dobbiamo fare e dobbiamo fare in modo che non sia un orpello l'attività principale su cui spendere le nostre ore le nostre giornate del nostro tempo ma l'attività di servizio alle cose e alle pratiche che costruiamo però dobbiamo dirci una cosa francamente cioè che c'è una grande questione e la grande questione su cui noi possiamo intervenire è l'idea di terzo settore è l'idea di quelle organizzazioni anche diverse dalla nostra anche con tradizioni storia e vocazioni diverse dalla nostra ma che sono oggi nostre compagne di strade innanzitutto nel forum del terzo settore che è l'unica rete stabile interassociativa di diverse vocazioni che fa politica che fa politica dal basso facendo pratiche e lì ci dobbiamo confrontare dobbiamo creare massa critica e dobbiamo anche sapere mettere le mani su quella grande questione che è l'innovazione sociale e la sperimentazione perché dobbiamo dircelo francamente oggi sul tema dell'innovazione sociale della sperimentazione delle pratiche del volontariato dell'impresa sociale della cooperazione sociale ci sono due rami di polarizzazione uno è quello che vede l'innovazione sociale nella prototipazione aziendale e l'altro quello però che vede l'innovazione sociale come qualcosa in cui dietro la sossidiarietà si nasconde l'interesse privato invece no dietro la sossidiarietà ci siamo noi ci siamo quelli che fanno le cose ci sono i circoli ci sono le cooperative ci sono le pratiche qual è lo strumento e come possiamo provare a fare in modo di avere la barra dritta no e trovare la strada per costruire e rendere efficace la nostra rete e le nostre le nostre organizzazioni io credo che è una cosa che noi abbiamo e che dobbiamo portarci dietro in questo cammino che è l'organizzazione la nostra grande struttura associativa qualcuno dice del novecento io credo che sia estremamente moderna e diciamolo anche in maniera molto franca il più grande uno dei più grandi delle più grandi bugie del mio liberismo è la obsolescenza programmata non c'è una cosa che finisce non c'è una cosa che ha termine noi sulla questione dello stare insieme siamo ancora nuovi siamo ancora diversi il fatto che oggi in questi giorni ci siano qui cinquecento persone che vengono da tutta Italia da comunità e territori diversi non è un qualcosa del passato non è un orpello da buttare via non è qualcosa di vecchio è qualcosa oggi che incrocia le generazioni che sta incrociando tanti ragazzi e nuovi dirigenti e tante altre persone della nostra associazione che la vita ce l'hanno passata qui e che hanno fatto una scelta di militanza e allora chiudo io credo che questo è quello che noi dovremo provare a portarci da domani mattina quando dopo questo splendido congresso dopo questa ubriacatura avremo il tempo di sedimentare le idee le proposte le buone pratiche che abbiamo scambiato in questi giorni non soltanto nelle commissioni nei grandi interventi e nelle cose che ci siamo detti ma anche nei momenti in cui siamo stati insieme a cena a giocare e a scherzare fuori dal congresso bene io credo che questo sia lo scenario che ci attende e che il nuovo gruppo dirigente ha il compito di portare avanti quindi faccio gli auguri a tutti faccio gli auguri a Walter faccio gli auguri al prossimo congresso al prossimo gruppo dirigente che noi siamo qui costruiti in questa bellissima esperienza grazie grazie allora chiamo Gianluca Mengozzi e si prepara Di Gregorio cari compagni e cari compagni intervengo con grande emozione ed è stato difficile scegliere cosa dirvi perché mi sorprenderà ma è la prima volta che intervengo al congresso nazionale dell'Arce perché ho passato tre congressi chiuso in una stanza la stanza della commissione elettorale a fare il mio servizio per l'associazione cosa che fortunatamente a questo giro ho delegato ad altre compagnie ed altri compagni che mi hanno sostituito in questo ruolo e per questo ancora più un'emozione ancora più un privilegio parlarvi e soprattutto ascoltarvi nei vostri interventi bellissimi in cui si è dispiegato in questi giorni l'ampio respiro della nostra associazione riflessioni profondità analisi che dimostrano quanto la dirigenza dell'Arce sia capace di un pragmatismo che deriva dalle sue radicate consapevolezze e anch'io ringrazio Fil Lorenzi Daniele Lorenzi per la sua generosa disponibilità a fare il presidente e per aver creato questo bellissimo clima che sento in questa sala e lo ringrazio anche per aver citato nei termini giusti il ruolo di Arx nel sistema di Arci di aver ricordato il senso del lavoro della nostra ONG che l'11 novembre scorso ha rinnovato le sue cariche con una grande partecipazione più di 70 delegati a conclusione di un lavoro iniziato anni prima portato avanti con impegno dal gruppo dirigente uscente con un concorso di intelligenze e di sapienze associative in un contesto reso complesso dalla riforma è ne emersa compagni e compagni una Arx fatta di Arci solo di Arci di comitati che aderiscono consapevolmente all'NG che delegano in assemblea finalmente la persona che pensano più adatta a rivestire quel ruolo ad occuparsi della proiezione internazionale della loro comunità del loro gruppo un percorso partecipato lasciatemi dire anche virtuoso un buon esempio un modello di cui credo dovremmo tenere di conto nelle sfide che ci attengono molti interventi nell'assemblea di Arx e c'erano molte e molte di voi nei molti interventi sono emerse tante aspettative tante proposte tanti impegni che chiamano al lavoro la dirigenza la presidenza l'assemblea di Arx in tutti gli interventi è emerso il senso della collaborazione tra Arci e Arx prima di tutto il contributo che Arx deve dare all'animazione sociale dei circoli prima di tutto l'attivazione della militanza il coinvolgimento delle comunità e soprattutto il coinvolgimento dei più giovani che sono le persone più curiose del mondo più sensibili alle ingiustizie più severi verso il cinismo dei modelli economici che sono dominanti in questa grande sala bellissima ci sono tante persone che come me si sono impegnati nell'Arci per fare solidarietà internazionale molte delle persone che sono in Arx hanno avuto questa sorte come me e come me hanno avuto la possibilità di dare sostanza alla loro voglia di militanza facendo la cooperazione internazionale dell'Arci e hanno avuto la possibilità di divertirsi ed io compagni e compagni mi sono divertito tantissimo ho passato anni fantastici mi sono innamorato dell'Arci facendo la cooperazione allo sviluppo e per questo adesso sento il dovere di dare questa stessa possibilità come è stata data a me alle ragazze e dai ragazzi che si sono avvicinati all'Arci nei circoli nei comitati perché ogni circolo ogni comitato ogni associazione culturale della nostra associazione ha qualcosa di importante da mettere a disposizione della solidarietà internazionale i suoi saperi le sue prassi le sue capacità e una visione del mondo e del futuro giusta sostenibile solidale e noi abbiamo il compito di creare occasioni ponti confronti collegamenti il compito l'obbligo il dovere perché come ci ricordano tanti interventi la nostra dirigenza dei circoli oppressa da incombenze e impoverita dal coli dal covid deve essere aiutata a riempire circoli di animazione sociale e politica questo è il nostro ruolo ricordandoci che l'Arci fa dell'internazionalismo solidale un principio identitario fin dalla sua fondazione su principi che legano i popoli in vincoli di sorellanza di fratellanza e di collaborazione come ci hanno ricordato gli interventi calorosi riconoscenti di Secours Populaire e delle istituzioni culturali cubane il nostro compito è quello di creare spazi in cui si possa esercitare un'azione civica di mondialità in cui si possano praticare i principi dello sviluppo reciproco in cui si è ad ultimo le nuove generazioni della cittadinanza globale perché la cittadinanza globale del mondo intero è l'unica davvero che riconosciamo che ci fa sentire l'angoscia della popolazione ucraina in guerra dei ragazzi a cui si mette un elmetto e un fucile e si mandano a morire al fronte ricordandosi che è una vergogna che l'Italia che ripudia la guerra commerci in armi e che lo faccia e che lo faccia con stati che non riconoscono nemmeno l'obiezione di coscienza una visione internazionale che ci fa sentire nostra l'angoscia della popolazione kurda calpestata da Erdogan della grande comunità sarawi senza terra del popolo palestinese a cui dobbiamo rinnovare solidarietà cercando di essere degni dell'insegnamento del nostro grande Renzo Maffei dirigente di Arce e di Arts modello del nostro agire sociale promuovere la pace contro un intero sistema che la sostiene la legittima e a dolore a sentire parole di belligeranza da persone che hanno storie di sinistra pace prima di tutto tacere delle armi come chiedemmo venti anni fa a Firenze sfidando al termine del social forum avevamo ragione allora e abbiamo ragione oggi e allora compagni e compagni ricordandoci un fatto importante che noi siamo l'associazione dei circoli delle case del popolo e abbiamo centinaia di circoli dedicati alla cara memoria dei martiri della lotta di liberazione del fascismo dobbiamo ricordare che questa libertà non può valere solo per noi ma può valere solo per noi in Italia ma deve valere in ogni paese del mondo in cui non sia assicurata la libertà di espressione di associazione la libertà i diritti civili come adesso nell'Iran e in tanti altri luoghi ed è davvero importante poter contare sul lavoro di una grande ONG efficiente specializzata attiva in tanti paesi con un personale generoso militante motivato compagni e compagni bravissime con una dirigenza consapevole e finalmente desiderosa di un impegno che ringrazio di essersi messa a disposizione nelle varie articolazioni della dirigenza consapevole soprattutto di un fatto importante e cioè che l'ARCS è una ONG speciale ed è una ONG speciale perché è l'ONG dell'ARCI vi ringrazio grazie a Gianluca sta arrivando Francesco Di Gregorio presidente di ARCI Puglia e si prepara Massimo Maisto presidente di ARCI Emilia Romagna Buonasera a tutti ho qui degli appunti per seguire che iniziano così guardate intorno con aria spesata ed è sono emozionato aspetta qualche attimo prendi cinque punti al fantacongresso vado bene una cosa nostra grazie uno approfitto per ringraziare tutti e dire sono emozionato ma sono emozionato non tanto per me ma per voi che avete l'opportunità di sentire un miente intervento lo vedo proprio dai vostri volti l'attesa e quando si partecipa a un congresso c'è sempre l'imbarazzo del tema da affrontare non hai tanti minuti in delegazione ci si divide i ruoli e un po' tutto quello che va detto ringrazio in particolar modo per gli interventi di Luca Cantelli di Walter Massa e Luciana che non pensavo assolutamente per citare queste tre persone insieme però hanno trattato un po' i temi di cui avrei parlato volentieri che sono un po' il racconto dell'Arci che il racconto della mia Arci e il racconto che è anche quello dell'Arci Puglia diciamo l'intervento di Walter ci ritroviamo in tutto quello nel percorso che vogliamo fare questo mi ha dato la possibilità di poter parlare anche di altro in questo caso quindi proverò a leggere perché non sono un gran che non è da raccontare un piccolo dettaglio anziché tutta l'Arci che vuoi dire e naturalmente per fare tutto questo dovevo dare un titolo al mio intervento che per essere figo ho chiamato chiaramente in maniera unica per uscire da un incubo bisogna sognare più veloci per uscire da un incubo bisogna sognare più veloci spesso per sognare più veloci non bastano le idee non basta la buona volontà non basta l'innocenza a volte servono anche i mezzi per sognare più veloce sì perché anche se sei bravissimo a sognare poi senza mezzi rischi di sognare male o non abbastanza veloce e quando i sogni non sono mai abbastanza veloci il rischio è quello di farsi raggiungere dagli incubi di essere costretti a risvegliarsi perché in una notte di venare se non hai almeno una coperta calda una coperta calda risvegliarsi è l'unico sogno o incubo possibile e in questi giorni qui a Roma girando la sera ho trovato diverse persone che dormivano solo con una coperta non sempre è possibile queste copeste e questi mezzi non sempre è possibile procurarsi queste copeste e questi mezzi soprattutto nel DASCI aspetta ho sbagliato qualcosa soprattutto nel DASCI possiamo procurarci di DASCI non perché non sappiamo come fare ma perché a volte questi mezzi devono essere forniti dai rivelli sovraordinati quindi per combattere l'incubo a Sant'Eramo in Cosa il mio paese abbiamo bisogno di far sognare veloce il circolo DASCI di Santeramo fa sognare veloce il territoriale Baribat fa sognare velocemente il comitato regionale per poi fa sognare velocemente anche la presidenza quindi anche gli incubi devono essere abbastanza lunghi e duraturi sto cercando di rimuovere il punto scusatemi riprende il punto Baribat sognare l'incubo deve essere abbastanza lungo altrimenti ci si sveglia per strada un mio amico Dira che immagino conosciate tutti tutti sapete che è Dira è un esperto di incubi è una delle suoi citazioni che a me piace in particolare è il mio mondo vive nei sogni e sta morendo di realtà ma nel detto presto tardi dovremo sempre tornare e gli incubi sono sempre dietro il tronco encefalico naturalmente questo l'ho trovato su internet per capire dove era il sogno ed è proprio uno di questi incubi nascosti dietro il tronco encefalico che oggi come presidente di Arci Puglia sono qui a raccontare in questo caso la trafina del sogno o dell'incubo nasce nel 2019 presso il circolo Arci Mixed LGBT di Bari Puglia ha sollevato la questione del tesseramento delle persone trans ci sembrava assurdo per una realtà inclusiva come Arci e come Valeria la nostra compagna quando parla di spazi dice sempre perché le persone vengono nei nostri circoli perché si sentono assicuro subire la violenza istituzionale di doversi trovarsi a esibire documenti di riconoscimento che non fossero rappresentativi della propria identità di genere dai quali non emerge il proprio nome di elezione ma il nome assegnato alla nascita da qualcun altro l'autodeterminazione è uno dei valori fondamentali in cui crediamo strettamente portiamo avanti una visione del genere che non è rigidamente binaria eteronormativa che non ha necessità di appellarsi a dogma del genere identità di genere o orientamento sessuale bel lontano da canoni imposti bel lontano da un sistema di funzionalizzazione economica dei nostri colpi e delle nostre relazioni dopo 60 anni ha deciso di mettere in discussione la propria forma del tesseramento accogliendo la nostra richiesta e fornendo la possibilità di tesserarsi con il codice fiscale anziché con nome e cognome il portale informatico ha messo a disposizione l'opzione altro a fianco di uomo e donna ma questo non basta dal codice fiscale emerge senz'altro il sesso assegnato da nascita potenzialmente rivela il nome non solleva dagli imbarazzi di un coming out forzato dalla scelta obbligata di mettere a cosente almeno una persona all'interno del circolo di informazioni sensibili la regge 164 del 1982 attualmente vigente in Italia non ci affranca da una visione patologizzata e stigmatizzante della transessualità sottopone coloro che affrontano percorsi di autoaffermazione e un intermedico regale obbligatorio lungo e costoso talvolta inaccessibile che di fatto rascia a lungo le persone trans sprovviste del diritto al nome del diritto alla propria identità la regga è margini di qualsiasi relazione in cui esse non intendono stare con un nome in cui non si riconoscono per questa ragione Alci Puglia propone al nazionale di ricavare un margine nel sistema informatici in cui come Alci ci serviamo per procedere alle operazioni del tesseramento proponiamo la possibilità aperta a tutti di compagni di pretesseramento in cui inserire il proprio nome ufficiale rimasto ripostato sui documenti non aggiornati ed eventualmente associarlo al nome e lezione che in questa maniera sarà l'unico a essere portato a conoscenza di tutte le altre persone del circolo si ritiene indispensabile di conseguenza che Alci Nazionale poi possa portare questa istanza a registro unico del terzo settore questa soluzione posterebbe riparo le persone trans da tutti i rischi sopra elencati e contestualmente assicurerebbe a tutti i circoli alci sul territorio nazionale la possibilità di verificare l'identità della persona tesserata prescindendo dall'inedita inclusione nella sfera privata riteniamo che questa misura possa suggerire un cambio di passo a livello istituzionale nella direzione ormai maggioritaria del resto d'Europa è la degiuridicazione dei percorsi riconoscimento regale del genere non sono bravissima a leggere senza bisogno di documenti tipo naturalmente tutto questo lavoro a quello che ho detto si capiva che non era scritto totalmente ma è un lavoro di cui ringrazio principalmente il circolo Mixed di Bari a cui oltre a ringraziare per il lavoro fatto ringrazio anche per la pazienza della nostra capacità di risolvere e di sognare veloce sono quattro anni dall'ultimo intervento in cui postavamo questo problema che dire grazie a tutti scusate se non sono stato bravissimo precisissimo sono più bravo a ballare però Luciana se vuoi possiamo andare a ballare insieme sogniamo velocemente sogniamo insieme combattiamo gli incubi al ballo e alla rotta Massimo Maestro a te la parola grazie intanto grazie non ero più abituata ai congressi arci bellissimo grazie davvero mai avrei pensato da ragazzo che nel 2022 sarebbe stato necessario come ha fatto un esponente politico giovedì risottolineare non è vero che il mercato ce la fa da solo in passato era l'abc della sinistra a volte non solo della sinistra e invece è importante non solo che lo dica l'arci ma che lo si dica nell'arci nei nostri congressi come è successo giovedì appunto significa anche però che abbiamo perso prima dal punto di vista politico abbiamo perso prima ancora che dal punto di vista politico abbiamo perso dal punto di vista culturale a mio parere è stata fatta una riforma del terzo settore purtroppo dal centro-sinistra che chiama le nostre segreterie le nostre presidenze consigli di amministrazione siccome le parole contano segnano incanalano trasformano e conservano già queste parole ci dicono che abbiamo perso il mercato non basta e poi si chiamano CDA i nostri gruppi dirigenti per lo più volontari tranquille e tranquilli mi prendete in giro soprattutto dalle mie parti a volte per il mio ottimismo a volte un po' funambolico ma convinto sono ancora ottimista perché le cose cambiano le cose possono cambiare le cose si possono cambiare le cose le possiamo cambiare e noi siamo sempre qui dobbiamo e possiamo cambiare grandi cose ne sono state dette tanti oggi ci lavoreremo intanto diamoci da fare so che Walter lo farà per cambiare la legge per spostare un po' di energie da RUNZ alla socialità alla cultura cambiamo questa legge in modo che i gruppi dirigenti siano meno CDA e più persone libere e liberi nel RUNZ mi sono inventato questo slogan nel mio congresso regionale non ho tanto da dire sui temi politici non perché io non abbia idee molto in sintonia qualcuna volta è sempre stato così nell'Arci un po' diverse dalla maggioranza dell'Arci ed è il bello però di trovarsi insieme a casa dicevo non perché io non abbia idee ma perché sono qui in questa assemblea scusate sto facendo come ciccio perché sono qui in questa assemblea e in questo congresso e qui ci si riconosce nelle decine di interventi che ho sentito che hanno sollevato temi proposto e soluzioni come fa l'Arci indicato strade e ponti come piacciono a noi adesso un po' di impegni devo fare il presidente dell'Arci Emilia Romagna se no rimanete delusi e deluse ci prendiamo come Arci Emilia Romagna collettivi impegni collettivi no presidenzialismo ma leadership diffusa sia chiaro sono stato uno dei primi forse a dirlo per me leadership diffusa e no presidenzialismo significa avere un presidente una presidente più autorevole riconosciuta non depotenziata noi italiani spesso anche per come è la politica siamo abituati a pensare male un presidente che riesce a tenere insieme una leadership diffusa fa più fatica ed è più autorevole ed è più forte di qualunque idea presidenzialista e personalistica primo impegno rilancio dell'identità soprattutto attraverso progetti gruppo di lavoro ed elaborazione tenuta economica dobbiamo dirlo maggiore attenzione alle persone arci siano esse volontari dirigenti attiviste di queste io me ne voglio far carico personalmente rafforzamento del nazionale e del regionale non a scapito dei territoriali e dei circoli incentivare la creatività e l'elaborazione coniugando l'organizzazione con la nostra vena anarchica con un po' di gioiosa indisciplina è il bello una delle tante ma per me è una delle più belle cose dell'arci credo fosse giusto elencare questi impegni che prendiamo per la nostra parte non solo con il futuro gruppo dirigente ma con tutto il congresso e con tutta l'associazione adesso mi lascerete spero qualche minuto per parlare non solo del mio ruolo associativo ma da Massimo Maisto operatore culturale come per decenni era scritto sulla mia carta di identità non volevano scrivermelo nel comune di Ferrara non sto scherzando le parole l'importanza delle parole ricorda giustamente il documento sulle politiche di genere voglio proporvi alcune parole sulle quali non solo riflettere ma che l'arci spero faccia proprie per portarci al 2030 sembra un orizzonte lontano ma ci divide solo un altro congresso oltre a questo dal 2030 sono parole quindi che richiedono impegno politico associativo organizzativo economico da parte di tutte e tutti noi soprattutto impegno culturale cultura la c di arci significa cultura io lo ripeto ad ogni congresso arci e ne ho fatti tanti e lo ripeterò anche qui perché l'arci non ha mai fatto proprio del tutto questa parola sia chiaro l'arci nel suo essere soggetto collettivo perché sono in realtà migliaia e migliaia i nostri presidi culturali spesso accompagniamo la parola cultura da bellissime parole come welfare impegno politico come però come se ci vergognassimo di usare solo la parola cultura la cultura è un valore in sé certo non qualunque cultura la cultura partecipata bella libera giungete altre parole quella che cerchiamo perché facciamo anche tanti errori anche noi l'arci è generalista ma generalista non significa tuttologa nel primo caso si sta nella vita vera ma con consapevolezza umiltà fatica cognizione di causa studio e ascolto i tuttologi e le tuttologhe sanno tutto hanno ricette pronte non hanno bisogno di ascoltare e di aprirsi la cultura serve anche a questo avevo calcolato male i tempi la seconda parola è circoli non ve la spiego avevo scritto a te righe ma lo sapete meglio di me la terza parola è povertà la povertà non è una colpa mi sembra una grande banalità ma invece va detta perché nel come quella che ho detto all'inizio oggi sembra che sia una colpa e parlo e lo sapete non solo di povertà economica ma parlo di povertà sanitaria di povertà educativa di solitudine è una colpa è colpa tua pace dobbiamo continuare avere il nostro impegno forte radicale sembra che la la guerra sia colpa dei pacifisti e dire che noi ci siamo e ci saremo dopo vedi quello che è successo in Afghanistan e cosa stiamo facendo per accogliere le persone che stanno riuscendo a scappare dall'Afghanistan cura non ho niente da dire perché mi ritrovo appunto nel documento che citavo prima nei congressi se posso altro un minuto ho sentito usare altre parole quali sacrificio difficoltà ostacoli crisi fatica tutte vere non le sottovaluto e non voglio mancare di rispetto alle nostre fatiche appunto quotidiane sia chiaro però anche se Luciana Castellina mi ha rovinato col suo intervento però proprio per questo vorrei invece usarne un'altra che è la parola divertimento grazie Luciana per avercelo ricordato la R la R di Arci significa ricreazione nella nostra storia significa che il tempo libero è tempo liberato ma significa anche che vogliamo proviamo a stare meglio e a far stare meglio non c'è niente di male e divertimento deve essere una delle nostre parole uno dei modi di stare insieme uno dei modi per attirare nuove persone e socie per aprirsi di più alle giovani e ai giovani alle diverse identità binarie e non binarie ai nuovi cittadini e alle nuove cittadine naturalmente per aprirsi di più per uscire dalla schiavitù della normalità non sei normale pensavo fosse superata anche questa frase quando ero piccolo la dicevamo la dicevamo credo tutti e tutte e pensavo che fosse superata no? è tornata più di quando ero bambino la normalità non esiste e il divertimento è uno dei modi più intelligenti per farsi beffa di chi confonde maggioranza con normalità conformismo con normalità legge del più forte con normalità costrizioni sociali culturali economiche e sessuali con normalità poi certo ognuno ha il suo concetto di divertimento per me che vengo da Lucca lo devo dire se no Bobo Roversi si offende le 13 settimane con i 13 film di Imat di Reitz sono uno dei maggiori divertimenti che io ricordo ricordi magari ve lo auguro per voi ci saranno forme un po' più frizzanti quindi Luciana quando farai la festa da ballo per me tieni una serata col cinema documentario ci saranno dicevo forme un po' più frizzanti di divertimento ma proprio per questo per non essere conformisti e confermiste a ciascuno il suo anche nel divertimento che non è il divertimentificio ma può essere un pezzo di felicità il rock il rock mi ha salvato la vita diceva Wim Wenders arriva l'emozione a me l'Arch ha salvato la vita chi mi conosce sa che non è retorico grazie e grazie a tutti grazie Massimo grazie Massimo chiamo a intervenire Dario Pruiti si prepari Massimo Cortesi beh dopo questo applauso io avevo pronta la battuta effetto in effetti non mi viene volevo dire che visto che ho due microfoni posso parlare in maniera ecumenica sia a sinistra che a destra è la prima volta che mi capita e però non ha avuto lo stesso effetto perché in effetti la standing ovation meritata di chi mi ha preceduto io sono qui ci dovrebbe essere un video adesso avevo chiesto alla regia di iniziare a mandare non è un video che dovete guardare perché sono delle immagini che accompagneranno il mio intervento perché sono qui in effetti per cercare di raccontare un'esperienza un'avventura spuria impropria nella misura in cui questa avventura non si è conclusa mi è piaciuta molto mi ha suggestionato molto l'immagine che ha lanciato Adelmo Cervi l'altro giorno quando ha detto io non concludo perché concluderemo quando faremo la rivoluzione in sintesi le immagini che vedete si riferiscono a un evento in particolare e cioè la presa diciamo quasi mano militari pacifista di una villa confiscata alla mafia lo abbiamo fatto con i siciliani giovani e lo abbiamo fatto perché l'agenzia nazionale dei beni confiscati per la prima volta nella storia e la sua esistenza nel 2020 ha lanciato un banno per l'assegnazione diretta di mille lotti confiscati dalla mafia da assegnare alle associazioni per la prima volta questa cosa veniva in maniera diretta è stata raccontata come una grande impresa finalmente ci riusciamo in realtà vi preannuncio che è stato un fallimento perché le immagini che voi vedete adesso si tratta di un compound di ville dove fino a qualche settimana prima qualche mese prima abitava il noto cantante neomerodico Andrea Zeta figlio di Maurizio Zuccaro capo di Cosa Nostra Catanese al 41 bis erano state confiscate se non ricordo male nel 2012 fino al 2017 anzi diremo di più fino al 2020 ne abbiamo le prove in realtà erano abitate non sappiamo da chi sappiamo che fino al 2017 c'era sicuramente la famiglia di Maurizio Zuccaro questi sono i beni che sono stati messi a bando dall'agenzia nazionale dei beni confiscati potete guardare anche le minacce che ci hanno gentilmente lasciato sul muro quella scritta camuffata ma in realtà c'è scritto sappiamo chi siete e in un'altra c'è scritta vi stacchiamo la testa perché sto raccontando questa cosa sto raccontando questa cosa perché in realtà quello che è un fallimento sembra raccontare piuttosto la storia di un sabotaggio il sabotaggio della legge Rognoni la Torre il sabotaggio della legge 109 del 96 che abbiamo raccolto le firme come Arce Assieme a Libera che poi nacque da quella raccolta firme nel 90 questa legge che è la legge sul riuso dei beni confiscati e questo sabotaggio è stato messo in atto non da organizzazioni criminali o mafiose di quali sicuramente ne hanno giovato ma è stato messo in atto dalla distrazione politica di questo paese rispetto al tema della mafia è successo che nel 92 probabilmente ci siamo convinti di aver sconfitto le mafie noi società civile eravamo ben consapevoli che le cose non stavano così ci siamo mobilitati abbiamo intrapreso il grande percorso della primavera siciliana non so se ve lo ricordate che è la cosa che ci ha liberato abbiamo scoperto che la mafia era anche al nord abbiamo scoperto che le organizzazioni criminali dal sud si stavano diffondendo in tutto il mondo però poi ci siamo un po' addormentati rispetto a questa cosa ci siamo accontentati come diceva qualcuno del pannicello caldo della liturgia in occasione della commemorazione dei morti e i risultati però poi sono quelli che avete visto dopo quell'ispezione che oltre a minacce come dire c'è oltre alle minacce ci è lasciato un dubbio ma non è che tutti i beni confiscati messi a bando dall'agenzia sono in queste condizioni nelle stesse condizioni e allora siccome nel periodo della pandemia avevamo voglia di riprendere a fare politica con i corpi come ci ha insegnato Pierpaolo Pasolini ci siamo messi in cammino ci siamo reinventati una carovana e siamo andati a vederli a uno a uno questi beni ebbene sì se non erano direttamente occupati da mafiosi erano comunque in condizioni disastrose e quindi torniamo alla questione del sabotaggio ora siccome siamo in una fase programmatica e penso che abbiamo il dovere di immaginarci un orizzonte chiamo questo congresso e questa associazione al ruolo storico che le spetta quello di svegliare le coscienze e metterci in cammino così come abbiamo fatto noi per andarla a stanare questa questione perché non possiamo consentire che il patrimonio confiscato ai mafiosi e vi assicuro è la più grande agenzia immobiliare del paese rimanga ancora nelle mani dei mafiosi o peggio rimanga nelle condizioni di degrado perché le condizioni di degrado denunceranno sempre il fallimento dello Stato e se noi lasciamo quei beni che abbiamo confiscato alla mafia in queste condizioni noi la sfida con la mafia la perdiamo e non ce lo possiamo permettere non ce lo possiamo permettere come Arci non ce lo possiamo permettere come società civile in generale e lo dico anche ai cugini di Libera che su questo tema sono stati diciamo abbastanza presenti Ciotti ha citato pure il lavoro che abbiamo fatto come Arci Sicilia non ce lo possiamo permettere queste cose non si possono verificare chiudo con una nota politica perché ho sforato i cinque minuti chiedo scusa chiudo con una nota politica noi abbiamo scoperto nella storia di questo paese abbiamo saputo abbiamo vissuto drammaticamente che cos'è stato il connubio mafia-fascismo dopo abbiamo scoperto che cos'è stato il connubio mafia-democrazia cristiana ci abbiamo lasciato i morti sul campo per quel connubio e di recente invece abbiamo scoperto qual è stato il connubio tra mafia e liberismo di stampo berlusconiano scusatemi lo devo fare devo aprire una parentesi proprio ieri il presidente della mia regione cioè Schifani Renato Schifani ha detto che noi dovremmo affidarci al privato nella gestione della sanità regionale che è esattamente quello che voleva fare Cuffaro che è stato arrestato invece per concorso esterno in associazione mafiosa chiudo la parentesi volevo notiziare di questo adesso dobbiamo scoprire quale sarà il rapporto che il sovranismo di questo governo deciderà di instaurare con le organizzazioni mafiose qualche indizio ce l'abbiamo avuto ce l'ha insegnato Salvini per esempio in Sicilia Salvini ha fatto un comizio con i mafiosi che gli battevano le mani qualche condannato per mafia che gli batteva le mani e rispetto a questo dobbiamo rigenerare l'elaborazione che abbiamo del concetto di legalità è un obbligo preciso è un obbligo puntuale che dobbiamo affrontare perché vedete legalità noi come comitato territoriale di Arci Sicilia abbiamo deciso di riformulare la nostra corrispondente commissione non si chiama commissione legalità ma si chiama commissione legalità democratica questa è un'elaborazione che negli anni passati abbiamo fatto con l'Arci rispettare anche le leggi razziali significava legalità noi dobbiamo ragionare sulle cose che proponiamo e dobbiamo ragionare sulla lotta alla mafia in altri termini come termini dobbiamo declinarla come giustizia sociale ecco questo deve essere il faro che ci illumina per evitare appunto di celebrare le liturgie le liturgie vuote così secondo noi torneremo a sognare più forte e più veloce grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti e a tutti grazie a Dario grazie a Dario Massimo Cortesi si prepari Simone Ferretti il mio sarà un intervento diciamo strano diverso da quello che faccio solitamente poi tanto vi aspetta la Statuto Night sicuramente poi vi divertirete molto di più che non dopo il mio intervento allora care compagni sono ovviamente felice di essere qui ogni volta ovviamente un'emozione ma oggi c'è anche un velo di di tristezza abbiamo ricordato in questi giorni le tante compagne e compagni che ci hanno lasciato e scusate non pensavo e proprio giovedì mattina ci ha lasciato l'ex segretario dell'Arci di Bergamo Vittorio Semperboni persona ha solo i 65 anni la persona che poi mi convince di diventare da socio Arci militante e attivista io preferisco la parola militante che non volontario me la sento più mia della mia storia perciò un grazie al compagno Vittorio un grande grazie a lui poi vedete io praticamente nell'Arci sono praticamente nato vi garantisco che ovviamente è molto più comodo che una grotta molto più comoda e accogliente ma era quell'Arci c'era anche una scritta in quel circolo che faceva le cose impossibili per i soci e si stava attrezzando per i miracoli perciò c'era un collegamento anche con la grotta era l'Arci in cui mi portava mio nonno Arci fondata e abbiamo i bresciani che possono testimoniarlo il 25 aprile 1943 in Franciacorta quell'Arci che eravamo ancora negli ultimi giorni nei sussulti della guerra eppure il giorno dopo il 26 aprile uno dei soci fondatori morì per mano fascista ecco questo circolo è stato fondato dalla mia nonna dalla mia zia dai loro mariti dai loro parenti era era ed è un luogo secondo me importante e fantastico ma non voglio limitarmi ai ricordi e alla nostalgia penso però che se noi vogliamo andare avanti dobbiamo fare una manutenzione dei ricordi che ripeto una cosa molto diversa fare una manutenzione dei ricordi vuol dire agire una cura migliore per il nostro patrimonio di soci e di circoli se ripensiamo a come e perché erano nate quelle realtà ieri sono certo che questo ci aiuti a pensare che quello che vogliamo fare domani possa appunto funzionare magari meglio in Lombardia la pandemia ha picchiato duro io poi vengo da quella zona nella valle cavallina attaccata alla valle seriana ma abbiamo anche una compagna delegata che oggi è qua presente che anche lei è stata colpita dura ci ha colpito duramente negli affetti però qualcuno l'ha anche detto la pandemia ha fatto ripensare ai circoli come agire nel presente il mutualismo e la solidarietà le nostre radici che sono rimaste fertili e io ringrazio tutti quei circoli quelle socie che hanno svolto un lavoro incredibile un lavoro impossibile da determinare nei numeri ma che davvero ha garantito in quei giorni impossibili alla comunità di vivere con una certa dignità ecco l'arci è un insieme di luoghi che devono avere appunto la cura delle persone e sicuramente noi dobbiamo continuare a mantenere i nostri circoli quali luoghi accoglienti ma dobbiamo anche sviluppare la cura a tutto il territorio che sta attorno ai nostri circoli dobbiamo sollecitare risposte concrete ai bisogni delle cittadine se vogliamo davvero giustizia sociale e giustizia ambientale se vogliamo essere parte di una società che cura dobbiamo continuare a formare e formarci continuare a farlo per essere di supporto fondamentale alla tutela e allo sviluppo dei nostri circoli ma anche agendo su temi della società che viviamo quali ad esempio la sanità per qualcuno domani c'è un articolo proprio sulla nostra terra quali ad esempio appunto la sanità dicevo le disastrose politiche regionali che stanno devastando in molti luoghi la medicina di territorio la delega sempre più marcata al privato con sempre più persone e dunque anche nostre socie che stanno rinunciando alle cure per le lunghe liste d'attesa per i costi non accessibili del privato non possiamo pensare che la giusta qualità di vita sia solo per i pochi ad esempio sui trasporti pensando ad esempio solo ad alta velocità ma dobbiamo impegnarci perché sia anche dei tanti lavoratrici e studenti che tutti i giorni viaggiano in condizioni incredibili il grande impegno poi nostro su tutti gli altri temi ad esempio quello della pace deve svilupparsi per aprire vertenze non solo e anzi soprattutto facendo il percorso che facciamo noi di educazione alla pace ma anche provando a creare costruire vertenze di pace verso le aziende che producono armi nei nostri territori andrò veloce parliamo spesso di giovani e di donne ma non sempre io per primo ne siamo conseguenti vado random sui temi che dobbiamo mettere in campo se vogliamo davvero dare delle risposte esaustive pensiamo ad esempio a quanto raccontava ieri Vanessa Niri e a quanto sia stato importante un'azione che può sembrare piccola come aver creato per un genitore uno spazio nel congresso che permetta appunto alla famiglia di vivere al ragazzo alla ragazza al bambino di vivere uno spazio di serenità e al genitore di poter svolgere la sua funzione pensate e torno un attimino indietro nella storia quando nel 1959 nel Reggiano venne costituito il primo asilo comunale pubblico con tutti contro l'asilo Leoni dedicato a un partigiano del Reggiano scomparso e poi dobbiamo lavorare sui giovani per favorire il loro accesso allo studio dobbiamo contrastare la dispersione scolastica dobbiamo lavorare sul diritto all'abitare dobbiamo avere attenzione al tempo delle persone ad avere un lavoro dignitoso al diritto dei fuorisede studentesse lavoratrici di poter avere anche diritto al loro voto cosa che non viene garantita in un paese parliamo di 5 milioni di persone 5 milioni chiudere chiudo la manutenzione dei ricordi e l'agire dei temi dell'oggi ringrazio poi davvero Daniele ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per arrivare a questo congresso ringrazio la mia famiglia ringrazio quelli quei nostri soci ogni 37 secondi in Italia una persona sottoscrive una testa dell'Arci facciamo il calcolo più o meno è quello poi siccome io poi da sempre e questo è un difetto che ho ma alle mie figlie piace siccome io credo nelle fate e nei sogni avanti Arci grazie 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 chiamo Simone Ferretti e si prepara Raffaella Bolini Viviamo nel tempo del rancore e delle solitudini collettive rabbia e indignazione invece di prendere la strada del conflitto implodono nel risentimento individuale quanto il nostro sogno e quanto la nostra immaginazione sia capace di contaminare e contaminarsi è la vera cifra della nostra sfida quanto siamo capaci di andare oltre noi stessi quanto saremo in grado di tessere e ritessere ostinatamente le trame della coesione sociale e di una nuova convergenza il tema reale sul quale confrontarci e il tema politico sul quale costruire l'Arci del futuro c'è è il momento di stare dentro e fuori gli spazi a noi usuali dentro la cornice della nostra arci della nostra rete e fuori nella determinatezza consapevoli di non essere mai abbastanza fili del novecento viviamo la specificità di essere struttura complessa che vive è solo se nella filiera tutti i nodi riescono a fluire se la dimensione del noi riesce a prevalere coscienti che senza il territorio non siamo nulla che senza la cura delle nostre basi associative la linfa non riesce ad essere assorbita ma la cura è anche quella rivolta alle relazioni di chi questa casa la abita la cura della partecipazione è la voglia di esserci dove l'armonia sia la dimensione di fondo attenti alla ricerca del groove del good vibes che riesca a far vibrare il nostro potenziale abbiamo la necessità di costruire certezze rispetto alla precarietà dilagante esaltare il nostro essere prossimi perché da lì passa la risposta alle solitudini essere inclusivi perché sappiamo che la solidarietà e il mutualismo non possono essere un elemento individualista ma devono essere spazio di coinvolgimento altrimenti rimane solamente la testimonianza e su questo ritengo che la nostra specificità quello di essere soggetti prossimi al territorio deve farci analizzare le potenzialità di una struttura di un'infrastruttura politica la potenzialità di quanto le nostre vertenze di quanto la nostra capacità di riuscire a collegare i diversi saperi possono essere realmente presenza critica possono essere quell'infrastruttura che ci dà anche la possibilità di tessere alleanze ma di essere anche critici con i governi amici nel momento in cui rispetto ad alcune scelte che si fanno sul territorio siamo contrari penso per esempio a quello che nella mia regione si sta sviluppando adesso rispetto a una presunta proposta di un centro di espulsione di rifugiati è il tempo è il tempo di sperimentare uscendo fuori dalle tentazioni di voltarsi indietro solo per dare a concetti e valori una durata che di per sé non lo hanno perché se è vero che viviamo una sconfitta culturale è anche vero che passa da noi la necessità di elaborare proposte vengono a un territorio dove cento anni fa nasceva uno scrittore si chiamava Luciano Bianciardi scritto un libro secondo me importante che era il lavoro culturale e da lì passava quella rielaborazione rispetto alla capacità di stare sul territorio ai margini nelle province e da lì ricostruire pezzi di società sta qua quindi la nostra sfida sta qua quindi elaborare proposte che riescono a destrutturare i sovranismi che sempre più si moltiplicano idee e prassi circolari perché nella circolarità ci stiamo bene perché nella circolarità non ci sono spinte verso un'idea diciamo così di un uomo solo al comando bene questo è il tempo delle sfide questo è il nostro tempo bene interviene Raffaella Bolini e si prepara Silvia Cascetta la Meloni ha detto spiegando la sua manovra di bilancio non può esistere welfare se a monte non c'è chi genera ricchezza in una società dove l'un per cento dei ricchi diventa sempre più ricco io dico che non può esistere welfare se a monte non c'è uno stato che redistribuisce la ricchezza e la ricchezza e la ricchezza ha smesso di essere redistribuita da decenni da quando in tutta Europa tutta la politica mainstream ha sposato i dogmi neoliberisti e ha accettato di distruggere il compromesso fra capitale e lavoro del secondo dopoguerra quello che aveva fatto dell'Europa il faro dello stato sociale noi noi ci siamo ribellati a tutto questo ribellati e ribellate come abbiamo potuto con tutta la forza che abbiamo potuto esercitare al tempo in cui è cominciata la lotta di classe al contrario la guerra dei ricchi contro le povere e i poveri noi aspettiamo ancora le scuse dopo vent'anni per Genova avevamo ragione e ancora balbettano ancora non vengono a dirci scusate abbiamo sbagliato per favore diteci voi come si salva il mondo e ancora è tabù in questo paese quasi l'unico paese d'Europa dove è ancora tabù persino nominare il sistema che ci sta portando al capolinea che ha un nome si chiama capitalismo e non sta scritto da nessuna parte che sia l'unico sistema possibile ora noi lo sappiamo c'è un'alternativa alla disuguaglianza crescente c'è un'alternativa al collasso climatico c'è un'alternativa alla guerra la pandemia fra l'altro ce l'ha detto a chiare lettere interdipendenza sicurezza comune la cura al primo posto la cura delle persone del vivente non umano e del pianeta non il primato del profitto e della produzione di merci ma una società che mette al centro la riproduzione sociale e cioè tutto quello che permette alla vita di esistere oggi e anche nel futuro ora i frammenti di un disegno diverso del mondo e della società realistico e realizzabile già da oggi li abbiamo tutti tutti i frammenti li abbiamo già vivono nelle pratiche sociali culturali e nel sapere che dalle pratiche sociali e culturali si forma e si consolida ci manca la rappresentanza politica e io credo che dobbiamo avere il coraggio di mettere i piedi nel piatto noi associazione plurale e indipendente di questo gigantesco problema perché ci riguarda innanzitutto iniziando a discuterne apertamente e facendone discutere la nostra gente a noi ci serve come il pane una sinistra degna di questo nome per intercettare le paure l'insicurezza il dolore della società e portarlo dalla parte giusta ci manca anche la capacità di convergenza quella che venti anni fa il 15 febbraio del 2003 ci faceva capaci di mettere insieme 110 milioni di persone in tutto il mondo nello stesso giorno contro la guerra all'Iraq dagli anarchici alle suore perché per mettere insieme dagli anarchici e alle suore ci vuole fatica ci vuole lavoro ci vuole impegno metodo e qualcuno che si assuma questo compito e io credo che noi possiamo farlo se decidiamo voi la nuova generazione dell'Arci potete farlo possiamo farlo perché noi stessi siamo un'associazione composita fatta di mille diversità e quando sappiamo valorizzare e far convivere le nostre differenze possiamo essere invincibili io credo che per noi non c'è altra strada se non quella della ricerca del massimo consenso della leadership collettiva della capacità d'ascolto della voglia non solo della necessità della voglia di trovare qualcosa di buono anche nel più lontano da noi questa è l'unica strada per farcela per noi perché altrimenti ci facciamo male e invece mi pare e io sono molto felice che in questi giorni ci stiamo facendo molto bene in questo congresso bellissimo davvero intergenerazionale dove su tutto stiamo cercando di trovare la quadra e quando la troviamo siamo felici io credo che noi possiamo perché siamo davvero in tanti luoghi in migliaia di territori davvero prossimi a chi è solo e umiliato in mille modi in mille modi dalla pizza al ballo dalle lotte al mutualismo perché oggi tutta la socialità è politica e tutta la socialità oggi in qualsiasi forma è politica buona domani in uno degli ordini del giorno vi proporremo di impegnarci tutti e tutte assieme a stare vicino e provare ad organizzare chi vivrà nei prossimi otto mesi con l'incubo l'incubo vero di perdere il reddito di cittadinanza e con lui i soldi per mangiare io credo che noi possiamo farlo non è giusto che vivano quest'incubo da soli e questo incubo insieme può diventare ribellione e noi possiamo farlo perché siamo un'associazione culturale e la cultura dominante va decolonizzata davvero e sul serio bisogna abbattere la piramide del potere che abbiamo incorporata nel nostro codice genetico che separa l'unità della vita per costruire piramidi e gerarchie con al vertice sempre l'essere umano l'essere umano maschio l'essere umano bianco basta anche con la retorica sui valori europei noi europei dobbiamo lavorare molto su noi stessi altrimenti il nostro lato oscuro continuerà a venire fuori con le guerre e i muri e i lageri in Libia ora si è vero però come facciamo a fare tutto questo e sto finendo mentre siamo oberati e oppressi dalla crisi dalla burocrazia dalle leggi ingiuste ma noi siamo anche credo la prova vivente che dalla pandemia si poteva davvero uscire migliori perché noi ne siamo usciti migliori e questo congresso ne è la dimostrazione e la storia e poi guardate è chiaro facciamo fatica però la storia non l'ha mai cambiata chi sedeva tranquillo in salotto la storia l'ha sempre cambiata chi difendeva insieme a tutti e a tutte anche se stesso e se stessa siamo vittime anche noi della sofferenza sociale patiamo sulla nostra pelle la crisi inclusa la crisi democratica che umilia i corpi intermedi ma non abbiamo altra via se non tirare fuori il coraggio e la forza e fare bene alla nostra parte con il sorriso come ci ha detto Daniele appena eletto una Arci senza sorrisi non è l'Arci e fosse solo per questo e non è solo per questo a Daniele veramente devo un grazie gigantesco che non finirà mai grazie 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 Raffaella do la parola a Silvia Cascetta si prepari Monica Di Sisto buonasera a tutte e a tutti e a tutti sono contenta che siamo arrivati a celebrare il nostro congresso in questo momento non facile per il paese per l'Arci credo sia molto importante è sempre una grande emozione intervenire sono stati anni intensi quattro anni fa ero una giovane si fa per dire presidente al primo mandato con la prospettiva di un futuro pieno di opportunità e mi aveva emozionato la storia di Rosa Parks che rappresenta rappresenta bene la forza che le relazioni che noi nei nostri circoli siamo in grado di costruire e che sono il motore per cambiare il mondo ecco questa parola cambiare il mondo mi piace molto questa frase sapevo anzi ero sicura che ci sarebbero state delle difficoltà da superare ero pronta ad affrontare la riforma del terzo settore e l'impegno in presidenza nazionale una grande sfida e una grande opportunità per me che cos'altro sarebbe mai potuto accadere invece certo mai avrei immaginato una epidemia mondiale che ci avrebbe portato via 177 mila amici parenti conoscenti e che avrebbe cambiato forse per sempre il modo di stare con gli altri siamo usciti dalle case dove siamo stati reclusi ma non siamo tornati del tutto liberi e poi un conflitto che rischia di diventare globale e nucleare a poca distanza da noi qui nella nostra Europa una crisi energetica causata non dalla guerra ma dalla speculazione dagli interessi di pochi una crisi che sta già facendo chiudere imprese e che rischia di mandare in rovina famiglie che già faticavano ad arrivare alla fine del mese è come se non bastasse il governo più a destra della storia repubblicana la tempesta perfetta e invece il fatto che siamo qui e che siamo così tanti dimostra che resistiamo e che non permetteremo a questa catena di eventi di spazzarci via abbiamo avuto la capacità di cambiare prospettiva e di riorganizzarci e cito il nostro documento politico di fare rete di incidere sulle scelte politiche di interloquire con la pubblica amministrazione e di tornare ad essere ponte con le istituzioni abbiamo saputo curare e tutelare il nostro corpo associativo e i numeri lo dimostrano il tesseramento è tornato a crescere e questo significa che significa essere riusciti a far ritornare nei nostri circoli persone che si erano allontanate i soci sono la nostra risorsa più importante e sono il motivo per cui esistiamo la pandemia non ha portato via solo i nostri cari ma ha tolto respiro anche a tante associazioni e anche in questo caso abbiamo creato insieme le opportunità affinché nuove voci e nuove idee potessero nascere nella nostra famiglia e così anche le adesioni sono tornate a crescere tutto questo ci deve dare la speranza e lo slancio per affrontare il futuro il lavoro di quest'ultimo anno è stato quello di riattivare i nostri luoghi attraverso nuove attività costruendo reti partecipando a nuovi progetti regionali locali qualche volta anche nazionali oggi li chiamiamo luoghi un tempo erano case e forse rappresenta rende meglio l'idea del loro scopo e della loro essenza un posto dove stare un posto dove tornare un posto dove convivere qualcuno ha provato a chiuderle per sempre trasformandone in opere che richiama tutt'altro significato e oggi oggi si cerca di cambiarne la natura e l'anima costringendole alle leggi di un mercato che è quanto più lontano dall'idea fondante dell'associazionismo tanti prima di noi ne hanno parlato meglio di me però ci tenevo anch'io a sottolineare questo punto la riforma che tanto aspettavamo avrebbe dovuto vedere il terzo settore come un naturale equilibratore di un sistema che giorno dopo giorno si sposta su logiche puramente economiche ma questo codice il codice del terzo settore di fatto ci blocca ci imprigiona in una gabbia di regole e logiche commerciali che non ci appartengono mi dispiace ma Lombardi non mi ha convinto quasi per niente lo Stato parte dal presupposto che se ci diamo tutto questo grande affare sicuramente abbiamo un tornaconto economico e quindi lo Stato vuole essere sicuro che non ce ne approfittiamo è impossibile che facciamo tutto questo solo per stare insieme o per far del bene quella dello Stato dopo la presunzione di colpevolezza è un nuovo tipo di presunzione la presunzione che esiste un solo tipo di interesse quello economico una legge del terzo settore era necessaria senza dubbio ma avrebbe dovuto essere uno strumento per valorizzare la libera iniziativa dei cittadini che si organizzano per sviluppare le loro passioni per creare quella vita per cui vale la pena vivere non per mortificare la voglia di fare ma a questo punto la domanda che mi sono fatta è cosa possiamo fare concretamente per resistere e fare la differenza pensarci fuori dai nostri schemi utilizzare il pensiero laterale parlare alle nuove generazioni cercare nuovi linguaggi utilizzare i nuovi media guardare con uno sguardo nuovo la realtà che conosciamo cerchiamo di allargare la nostra base progetti nuovi soggetti nuovi contaminazioni innesti fusioni lo cito non a caso uscire dalla nostro comfort zone non avere paura e anche mi è piaciuta questa proposta di Walter cambiare il paradigma ci sto possono sembrare solo parole retorico suonare come la promessa di iniziare una dieta da lunedì ma non è così è quello che ci diciamo tutti i giorni e che tutti i giorni cerchiamo di fare con voi insieme con i miei colleghi con i miei compagni questi tre giorni anche uguale a proposito di questo una bellissima e concreta esperienza di contaminazione di pensiero laterale e di coraggio per noi di Cesena rappresenta la fusione con Arci e Rimini oggi possiamo dire che la fusione con Rimini costituisce un piccolo grande esempio di ricerca di cambiamento e di coraggio con questo progetto non vorremmo cercare semplicemente la somma dei territori due non ci basta vogliamo che le potenzialità si affianchino e si rafforzino reciprocamente che il valore sia maggiore della somma vogliamo che uno faccia 11 è stato un percorso lungo che si è innestato in un periodo particolarmente complesso per questo ringrazio prima di tutto Alida Paterniani che deve essere lassù dell'Arci di Rimini e poi il nostro regionale Emiliano Romagnolo Massimo Maisto e anche soprattutto l'osservatorio legislativo il grande Marco Mini che rispondeva alle nostre richieste di aiuto e chiarimento ancora prima dei nostri consulenti sul territorio e a proposito di questo se volete siamo a disposizione per confrontarci se qualcuno volesse intraprendere il nostro stesso percorso quindi non siamo rimasti chiusi in casa non ci siamo fatti abbattere dalle riforme degli azzecca garbugli abbiamo lavorato per costruire un'Arci ancora più bella e forte ma concludo raccontandovi di una cosa che mi sta particolarmente a cuore sulla quale stiamo lavorando ci siamo dati un obiettivo a Cesena che è la gentilezza può sembrare banale ma non lo è è uno di quegli ambiti in cui l'azione di Arci di ricostruzione del tessuto sociale ci sta benissimo è una di quelle azioni che possono cambiare il mondo sapete che il 13 novembre è stata la giornata mondiale della gentilezza verso il nostro pianeta ma anche verso gli altri ed è uno degli obiettivi dell'agenda 20-30 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU ad alto impatto sociale essere gentili e solicitare azioni e pensieri gentili è rivoluzionario e difficilissimo noi ci proviamo faremo l'albero di Natale gentile inviteremo i bambini delle scuole a decorare un albero di Natale con dei pensieri gentili ma anche a donarli a chi ne ha bisogno è un'iniziativa partita sui social e che si concluderà con un gesto concreto con questo gesto concreto dell'albero di Natale e ho ascoltato ho finito ho ascoltato diversi interventi che riprendevano l'importanza di rimettere al centro la persona e il benessere della persona beh non lo facciamo Arce lo ha sempre fatto lo facciamo tutti i giorni termino veneramente riportando quello che diceva Ulrich Beck che è un sociologo tedesco che si è occupato della società globalizzata e della sostenibilità ambientale che riportava una cosa che mi è piaciuta molto anche perché si innesta bene sui discorsi di oggi i politici dicono che non sono responsabili e che al massimo si limitano a regolare il contesto del mercato gli esperti scientifici dicono di creare soltanto opportunità tecnologiche il mondo degli affari dice di rispondere soltanto alla domanda dei consumatori la società è divenuta un laboratorio senza alcun responsabile per l'esito dell'esperimento è la crisi della responsabilità bene invece noi la responsabilità di una società che cambia in una direzione sbagliata ce la sentiamo tutta ed è per questo che serviamo noi grazie buonasera grazie grazie a Silvia Monica Di Sisto della società della cura si prepari Marco Trulli ciao tutte e tutti buonasera sono molto contenta di essere qui in questo terzo giorno e che una piccola manutenzione straordinaria mi hanno sottratto dal primo perché francamente quello che ho sentito da casa non era proprio all'altezza delle cose che avete raccontato oggi diciamo che la rabbia e la la frustrazione che hanno generato in me quelle parole del primo giorno oggi si sono invece ricomposte in una narrazione che è quella che condivido come persona e come associazione con voi da tanto tempo voi nel vostro documento parlate di bussola di valori e cultura beh quella bussola l'ho seguita anch'io insieme a voi per tante tappe siamo andati a Portolegre poi a Genova poi a Firenze ci siamo imbarcati in campagne avventure di tutti i tipi contrastando trattati dai nomi impronunciabili facendo Gisotto in Sardegna guardo ho visto prima Aldo e adesso però siamo chiamati di nuovo a colmare queste queste mancanze queste carenze a dare parole a quelle politiche a quelle pratiche a quei frammenti Raffaella diceva bene che ci sono tutti però li dobbiamo cucire la società della cura quello sapete è stato un progetto comune abbiamo cominciato insieme quando fuori dagli stati generali chiamati da Conte quello che non si ricordava manco quanti sede ci ha visto in tanti fuori in altri dentro e a quel punto abbiamo provato a sentirci abbiamo fatto come fanno gli amici come fanno i compagni ci siamo chiamati ci siamo raccolti abbiamo cominciato a ragionarci su e siccome le leggi della pandemia non ci permettevano di stare insieme abbiamo fatto un picnic e da quel picnic sono partite delle call guardo Raffaella Silvia tanti e tanti di voi che c'erano hanno partecipato celeste quelle call hanno cucito persone che erano a casa singoli a esperienze collettive risposte a campagne è stato interessante sentire il primo giorno il ministro Speranza come dire sostenere le ragioni della sanità pubblica e quelle dei servizi pubblici peccato che da portavoci del C20 quindi il C20 della società civile su questi temi non ci ha mai ricevuto anzi ci ha ricevuto l'ultimo giorno nella nuvola e ci ha detto insieme a tanti altri colleghi e colleghi di tutto il mondo che eravamo d'accordo nel non essere d'accordo nella centralità della sanità pubblica e dei servizi pubblici per rispondere alla pandemia beh questo io non lo dimentico e credo che questo esercizio di disintermediazione continua che questa classe politica inadeguata sta facendo sulla nostra pelle noi siamo chiamati a ricucirle è vero Raffaella non ci hanno mai chiesto scusa anzi D'Alema che non è neanche tra i peggiori qualche mese fa su un giornale ha detto che la globalizzazione per come l'hanno gestita è stata una svista peccato che noi ci vedevamo benissimo e la nostra pelle ce la siamo giocata proprio per provare sempre e voi in prima fila a costruire degli spazi dove questo mondo diverso possibile potessero essere delle realtà e delle opportunità per tutte e per tutti non sono d'accordo con Luciana esistono le case matte le case matte sono molti dei vostri circoli e io che non ne faccio parte perché faccio parte di un'associazione che è fuori dalla rete dell'Arci ma è stata sempre insieme a voi ne sono testimone sono stati dei punti di democrazia questo congresso è un esercizio di democrazia e per chi non ne fa parte come me un grande una grande opportunità di respirare che cos'è la democrazia perché la democrazia è fatica è vero mettere insieme le suore gli autonomi non è semplice però ci va quel gusto quella ce l'ho perché se no non andrei a ballare domani invece vado grazie a Vito e a tutti i circoli di Roma con grande piacere ma adesso dobbiamo siamo chiamati a continuare la sfida della cura ne avete parlato in tante e tanti la rete e la possibilità di cuscire di suturare quelle cose diverse ce l'abbiamo Dario per esempio la GKN sono stati uno dei pezzi che abbiamo cuscito per primi ci siamo andati penso due giorni dopo che la fabbrica era stata licenziata per email a dargli una mano e in tanti di quei territori siamo stati comunque in prima fila a Piazza del Popolo siamo tornati a manifestare insieme quando non c'erano neanche ancora i permessi e adesso mi permetto di indicarvi alcune cose che dobbiamo fare insieme molto rapidamente la prima e non ci sfugge è la legge finanziaria hai ragione Raffaella dobbiamo stare vicino a tutti quelli che non avranno il reddito di cittadinanza però quelle risorse ci sono non è vero che non ci sono le risorse ci sono sono ad esempio nel fondo europeo per le armi lo chiamano il fondo europeo per la pace ma sono fondi importanti che andrebbero invece utilizzati per la manutenzione del territorio sono quei fondi che dovremmo utilizzare per la reindustrializzazione perché ad esempio i gruppi più importanti europei come la BMW Metal Mechanics stanno dicendo che vorrebbero andare negli Stati Uniti perché i contributi che sta dando Biden all'economia interna sono più interessanti di quelli che sta assicurando l'Europa alle proprie stesse imprese dobbiamo allo stesso tempo spingere perché la transizione ecologica non sia soltanto un percorso democratico ma sia anche un percorso visibile sapete qual è stato uno dei primi atti compiuti da questo governo mettere il diritto di riservatezza alle decisioni che riguardano la transizione ecologica quindi non ci sarà più possibilità per noi come società civile di accedere a quei percorsi un altro dei percorsi sui quali vige una mancanza di trasparenza molto grave è il PNRR che è assolutamente in ritardo non c'entra i bisogni del nostro paese in questo momento per il sud è praticamente bloccato uno dei pochi territori per i quali servirebbe e soprattutto per le infrastrutture rischia di essere depauperato l'altro punto importante è proprio quello della difesa dei presidi del lavoro il lavoro sta cambiando lo diceva Luciana è vero sta cambiando e si sta digitalizzando ma non per tutti noi abbiamo braccianti nei campi e nessuno li cambierà noi abbiamo bambini nelle miniere e nessuno li tornerà fuori da lì noi stiamo riaprendo le miniere di carbone in quelle miniere di carbone nel centro dell'Europa non stanno andando delle macchine stanno andando degli operai spesso molto giovani questo è il mondo che sta tornando indietro il mondo della retrovisione non ecologica che stiamo vivendo e che questo governo rischia purtroppo di approfondire fuori c'è una rete di realtà che abbiamo cuscito con grande fatica guardo Raffaella guardo Silvia guardo tante e tanti di voi che diciamo in questi due anni dalla pandemia in poi ha provato a fare delle cose insieme a mettere insieme parole diverse siamo andati insieme fino all'Ucraina penso che sia un'occasione per tutti e tutti noi da non perdere la società della cura c'è e quanta più arci ci sarà dentro e quanta più secondo me possibilità di incidere su questo governo e su quello che ci aspetta sarà un'occasione concreta grazie per avervi ascoltato grazie davvero Marco Trulli scusate bene allora voi siete stanchi io non ho la voce per cui alla grande dopo l'aperitivo allora io parto da la lettura della definizione di moltitudine quantità o numero notevole eccezionalmente grande o non valutabile con precisione la galassia non è altro che una moltitudine di stelle quindi un rave in pratica siamo un grande rave allora parto da questo perché credo che essere moltitudine motto che abbiamo usato per la nostra campagna di tesseramento esprime bene nel tentativo di stare insieme tra diversi e diverse in un mondo è un momento in cui la sinistra sconta una crisi profonda di radicamento di politiche e processi condivisi e di lungo corso qui parliamo della sinistra della ZTL appunto e noi invece cerchiamo di fare sintesi tra diversità agire trasversalità che dalla cultura alla solidarietà tracciano delle congiunzioni che non sono scontate e sono veramente tipiche dell'Arci della sua ambizione di essere ancora casa aperta di chi si riconosce nei suoi valori quindi Arci è una moltitudine di spazi e circoli di persone di progetti è un laboratorio politico di cambiamento nodale per il presente e il futuro di questo paese e mi pare che questo congresso lo stia ribadendo con forza e non pensavo dopo questi anni di vivere un congresso di questo tipo e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per questo in questi ultimi anni è emersa molto la parola di comunità che è bella è molto suggestiva ma nasconde rischi e noi dobbiamo essere bravi a coltivare comunità tra diversi e diverse appunto la comunità tra uguali mi mette molto paura Arci è una moltitudine di alterità che abitano spazi urbani e territori non omologandosi perché attenzione noi viviamo dei processi di omologazione del tessuto urbano che stanno sempre più anestetizzando qualsiasi differente alterità lo stanno facendo mercificando gli spazi culturali e il fatto che Arci agisca una diversità in merito a questo che agisca spazi di educazione di incontro di coproduzione artistica di programmazione culturale in cui produciamo società e per questo noi e insieme a noi che fare altri hanno chiamato spazi culturali di comunità noi produciamo stare insieme produciamo società e spazio pubblico pensiero critico e guardate che questa dimensione in questa società sempre più annichilita sempre uguale è una risorsa che ci parla ancora della possibilità di fondare le nostre relazioni e il nostro uso dello spazio pubblico e delle città e dei territori su economie diverse da quelle di mercato dobbiamo sapere quindi leggere i fenomeni che attraversano i territori dobbiamo sapere leggere l'asservimento della cultura ha un ruolo di mero promozione turistica come volano dello sviluppo economico e questo è stato uno dei mantra di questo decennio di questi decenni ed evidentemente il segnale che il nostro paese ha deciso di vendersi al miglior offerente di imbellettarsi di svendere i paesi come borghi per turisti di pensare allo sviluppo turistico senza pensare ai servizi di prossimità dell'abitare con una ricetta che guarda poco lontano e che sancisce lo smantellamento di pezzi interi d'Italia e l'arte e la cultura attenzione dobbiamo saperlo leggere questo sono stati processi utilizzati dall'industria culturale dalla politica come decoro per escludere per gentrificare per cancellare quello spazio pubblico invece di crearlo e noi dobbiamo sapere stare dentro questi processi saper osteggiarli e organizzarci per proporre alternative sostenibili di attivazione territoriale e per questo propongo un nuovo motto che è pensare globale e agire territoriale vorrei centrare alcune questioni a mio avviso non scontate dentro la nostra discussione e dentro la percezione che noi stessi abbiamo dell'associazione perché dobbiamo sempre più far aderire quello che diciamo con quello che facciamo ed è una sfida difficile ma è l'unico modo per onorare il nome dell'Arci per fare politica in questo momento in cui chi fa politica sembra non rispettare appunto più quello che dice a parole l'Arci contro le diseguaglianze territoriali Walter ha parlato molto di questo di prossimità e cura a questo proaggancio appunto il ruolo problematico il noto problematico che deve stare dentro uno degli obiettivi di mandato l'Arci contro le diseguaglianze territoriali anche dentro se stessa dentro la sua rete se l'Arci si batte affinché ci siano uguali opportunità al nord come al sud alle aree interne come alle aree metropolitane dobbiamo curare il nostro tessuto associativo e sfruttarne appieno le potenzialità attivare mutualismo interno pratiche di scambio e di formazione perché quello che penso è che stare dentro una rete associativa nazionale ha ancora più senso quando sei in un'area interna senza nessun'altra opportunità senza nessun'altro con cui parlare e spiegare i tuoi sogni spiegare le tue idee ecco stare dentro Arci in questo senso ti ridona quel diritto a sognare che di fatto hai perso se stai isolato se stai in un territorio dove non c'è più nessuno cioè una desistificazione culturale profonda e in quel momento sapere appunto di poter contare su una rete efficace che funziona e che ti sa aiutare dove puoi cogliere spunti know-how e progettualità è davvero essenziale e il senso di essere moltitudine ma voglio arrivare alla dimensione culturale dell'associazione che è un aspetto assolutamente centrale lo diceva Massimo prima non per fare classifiche di priorità ma solo per guardare un aspetto che noi pratichiamo sempre in modalità trasversale ma che a volte non curiamo abbastanza noi dobbiamo saper rivendicare che la nostra associazione è uno dei protagonisti culturali di questo paese e dobbiamo innanzitutto strutturarci per crederci in questa cosa perché di fronte perché svolgiamo un ruolo essenziale per l'equilibrio dell'offerta culturale per la sperimentazione artistica per la produzione contemporanea e per tutti i linguaggi che transito in ambito culturale e quindi rivendichiamo la centralità della cultura anche dentro l'associazione per rivendicarla in questo paese chiudo con un esempio nel territorio comunale di Viterbo non ci sono cinema non ci sono spazi della promozione audiovisiva e solo grazie al nostro festival immagini al sud del mondo riusciamo a programmare un'offerta diversa dai cinepanettoni che appunto diversifica e dà accesso a produzioni interessanti internazionali non ci sono poli artistici e portiamo gli artisti nei quartieri a parlare con le persone a realizzare opere per i tessuti per i tessuti urbani e per garantire l'accesso a tutti ai diritti culturali e dobbiamo quindi sapere interpretare questo tempo per capire come proiettare nel futuro il patrimonio che abbiamo costruito nella nostra storia anche attraverso processi generativi e rigenerativi immaginando processi nuovi che possano mettere insieme la produzione culturale artistica la fruizione e la dimensione popolare e questo secondo me è una cosa che possiamo fare solo noi e solo pochi altri oltre a noi e quindi lavorare per la rottura degli steccati invisibili che ancora permangono nell'accesso alla cultura perché l'arci è una delle poche realtà nazionali a poterlo fare a parlare veramente di cultura che non sia ornamento orpello decoro ma che è esercizio quotidiano di cittadinanza di cittadinanza e liberazione grazie Marco chiamo a intervenire Mari Lu Manta del progetto cultura e comunità che ringraziamo per aver partecipato al nostro congresso e si prepari ma sono tariani ciao a tutte ciao a tutti è difficile parlare dopo Marco ci proverò io oggi sono qui come project manager di che fare e come community manager di Arci Torino sono qui per parlarvi di un progetto che si chiama cultura e comunità che voi tutte e tutti conoscete come app e che aspettate di utilizzare alcuni di voi già lo utilizzano mi permetto di fare una premessa sono molto felice e anche un po' emozionata perché in questi giorni ho avuto la possibilità di partecipare a un congresso a questo congresso e sono molto felice di aver partecipato perché mi sono sentita parte di una comunità parte della comunità di Arci e sono anche molto commossa perché in realtà io devo molto ad Arci perché grazie a Arci faccio questo lavoro grazie a Arci io ho coltivato le mie passioni grazie a Arci io credo negli spazi provengo da una città che non è periferia che non si trova nelle aree interne ma ai miei tempi non esistevano degli spazi culturali nella mia città la mia città è fatta di centomila persone non esisteva uno spazio ricreativo e per coltivare le mie passioni per andare a un concerto per conoscere gente fruire di cultura io dovevo andare oltre la mia città Arci mi ha dato questa possibilità io grazie ad Arci ho potuto coltivare i miei interessi quindi sono molto contenta perché grazie ad Arci io so cosa significa fare presidio territoriale cosa significa stare ed esserci all'interno di un territorio oggi però sono qui per parlarvi di un progetto che si chiama cultura e comunità proverò ad andare avanti ma avanti non si va vado così ok ci siamo il progetto in realtà è un progetto di sperimentazione è un progetto è un processo in realtà dietro molti progetti ci sono dei processi è un processo di lavoro di prototipazione di sperimentazione anche faticoso e lungo nato nel 2020 da Arci Torino e che ora è diventato anche in Arci Nazionale è un progetto che ha permesso di sviluppare uno strumento grazie anche alla consulenza di alcuni partner come Chefare come Wecon come Elotomorro che ha permesso lo strumento che appunto noi conosciamo come app e web app di essere funzionale ma anche bello questo progetto appunto di sperimentazione è nato per rispondere a degli obiettivi per rispondere a degli obiettivi molto importanti per stare al passo per rivolgersi a nuove generazioni è importantissimo già si fa ma attraverso l'app si può rivolgere a più generazioni è importante perché attraverso l'app è possibile aggiornare e allargare gli strumenti di comunicazione grazie all'app è possibile promuovere le attività e le iniziative di Arci e soprattutto semplificare le procedure di digitalizzazione di Arci ma grazie ad Arci è anche importante e grazie all'app appunto sarà possibile conoscere meglio i comportamenti culturali ora va proprio per questo la sperimentazione è partita su una sperimentazione locale è stata prima prototipata su un territorio locale che è appunto Torino e dopo due anni di prototipazione siamo arrivati a parlare con diversi territori e comitati e appunto ora prototipiamo su scala nazionale è importante parlare di obiettivi ma è importante parlare anche dell'app come appunto uno strumento che accompagna la tessera è uno strumento digitale la tessera è uno strumento di partecipazione democratica ma ci tengo a sottolineare questa cosa è importante sapere e voi su questo non dovete temere come associazioni e come circoli perché l'app non non permetterà di creare delle competizioni tra le stesse associazioni tutti quanti e tutte quante si devono sentire libere di associarsi e di iscriversi a qualsiasi associazione Arci altra cosa molto importante è mai più data entry quello che ho sentito frequentando un po' di circoli a Torino appunto quando si prototipava quando si testava l'app era finalmente che significa finalmente grazie appunto all'app si avranno dei dati più accurati più affidabili grazie proprio al fatto che le socie stesse compileranno l'applicazione finalmente significa che appunto si cercherà anche di semplificare la procedura di digitalizzazione ovviamente ci sarà sempre IDRA che sarà il punto di riferimento e che comunicherà con l'app e con la web app vado avanti andiamo nello specifico come funziona vi ho parlato di app ma ovviamente si parla anche di web app perché perché è importante parlare alle socie e ai soci ma è importante parlare anche alle associazioni e quindi l'app è ovviamente una parte del progetto ma c'è anche la parte di web app che comunica con l'app questo è diciamo un teaser dell'applicazione come potete vedere è una bella applicazione questo l'ho detto anche prima funziona così quando si entra nell'applicazione si ha subito quando ci si iscrive all'applicazione e si registra appunto si ha subito la tessera la tessera digitale che appunto in questo momento vedete la tessera dell'anno corrente con un QR code accanto siano le notifiche è uno strumento molto importante perché in realtà è lo strumento di comunicazione più diretto che si ha in questo momento ed è io consiglio di non abusarlo perché appunto è una notifica detta appunto push cioè arriva direttamente a tutte e a tutti i soci ed è importante perché si ha una comunicazione immediata allo stesso tempo all'interno della UOM potete vedere le attività le attività sono molto importanti perché appunto sono raggruppate in categorie proprio per questo perché aiuta la ricerca delle soci e i soci degli attività presenti all'interno del circolo arci non solo territoriale qui non si parla della città di riferimento ma a livello appunto nazionale questo per noi è la grande rivoluzione arrivo alla conclusione che in realtà appunto in realtà meriterebbe molti più minuti la grande rivoluzione è la rivoluzione della funzione esplora è molto importante perché questo permette di far conoscere le socie ai soci dove ci si trova di conoscere il territorio di conoscere appunto quello che dicevamo prima i presidi di conoscere le attività che avvengono non solo nel proprio territorio ma anche in base agli orari e questo è possibile perché attraverso la geolocalizzazione ma anche solo digitando appunto il nome della città o il nome dell'associazione del circolo è possibile vedere cosa c'è intorno è possibile rispondere a cosa faccio stasera o cosa farò domani ovviamente impostando il filtro degli orari è possibile appunto digitare il numero il nome del circolo appunto ma è importante perché attraverso la mappa attraverso la mappa io posso andare alle attività posso assistere a un concerto ma allo stesso tempo posso andare all'interno di un circolo e stare al circolo non fare niente ma sentirmi comunque accolta le attività appunto come vi dicevo prima all'interno della mappa è possibile poi entrare all'interno dell'attività e vedere cosa succede tutte le informazioni e avere anche una descrizione concludo che appunto questa è la schermata molto importante del vero strumento ovvero il QR code grazie al QR code si potrà verificare la validità della tessera e sarà appunto collegata ad ogni tessera e diciamo questa è la grande rivoluzione e la grande digitalizzazione io vorrei concludere con facendo gli ultimi diciamo gli ultimi due punti che sono l'app è uno strumento aperto ed è in continua evoluzione io sono qui a parlare oggi come community manager perché il mio ruolo sarà anche quello di accogliere e di raccogliere i vostri suggerimenti quindi io ci tengo ovviamente che ci sia un confronto sin da subito e noi creeremo delle opportunità di confronto con i vari comitati che hanno già aderito all'iniziativa inoltre inoltre l'app la web app è uno spazio digitale è uno spazio digitale di proprietà dell'Arci e quindi in continua evoluzione concludo dicendo che l'app è uno strumento semplice che ci permette di raccontare insieme una storia la storia di ogni giorno la storia di Arci vi aspettiamo all'app all'interno dell'app grazie e buon congresso grazie Marilu si chiamo Maso Notarianni e si prepara Davide Giove buonasera a tutte e tutti cercherò di essere breve perché ci aspetta la Statuto Night e poi soprattutto perché per una volta sono d'accordo praticamente con tutti gli interventi che mi hanno preceduto e quindi non voglio ripetere cose già dette allora ovviamente voglio ringraziare per prima cosa Daniele il gruppo dirigente che io credo ha saputo davvero cambiare il passo alla nostra associazione tra l'altro in un momento difficilissimo ha cambiato il passo ha cambiato il clima e il clima che c'è in questo congresso lo dimostra questo congresso è un congresso bellissimo veramente proprio bello direi forse ancora di più è un congresso straordinario stiamo tornando a parlare del mondo a parlare di noi dentro al mondo a parlare del nostro agire per cambiare il mondo cioè questa è la priorità che ho sentito negli interventi di questi giorni di fronte al disastro politico di questo paese che è abbastanza evidente a tutti mi spiace dirlo non ho sentito non abbiamo sentito parole interessanti lo diceva anche Monica prima dai politici che sono venuti a salutarci il primo giorno del nostro congresso non sono stati mica tanto bravi come ha detto Anselmo un altro giorno peraltro se fossero stati bravi non saremmo in questa situazione devastante in cui siamo non sto a riprendere l'elenco delle cose terribili e spaventose che questo governo ha messo in fira con i suoi provvedimenti in tanti lo hanno ripetuto io sono assolutamente d'accordo sono tutti provvedimenti programmatici che guardano al futuro non solo a quello che mirano ad ottenere nello specifico sono provvedimenti figli di una cultura e quindi come noi come possiamo reagire io credo come ci hanno insegnato le compagne partendo da noi ripartendo da noi perché siamo tanti perché siamo belli perché siamo in crescita perché siamo ovunque sia con i circoli territoriali con le case del popolo che con i circoli tematici e le associazioni e perché sappiamo sappiamo andare di bolina meglio del mio amico Giovanni Soldini andare di bolina significa andare contro vento ripartendo da noi perché facciamo socialità lo abbiamo detto perché siamo un popolo perché siamo insieme al popolo che si ritrova nei nostri luoghi per sconfiggere quella cultura dell'individualismo scusate cultura dell'individualismo è uno simoro ma insomma per sintesi la chiamo così che permette al peggiore capitalismo della storia perché mai come oggi ci sono così tante diseguaglianze mostruose così grandi e così diffuse in ogni campo non solo in quello della ricchezza economica ma in quello di genere in quella di razze scusate questo orrendo termine che uso per far sintesi differenze tra i popoli e con queste questo individualismo permette a questo capitalismo di sopravvivere alle sue crisi ogni volta diventando sempre più violento e sempre più feroce oggi colpisce il reddito di cittadinanza lo abbiamo detto in tanti perché non solo perché da sempre i ricchi fanno la guerra ai poveri ma perché da sempre e da quando esiste il capitalismo la tendenza è quella di colpire colpire il più forte possibile con quanta più violenza possibile il potere contrattuale dei lavoratori e oggi non solo quello dei lavoratori anche quello di chi vorrebbe lavorare però vorrebbe lavorare con un minimo di dignità e con uno stipendio decente togliamo il reddito di cittadinanza e tanti e tanti saranno costretti a piegare la testa per una miseria senza contratto senza nessun tipo di garanzia lo ha detto Landini lo ha detto Pagliarulo lo ha detto Marcon è stato il filo rosso di quasi tutti gli interventi delle compagne e dei compagni intervenuti il fascismo che è lo strumento del capitalismo come ci ha ricordato ancora Anselmo è lo strumento che il capitalismo usa per rispondere alle sue crisi si combatte con la socialità stando insieme costruendo un mutualismo facendo cose collettive facendo cultura e ricreazione per una rinnovata idea di uguaglianza anche questa come ha detto Andrea Polacchi che dobbiamo praticare a partire da noi l'Arci ha resistito alla crisi delle organizzazioni collettive di massa del novecento e anzi ha saputo non solo sopravvivere ma reagire perché i circoli hanno reagito sperimentando innovando e rinnovandosi e soprattutto divertendosi appassionandosi ridendo sorridendo innamorandosi facendo l'amore e costruendo conflitto questo congresso non è la dimostrazione in tante e tanti questo abbiamo raccontato e sono certo che da un congresso così bello non potrà che nascere un altrettanto bel gruppo dirigente al quale anch'io come Filippo Miraglia incredibile ma vero chiedo di investire sullo sviluppo associativo perché le nostre strutture di base sono la nostra forza le nostre strutture di base saranno più forti nell'indispensabile costruzione del conflitto se questo futuro gruppo dirigente darà come sono certo che sarà una forte identità alla nostra organizzazione una forte identità culturale e politica che dobbiamo imparare a rappresentare perché si torni a portare con orgoglio fierezza e felicità e anche divertimento la tessera dell'Arci alla faccia dell'annonaria e di chi la giudica un biglietto di ingresso investire sullo sviluppo associativo e sulla capacità di rappresentare l'Arci vuol dire costruire una nuova capacità organizzativa quindi e chiudo come diceva Gramsci un tempo organizziamoci perché abbiamo bisogno di tutta la nostra forza e come si legge oggi sul muro di un centro sociale di Bologna organizziamoci perché vogliamo una vita bella in un mondo bello buon vento a tutte e tutti grazie Maso interviene Davide Giove Arci Puglia e si prepara Carlo Testini grazie cercherò di non far trovare Maso in disaccordo visto che ero in accordo con tutti quelli precedenti il momento storico che viviamo che è veramente storico non ci impedisce però di partire da un'analisi orizzontale che investe un periodo ormai medio che affonda forse le sue radici nella crisi del 2008 e del 2009 che ha stravolto le nostre comunità e ha fatto sentire a tutti evidentemente i morsi causati da un sistema economico che ci eravamo sforzati di condannare e lì nasce l'analisi che oggi facciamo che ci porta a dire che nei nostri territori registriamo la disaffezione alla partecipazione troppo spesso diciamo questa cosa ma la disaffezione è alla partecipazione per come l'abbiamo intesa fino ad oggi l'analisi che ci porta a dire che la lotta per i diritti capita alle nostre latitudini immagino che capita anche alle vostre ad un certo punto si trasforma per i morsi della fame nella lotta contro i diritti vi posso raccontare di una città della Puglia nella quale in un quartiere in cui normalmente ai commercianti si bussa per chiedere il racket non c'è mai stata una raccolta di firme contro l'estorsore non c'è stata una raccolta di firme contro il mafioso non c'è stata una raccolta di firme contro una serie di storture del quartiere c'è stata una raccolta di firme quando una mamma con figli è stata accolta con un progetto Sprar in un appartamento lì hanno raccolto le firme cioè si lotta non per allargare i propri diritti ma si lotta per restringere quelli degli altri perché così ci sentiamo più sicuri magari di tutelare i nostri l'analisi che ci porta a dire che siamo di fronte alla resa di fronte all'aumento delle diseguaglianze io per fare quello che faccio nella vita ho potuto studiare ho studiato praticamente gratis se rinascessi oggi nelle condizioni economiche in cui era la mia famiglia quando ero un bambino probabilmente non farei oggi quello che ho fatto e quando guardo i miei alunni a scuola non so come spiegarli non so come dirlo a loro e alle loro famiglie e mi sembrano spesso troppo spesso tutti quanti arresi e poi c'è un'altra analisi che troppo spesso facciamo e che dobbiamo smettere di fare quella che ci guarda un po' così ci vede un po' stupiti di fronte all'emorragia che continuamente colpisce le regioni del sud e quindi anche la Puglia l'emorragia dei più giovani noi ci guardiamo io ho 40 anni parte della nostra delegazione tra i 30 e i 40 ci guardiamo tra di noi come dei reduci io non ho fratelli non ho cugini non ho compagni di scuola sono tutti andati via cioè mi sveglio la mattina e sono solo e quando incontro Ciccio Simona Vincenzo Tommaso davvero ci guardiamo tra noi come dei reduci questo è il quadro nel quale ci ha colpito la pandemia due anni fa e in questo quadro rischiavamo davvero di venire travolti per quello che era anche il nostro livello di infrastrutturazione abbiamo reso abbiamo resistito abbiamo ci siamo ancora siamo vivi lo siamo in tutta Italia lo siamo anche nelle nostre regioni meridionali lo siamo anche in Puglia la provincia da cui provengo è la provincia di Taranto una provincia difficile ma intrigante e in provincia di Taranto nel 45% dei comuni c'è almeno un circolo Arci che è un buon punto di partenza per quel dato che ci diceva Walter nel suo intervento provare ad arrivare ad un circolo in ogni comune però è stata dura resistere ed era un dovere di cura che noi avevamo che dovevamo manifestare alle madri e ai padri che ci hanno lasciato l'Arci e che l'hanno fatta arrivare nel nostro territorio a partire dal 59 cioè due anni dopo la Costituzione di Firenze in che condizioni facciamo l'Arci proviamo a farla provando a coniugare lo diciamo con una formula che ormai sta diventando quasi un cliché provando a coniugare sussiderietà e mutualismo diciamo oggi in realtà proviamo attraverso diversi strumenti e diversi approcci ad occuparci di quello che il codice ci fa chiamare interesse generale e nel fare questo abbiamo capito alcune cose che voglio condividere qui con voi oggi abbiamo capito che il sistema pubblico il sistema pubblico non è necessariamente statalismo è centrale ma non è necessariamente statalismo e richiede prossimità e quella prossimità non si trasforma necessariamente in servizi onerosi si trasforma in soggetti di prossimità che insieme allo Stato contribuiscono a creare un sistema abbiamo capito che l'agevolazione fiscale dei nostri circoli soprattutto di quelli che si occupano delle attività tradizionali non è una premialità non è il rovescio della medaglia delle condizionalità che il codice ci impone ma è il riconoscimento di quello che tutti i giorni facciamo ribadirlo ribadirlo è difficile è difficilissimo ribadirlo chiamandosi arci al sud certe volte è impossibile vado alla conclusione e permettetemi di focalizzare con voi soltanto un tema che mi sta particolarmente a cuore quello di trattenere i giovani noi sentiamo fortemente il bisogno al sud abbiamo bisogno di trattenere i nostri giovani io sono tornato in Puglia ad un certo punto potevo fidere ovunque sono tornato in Puglia perché avevamo fatto il circolo cari compagni e cari compagni avevamo fatto il circolo dell'Arci e con l'Arci a partire dal mio paese sentivo di poter rendere ciò che mi stava intorno migliore con l'Arci ho denunciato il nuovo caporalato che si stava fermando il caporale era il mio vicino di casa e non avevo paura non ho paura di incrociarlo per strada con l'Arci ho portato la musica nei quartieri dove c'erano gli anziani soli dove c'erano i bambini che non avevano mai ascoltato musica dal vivo e in uno di quei quartieri in una piazza abbandonata oggi leggiamo sulla targa l'intitolazione a ton benetollo pacifista convincemmo un sindaco forzista all'epoca perché con i ragazzi del circo avevamo messo a posto un parco dedicato a Baden Powell e quindi ci sembrava giusto replicare con Arci ho vissuto le connessioni più belle e ho imparato tanto l'ho imparato nel mio circo l'ho imparato nel mio comitato l'ho imparato grazie alla grandissima esperienza della presidenza nazionale di cui ringrazio questa associazione mi avete fatto un dono incredibile l'ho continuato ad imparare in questi giorni nella commissione statuto oggi però sento sentiamo il bisogno di cominciare a trasmettere cominciamo a sentirci vecchi abbiamo bisogno di trasmettere abbiamo bisogno di invertire una narrazione chiudo davvero la narrazione che secondo la quale il bisogno del sud è quella di trattenere i giovani qualificati laddove per qualificati si intende quelli più abili ad un lavoro meglio retribuito no no noi abbiamo bisogno di trattenere delle menti che siano in grado di ridisegnare le proprie comunità per questo non abbiamo bisogno attraverso i circoli di creare lavoro noi abbiamo bisogno di creare legami e di spingere i ragazzi e le ragazze ad innamorarsi attraverso l'arci della nostra terra per fare questo useremo tutti gli strumenti di cui abbiamo disposizione a partire dall'abusato articolo 55 del codice ma non attraverso la coprogettazione attraverso la coprogrammazione che noi ci auguriamo venga pronunciata non insieme come se fosse una sola parola insieme alla coprogettazione ma con un respiro in mezzo coprogrammazione e di questo ci interessa occuparci e ci interessa insegnarlo ai più giovani respiro coprogettazione che magari lasceremo anche ad altri vi saluto e vi lascio con un invito per fare tutto questo abbiamo bisogno di uno sforzo infrastrutturale abbiamo bisogno di mettere a sistema le nostre energie migliori e di poterle donare a tutto quanto il resto del paese per fare questo abbiamo bisogno di un'arci che sappia infrastrutturarsi mi sembra che questo congresso l'abbia ribadito più volte e anche questo ci contribuisce a renderci un'immagine di un congresso straordinario grazie Mentre aspettiamo l'arrivo di Carlo Testini vi volevo ricordare che la cena sarà servita qui all'auditorium alla fine degli interventi quindi siamo agli ultimi quattro interventi si tratta di una cena veloce e poi dobbiamo riprendere i lavove alle nove e mezza con la restituzione della commissione statuto quindi vi raccomando grazie Carlo si prepari Alberto Campailla eccoci qua eccoci qua finalmente dopo avervi ascoltato tutti dopo avervi inserito nella scaletta per tre giorni che non ne posso più sono qui sono qui con voi e devo dire che insomma cercherò di essere molto breve non sarò così serio come chi mi ha preceduto questi sono dei pupazzetti che degli amici dell'Arci mi regalano ogni volta che facciamo uno strato della cultura e voglio iniziare con questi perché devo dirvi che io ho sempre pensato che l'Arci fosse veramente un luogo fantastico perché si gioca perché è un luogo di ricreazione come hanno detto in molti ma perché è anche un luogo di affetti e ringrazio sempre i compagni e compagni che mi fanno sentire felice di far parte di questa straordinaria comunità anche con questo spirito devo dire la commissione cultura nazionale che ho coordinato negli ultimi mesi confrontandosi con tantissimi di voi anche fuori dalla commissione ha prodotto davvero un sacco di proposte e anche riflessioni molto interessanti su circoli e comitati il risultato di questo lavoro lo trovate in un documento che sta nel drive del congresso non so se siete riusciti a leggerlo quindi ve lo leggo io sono 20 pagine no non è